Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove si arriva ai piedi della pazzia? Dove si arriva ai piedi della pazzia? La prova di un grande agone Prima puntata Guardate maestro Passu oltre le fronde La pazzia Che splendore La vedo azzo La vedo Che bella mattina di fine novembre Come sono uniti delle montagne innevate Mio Dio Sembra che la locca si prolunghi fino al cielo Ma questa è l'opera di un gigante abituato a camminare tra la terra e le nuvole Non a strisciare come noi Prende il tuo stupore Frena O a spingere il tuo sguardo tanto avanti Finirai di cadere di croppa dall'asinello tuo Allora si E striscerai E buona bestiaccia buona Oh brava così D'accordo tenterò di obbedirvi Ma io non ho mai visto un'apparizione simile Davvero? Sì questa è la vera città del signore Osservate quelle torri quelle mura Nemmeno Castellursi non divenarti così o finirai per spezzarti l'osso del collo Ma voi non ne siete avvaliato Il mio cuore è diviso tra timore e meraviglia e voi Voi cosa vi detta dentro una siffatta visione? E' una abbazia ricca a quanto sembra Penso che a codesto abate piaccia molto apparire bene nelle pubbliche occasioni Cosa intendete dire? State gugliendo Chi è qua? Chi è qua? Non ci sfuggerà da un mare di toronzino Meno strepiti e meno confusione che così Non concludete proprio niente Ah due cavalieri Due cavalieri Forse loro l'hanno incontrato Ah chi saranno? Chi saranno? Chi saranno? Non lo so Devo di saperlo Molto benvenuto signore Se siete come penso Guglielmo da Baskerville Sì sono io E voi dovete essere il cellario di codesta abbazia Benedicamos domine Benedicamos domine Benedicamos Per servirla fratello sono Remigio da Varaggio Apprezzo la vostra cortesia Per salutarmi avete interrotto l'inseguimento del cavallo L'avete dunque visto il cavallo? Assolutamente no Ma allora... Su diglielo anche tu Azzo Lo abbiamo forse visto? No maestro no Lo confermo no Su su Remigio Ora non guardatemi con quell'aria stupita Vi dirò di più Il vostro Brunello Cosa? Sì il vostro Brunello Arrivato al deposito di stame Si fermerà ve lo assicuro Non può essere che là Ma come fate a sapere che di nome fa Brunello? Via via È evidente che state cercando il cavallo preferito dall'abbate Il miglior galoppatore della scuderia Nero di pelo Alto cinque piedi Alla cosa suntuosa Come fate a saperlo? Dallo zoccolo piccolo e rotondo Dal capo minuto Dalle orecchie sottili Ma dagli occhi grandi È andato a destra vi dico Su Remigio Affrettatevi Andiamo Andiamo Su Su Che uomo di straordinarie abilità Il mio maestro Possiede capacità Dal limite della stregoneria Che aspetto particolare Altissimo e magro Naso adunque Affilato Sopracciglie folte Bionde Credo anche che abbia già superato Cinquanta primavere Maestro Perché nella sacca portate un orologio Un astrolabio E un magnete? Queste sono le mie macchine meravigliose Giovane Azzo Ruggero Bacone Che io venero quale maestro Ci ha insegnato che il piano divino Passerà un giorno per la scienza delle macchine E un giorno per forza di natura Si potranno fare strumenti di navigazione Per cui le navi vadano unico omine reggente E vi saranno carri Ocine animali moveantur Alcun'impetu inestimabili E strumenti piccolissimi Che sollevino pesi infiniti E veicoli che permettano di viaggiare Sul fondo del mare L'abbiamo trovato Brunello L'abbiamo trovato Avevate ragione Guglielmo Si L'abbiamo trovato Dove ci avete indicato voi E ora Se me lo concedete Vi precederò Per avvisare L'abate del vostro arrivo Maestro Voi avete il dono In scuotermi Fin nei precordi Basta Marsilio Basta Questo mio giovane figlio Azzo non può più seguirmi Ovunque mi porti la guerra Forse avete ragione Già Vivere chiuso in un chiostro Non farà di lui un uomo Non conoscerà mai la vita Capitano Io conosco un uomo assai bizzarro Molto saggio Un uomo di immense conoscenze Anche se bizzarro A volte E chi sarà mai così? Guglielmo da Baskerville In inglese Sì Sono convinto che lui Riuscirà a scuotere Il vostro arz Fin nei precordi Se prima Non tufferà nell'inferno Ma come avete fatto a sapere Di quel cavallo? È tutto il viaggio Che tento di insegnarti a leggere A leggere? Sì, sì A riconoscere le tracce Con cui il mondo ci parla Come un grande libro Omnis mundi Creatura quasi libera Et victura nobis Est in speculum Il suo precettore corre troppo O che la sua pazienza Non è poi così santa Un altro in sfacciataggine Riuscirai a primeggiare facilmente Eh, non sono poi così carente in tutto Questa è una cosa che da voi Ho appreso in fretta D'accordo maestro Ma bestiaccia Diciamo che mi pento E che vi supplico umilmente Come diavolo avete fatto a capire Cosa hai visto al trivio qui sotto? Non saprei La neve È dall'alba che non vediamo altro che neve Già Ma quella neve lì Regava in fronte di zoccoli piccoli e rotondi Zoccoli che puntavano a sinistra E mostravano un galoppo di grande regolarità Non quello di un animale imbizzarrito E allora? Ricordi là dove i pini formavano una grande tettoia? Sì Sembrava quasi che fossero discesa la notte Bene E rammenti i rami? Alcuni erano stati spezzati di fresco Sì mi pare Ma a che altezza erano rotti? Era buio E la mia bestiaccia tirava come uno sesso Esattamente A cinque piedi E poi Quel cespuglio di More subito dopo Sì Ebbene Tratteneva alcuni crimi nerissimi E sai perché? Perché il cavallo ha svoltato a destra Strusciandosi contro E il deposito di stame? Dal tornante di sotto Non abbiamo forse veduto lassù in alto La bava dei detriti scendere a strapiombo Dal torione orientale? Sì maestro E allora Così come era disposto il trivio Il sentiero non poteva che condurre là Ma voi avete anche parlato di capo piccolo Di orecchia guzze e di occhi grandi Ma io ignoro del tutto Se quel destriero Possegga tale qualità Allora 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 Isidoro di Siviglia Nel dettare i canoni Della bellezza di un cavallo Afferma che così deve essere Ma credi tu che se quel cavallo Non fosse stato il migliore Della scuderia A inseguirlo Si sarebbe incomodato Addirittura il cellario Mi complimento maestro Tuttavia Ciò non spiega ancora In qual modo Siete riusciti a indovinarne il nome E che lo spirito santo Ti dia più sale in zucca Di quello che hai figliolo mio Così sia Quale altro nome gli avresti dato Se persino il grande Buridano Che sta per diventare rettore a Parigi Dovendo parlare di un bel cavallo Reputò che Brunello Fosse l'appellativo più naturale Guarda laggiù Sulla soglia del portale Labate? Si Abbone E con lui due novizi Che sorreggono un bacile d'oro L'abate mi laverà le mani con la sua acqua Mi bacerà sulla bocca Sulla bocca? Si Così usa qui Poi offrirà a un francescano Il suo santo benvenuto Benedettino E io maestro? Oh di te si occuperà certamente il cellario Mentre noi due Io e l'abate Naturalmente ci scambieremo Eccesiali Cortesie Pax Bobisque E con spirito tuo Ecco Guglielmo Asciugatevi qui La notizia della vostra fama vi ha preceduto Oh anche la vostra abone E infatti per me una gioia grande Mettere piede nel monastero Della magnificenza vostra La cui gloria ha già da tempo Ho valicato queste montagne Penso che i nostri giovani novizi Possano portare via il bacile Andiamo Sì andiamo Grazie La vostra gentilezza è stata di molto apprezzata Questa è per voi Mi recate una lettera con tanto di sigilli imperiali Oh vengo come pellegrino nel nome del signore E come tale voi mi avete reso onore Dovere Avete ragione Vengo anche a nome del nostro signore su questa terra L'imperatore E a nome suo vi ringrazio per la vostra accoglienza Io penso di conoscere il contenuto di codesta messiva La vostra venuta è stata preceduta da altre Di altre confratelli È difficile cogliere un abate benedettino di sorpresa Ma voi l'avete fatto Avete fornito al mio cellario Notizie tanto certe di un cavallo che non avevate mai visto Volta vostra La vostra perspicacia di inquisitore vi ha preceduto Voglio dire Quei processi in Inghilterra E in Italia L'abate di Farfa vi ha dunque scritto Lo ammetto Molto mi è piaciuto sapere che in numerosi casi Voi avete deciso per l'innocenza dell'accusato Sì Così è stato Credo che molte volte il maligno Possa spingere le sue vittime a fare il male In modo tale che la colpa Ricada su un giusto Godendo del fatto che il giusto Venga bruciato in luogo del suo succubo Spesso gli inquisitori Per dar prova di solerzia Strappano ad ogni costo una confessione all'accusato Magari pensando che sia buon inquisitore Solo colui che conclude il processo Trovando un capro espiatorio Anche un inquisitore Può essere mosso dal diavolo È possibile I disegni dell'Altissimo sono imperscrutabili E non sarò certo io a gettare l'ombra del sospetto Su uomini così benemeriti Certo Oh ma voi sarete stanque ed affamato Io vi trattengo qui al gelo E voi mi state onorando Su voi altri Andate Preparate vino 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 Cacio 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 Olive 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 Pane 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 E della buona uva passa Uva passa Uva passa In modo che frate Guglielmo possa subito goderne nella sua cella Abate Ora ditemi Che cosa vi fa credere che Avete allontanato tutti Siamo soli Avete ragionato di inquisitori e di maligno E' chiaro che qualche cosa vi turpa Spesso è indispensabile provare la colpa di uomini che dovrebbero eccellere per la loro santità Se un pastore falla deve essere isolato dagli altri pastori Ma guai Guai se le pecore cominciassero a diffidare dei pastori Pecore, pastori, uomini santi Voi siete uomo acuto per scoprire E uomo prudente per coprire Siete voi ad affermarli Bisogna eliminare la causa del male senza che il colpevole venga ditato al pubblico disprezzo Abate Le vostre parole sono sufficienti Voi pensate Ditemi Chi è stato assassinato? Il nome della rosa Di Umberto Eco Prima puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Luca Della Bianca Diego Verdigiglio Mario Bombardieri Michele Carli Bruno Governale Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove si fa la conoscenza Del mostruoso Salvatore Del mostruoso Salvatore E del Santo Ubertino da Casale Terza puntata Pazzo 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 viene fuori Mi senti? La parte se ne è andato Maestro Sono sconvolto Un monaco che uccida un monaco in questa santa abbazia Vedo che non ti sei perso una parola Maestro ho imparato molto da voi questa volta E cosa ne hai dedotto? L'ultimo piano La biblioteca Se li conosco bene È là che prima o poi i nostri passi si dirigeranno La vostra curiosità è sempre stata superiore a divieti E sa Dovrò corazzarmi di molta prudenza Ricorda che ho una missione Questo delitto non dovrà distrarmi dal mio vero fine Molte abbazie abbiamo visitato venendo qui Ma ancora non ho capito qual è la vostra missione A suo tempo capirai Tra qualche istante incontreremo un frate santo Ubertino Ubertino? Ma chi è? Almeno questo potete dirmelo Di modo che io non faccia la figura dell'allocco presentandomi al suo cospetto Possiedi ottime e funzionali orecchie Molto già sai Ma vorrei sapere molto molto di più Dunque Il concilio di Lione Salvando l'ordine francescano contro chi lo voleva abolire Gli concesse altresì la proprietà di tutti i beni che aveva in uso Ma nelle Marche alcuni frati si ribellarono Perché? E ritenevano che lo spirito della regola fosse stato definitivamente tradito In che modo? Per loro un francescano non doveva possedere nulla Né personalmente, né come convento, né come ordine Finì che furono messi in prigione a vita Non mi pare che predicassero contro il Vangelo Da loro nacque il movimento degli spirituali E Ubertino ne divenne il testimone più ascoltato Persino dal ricchissimo cardinale Orsini che lo volle come suo capellano Ma papà Giovanni non definì fraticelli questo anti la mala pianta dell'eresia E non li fece perseguire dall'inquisizione e ne mandò tantissimi a rogo Infatti, predicare che il Cristo e gli Apostoli non avevano avuto alcuna proprietà Né individuale né in comune Minava alla base l'autorità della Chiesa Che si crogiolava nella sua opulenza E Ubertino? Come si salvò? Orsini lo protesse fino allo stremo Papà Giovanni non poteva certo dispiacere Un cardinale tanto potente Anche se lui lo aveva mandato proprio nella sua avignone A difendere la causa dei francescani Gli ha concesso di abbandonare i francescani Per entrare tra i benedettini E continuare così la sua opera Volete dire che ha abbiurato? Già mai! Ha solo cambiato saio Dentro è rimasto il più francescano dei francescani E poi? E poi la sua fortuna tramontò E dovette fuggire da Avignone in seguito come eretico E ora si nasconde qui Non cena con gli altri E se ne sta quasi sempre da solo in chiesa Ma quando lo conoscete? È per lui che siamo qua Adesso basta con le domande Se vorrà, te ne parlerà lui stesso Ora andiamo Il presente e il passato ci aspettano Maestro, la mia mente vacilla di fronte a tanta bellezza e potenza La chiesa, il portale, la pietra istoriata Folgurano il mio sguardo E guarda l'assiso sul trono Le quattro terribili belve accovacciate intorno A ruggire le sue lodi Tra arcobaleni di smeraldo e mari di cristallo I ventiquattro vegliardi Corpi e membri abitati dallo spirito Rapiti in estasi Mi piace quest'aquila Una femmina Ecco così divatato Le ali aperte Succhiata da serpente Poi i demoni Tutti gli animali Del bestiario di satana Fauni Esseri dal doppio sesso Sirene Arpie Incube Minotauri Chimere Che orrore Mi sento tremare Come se fossi bagnato dalla pioggia gelida d'inverno Penitenziate Ma cos'è questa cosa tremenda Ma cos'è quest'essere che abbiamo qui davanti Non può essere un monaco quello E' un essere repellente visitato dal diavolo Rapide quando Draco venturo s'est Arrude gare Ma basta così adesso Ma chi sei tu? Finite in ziagite La morte è super nos Prega che bene lo fa passanto a liberar nos Amalo de todas le peccata Il cavalliavolo Ma che stai dicendo? Salvatore Non est incipiens Bonum monasterium Et acui se magna E se priega Dominum nostrum Et il resto vale un figo secco E tamen No Dunque il tuo nome è Salvatore Perché hai detto penitenziagite? Domine frate Magnificentissimo Iesus venturus est Et gli uomini debbent facere penitenzia No Sei venuto da un convento di minoriti? Dimmi Salvatore Sei vissuto tra i frati di Santo Francesco Lo intendo Hai conosciuto i cosiddetti apostoli Vabbè vetro Vabbè vetro Vabbè vetro Maestro Perché è fuggito così? Per di più segnandosi numerose volte Cosa le avete chiesto? Non importa Te lo dirò dopo Verranno profeti vestiti di sacco E predicheranno con esempio E con la parola Upertino Che mi chiama? Chi sei? Guglielmo Fratello mio carissimo Quanto tempo Ma ti riconosco ancora Sì Quanto tempo Diciotto lunghi anni E quante vicende Quante prove che il Signore ci ha imposto Sai Guglielmo Erano sul punto di uccidermi Ho dovuto fuggire in nottetempo Chi ti voleva morto? Tutti La Curia Hanno tentato di assassinarmi due volte Disserò addirittura Che alcune parti della dichiarazione Usata da Ludovico Imperatore Per accusare d'eresia Papa Giovanni Riflettevano le mie idee Che follia Mica tanto follia Le idee gliele avevo date io Traendole dalla tua dichiarazione di Avignola Tu? Ma allora mi dai ragione Erano buone idee per l'imperatore in quel momento Tu non ci credi veramente, vero? Racconta come ti sei salvato da quei cani Oh, Guglielmo, non cambiare discorso Tu sei davvero un grande filosofo Se solo avessi voluto Cosa? In Umbria, ricordi Quando ci vedemmo l'ultima volta Chiara da Montefalco Fu un premio del cielo che io Proprio io Dovessi indagare sui suoi miracoli E proclamarne la santità Le folle E tu eri laggiù I suoi segreti E l'hai fatto arrestare Per questo chiesi di essere sollevato dall'incarico Erano eretici Pseudo-apostoli Che puzzavano dello zolfo di fraddolcini Erano amici di Chiara Non sfiorare la sua memoria Nemmeno con un'ombra Sei uno spirito troppo ardente Forse troppo io mi sono abituato a Oxford Dove anche l'esperienza mistica È di tutt'altro genere La lussuria è sempre lussuria Anche qui, tra queste mura consacrate alla preghiera Cosa vuoi dire? Certo, tu sai del macabro rinvenimento Sì, me ne ha parlato l'abate E mi ha chiesto di aiutarlo a far luce Allora, spia Scava Guarda con occhio di lince In due direzioni La lussuria E la superbia Se sai qualcosa No Ma qualcosa c'era Di femminile E dunque di diabolico In quel giovane che è morto Cosa vuoi dire? Egli aveva occhi di fanciulla Che cerca commercio È la superbia Ah, della superbia della mente È pieno questo monastero Consacrato all'orgoglio della parola All'illusione della sapienza Assolvetevi padre se potete Ho commesso gravissima e postosa Peccato Peccato Maestro Maestro Tremo dalla paura O meglio mi sento morire dalla paura Se sai qualcosa Aiutami Non so nulla Non c'è nulla che lo sappia Lascia parlare il tuo cuore Interroga i volti Non ascoltare le lingue Sofia, perché? Dobbiamo parlare di queste tristezze E intimorire questo nostro giovane amico Grazie padre Dimmi piuttosto di te Che cosa hai fatto dopo di allora? Sono passati... Diciotto anni Sono tornato nelle mie terre Ho studiato ancora ad Oxford E ho studiato la natura La natura è buona perché è figlia di Dio Dio deve essere molto buono Se ha generato la natura Ho ritrovato amici molto sacci Poi ho conosciuto Marsilio E così sono stato conquistato Dalle sue idee sull'impero Sul popolo Su una nuova legge per i regni della terra E veni incluso in quel gruppo di nostri confratelli Che stanno consigliando l'imperatore Sono così felice di ritrovarti Ubertino Tra qualche giorno potrei esserci di immenso aiuto Quando arriverà anche Michele da Cesena Lo sai Sarà uno scontro in mano Credimi, Guglielmo Non avrò molto da dire Più di quello che dissi cinque anni fa ad Avignone Chi verrà con Michele? Alcuni che furono al capitolo di Perugia Arnaldo da Quitania Ugo da Newcastle Chi? Scusami, talvolta uso la mia lingua Anche se parlo un buon latino Volevo dire Ugo da Novo Castro Guglielmo Alwig E poi da parte dei francescani avvignonesi Potremmo contare su Girolamo Sul vescovo di Caffa Un imbecille, se non proprio un traditore Forse su Berengario Talloni E buona grazia da Berkeley E chi saranno i duri di cuore Che sosterranno le posizioni della curia Immagino Lorenzo De Qualcuno Un uomo maligno Jean D'Ano Costui è sottile in teologia Guardatene come del diavolo E infine Jean D'Abon Se la vedrà con Berengario Talloni Sì Voi di Oxford Vi detesto quando fate così Credimi, Guglielmo Non c'è proprio nulla di divertente In una congiura Che ha lo scopo di uccidere un ordine Che è il tuo E che nel profondo del cuore È ancora il mio Forse hai ragione Ah, Signore In quali mani è caduta la nostra chiesa Trasformata in meretricia Ammollita dal lusso Avvoltolata nella lussuria Come una serpe in calore Sono prossimi i giorni di Anticristo E io ho paura Il nome della rosa Di Umberto Eco Terza puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Emilio Cappuccio Loris Loddi Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove si ha un istruttivo colloquio Con Severino Lerborista Che condurrà Guglielmo e Azzo Nello scriptorium Quarta puntata Ciocco di Oxford Castigna la tua intelligenza La mia intelligenza Non ha bisogno di castigna No Impara a piangere Sui piaghe del Signore E putta via I tuoi libri Perché dovrei? Perché l'Anticristo È tra noi Dio maestro Guardate che sguardo allucinato che ha Sembra che il petto Gli battano in pazzata Gli tremano le labbra Tu veneri solo quel bacone Che vaneggia di macchine volanti Lo ammiro Non lo venero Ah Guglielmo La verità è che tu non credi Nell'avvento dell'antitriso Cupertino No No Non negare I tuoi maestri di Oxford Ti hanno insegnato A porre ciò che è razionale In cibo a tutto Capisci? È così Che hai inaridito Le capacità profetiche Del tuo cuore Vieni Giovane Avvicinati Tu sei azzo Vero? Tuo padre si batte a pisa Nelle schiere dell'imperatore Sì padre santo Io ti ho osservato Sai Tu ascolti Pensi Rifletti Questo è bene E farà sì Che tu non tragga Troppi cattivi esempi Dal tuo maestro Se mi concedete Padre santo Mi affligge un interrogativo Parla dunque Vieni 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 Chi è quel monaco Che qui fuori incontrammo Ma che sembra un animale Pare parlare la lingua di Babel Senti ragazzo Vero Guglielmo Ebbene esso è salvatore Credo di averne fatto dono A questa pazzia Insieme a Remigio C'è l'aria Sono Remigio da Varagine Volete dire Quell'uomo gioviale Un po' volgare Che inseguiva il cavallo Dell'abbate È lui Vedi Quando lasciai Il saio francescano Tornai per qualche tempo Nel mio vecchio convento Di Casale E lì trovai Altri frati in angustia Li accusavano Di essere Spirituali Sì Spirituali della mia setta Della mia setta Capisci Così mi adoperai In loro favore Ottenendo che potessero Seguire il mio esempio Dunque Salvatore e Remigio Erano tra loro Sì Poi me li sono ritrovati qui Quando arrivai l'anno scorso Ma Salvatore È vero Pare una bestia Ma è assai servizievole L'ho sentito pronunziare Penitenziagini No No Non credo Ve lo assicuro Sai giovane Alzo Come sono questi fratelli laici Gente di campagna Che hanno udito forse Qualche predicatore vagante E non sanno che cosa dicono Non mi pareva Salvatore è una bestia ghiotta E lussuriosa Ma non è contro l'ortodossia Ma io non... Il male di questa abbazia È un altro Cercalo in chi sa troppo Non in chi non sa nulla Non costruiti un castello di sospetti Su una parola È esattamente per questo Che ho smesso di fare l'inquisizione Basta Basta Ora andatemi Lasciatemi pregare È un uomo strano Se posso così a dire di parlare di un santo Ubertino è stato per molti aspetti Un grande uomo E proprio per questo ti sembra strano Sono solo gli uomini piccoli A sembrare non male Quando parlo con Ubertino Ho l'impressione che l'inferno Sia il paradiso guardato dall'altra parte Che volete dire, Guglielmo? Ubertino sarebbe potuto diventare benissimo Uno degli eretici Che ha contribuito a far bruciare Un cardinale di Santa Romana Chiesa Maestro, e quelle sculture sul portale? Lasciale stare Non guardarle più Per oggi ti hanno spaventato abbastanza Andiamo Buongiorno a voi Buongiorno Benvenuto a voi Sono Severino da Sant'Emerano Buongiorno a voi Benediciamo Sdomine Benvenuti Benvenuti Sono il padre erborista Ho cura dei Balnea Balnea? Dell'ospedale Ospedale? E degli orti Orti? Posso mettermi al vostro servizio Siete gentile, Severino Vorreste guidarci per i recinti dell'abbazia E farci arrivare in breve allo scriptorium? Eh, volentieri Sebbene coperto di neve Ho notato il vostro bellissimo orto Oh, anche in questa stagione Lo sguardo dell'erborista Vede attraverso i rami secchi Le piante che verranno E può dirvi che esse Canteranno le lodi del Signore Dal più ricco erpario mai visto Le lodi del Signore Le lodi del Signore Volete dire che anche d'inverno Crescono erbe buone? Sì, mio giovane novizio E altre mille ne tengo raccolte E pronte nei vasi che ho in laboratorio Acetosella per ricattare Rizzoma Della bistorta per le diarree No, no, avete anche piante buone Solo per mangiare Mia giovane puletra affamato Non ci sono piante buone per il cibo Che non lo siano anche per la cura Purché esse siano prese nelle giuste dosi E fatemi un esempio Così che io comprenda Le cipolle Te le conoscete, vero? Ne sono assai ghiotto Attento allora Se ne abusi danno pesantezza di capo E vanno combattute con latte e aceto E in piccole quantità? E calde, umide e poche Potenziano il coito Naturalmente per coloro Che non hanno pronunciato i nostri voti Meglio dunque per te mangiare aglio Caldo e secco E buono contro i veleni E fagioli? Producono urina e ingrassano Due cose molto buone Ma danno cattivi sogni Meno però di certe erbe Che provocano cattive visioni Quali? E quante cose vuoi sapere? Il nostro novizio vuole sapere Le stesse cose Che deve sapere solo l'erborista Se no qualsiasi sconsiderato Può andare in giro a somministrare visioni Ovvero a mentire con le erbe Se non erro Severino Per combattere le visioni Basta un poco d'urtica E non dubito che ti manchi Ma come Guglielmo? Ti interessi anche di erboristeria? Molto poco Ma una volta mi capitò per le mani Il teatrum sanitatis Di Ubu Casim de Baldac Che poi sarebbe Abulazan el-Nuktar ibn-Botlan Oppure uno Casim a limitare Mi chiedo se qui ne esista una coppia Ah delle più belle E con molte immagini di preziosa fattura C'è anche il De Plantis di Aristotele Ho sentito dire che non è veramente di Aristotele Come il De Causis In ogni caso è un grande libro Sarò lieto di avere con te Qualche onesta conversazione sulle erbe Se ti aggrada E io più di te Ma non violeremo la regola del silenzio Che vige nel nostro ordine? Oh la regola si è adattata nei secoli Alle esigenze delle diverse comunità La regola prevedeva l'allezio divina Ma non lo studio La regola è molto severa Riguardo al silenzio Ma la pazzia è innanzitutto Una comunità di studiosi E spesso è utile Che i monaci si scambino I tesori di dottrina Che accumulano Purché ciò non avvenga in refettorio O durante l'ore degli uffici sacri Bene bene Dunque avrei avuto occasione Di parlare con Adelmo da Otranto Vedo che la parte te ne ha già parlato No Con lui non mi intrattenevo sovente Adelmo passava il suo tempo a miniare Perciò non sai se Adelmo Avesse avuto delle visioni Te l'ho già detto Uso disco con molta cura Le erbe pericolose Io parlavo di altre visioni Quelle del diavolo Ah questo devi chiederlo ad altri Io non frequento lo scriptorium E allora a chi dovrei chiedere? A Venanzio da Salvemerk A Orch da Purgos E naturalmente a Perengario da Rundel Perché naturalmente? Beh Perengario d'aiuto bibliotecario Erano coetanei Sono stati novizi insieme Questo volevo dire Ah quello volevi dire Eh già Credo sia meglio che tu ci faccia da guida Verso lo scriptorium E allora Se mi volete seguire Ma come basta la cucina In fretta Scotta Avanti con quella legna Occupa quasi la settimana del primo piano Gira con quel mestolo Attento frate il severino E l'altra metà E anche voi Occupate la prefettoria Lasciate passare Attenti Siamo come in una corte Autagonale Palle Guglielmo Una sorta di pozzo Ma È immenso Ecco Vedete Sticcio di verdura Orzo Avena Segale Fiorate Crescione Lavarelli Carote E voi Che forza Con quelle lame C'è ancora metà orto Da affettare Lieviti Ancora lieviti E voi Via Con quella ciambella Spiungi la carne allo spiedo E scuoti lo fumo Gettate qua le vieche bestie Vieche ma dolcissime E se qualche buon boccone Rimanesse anche a noi Invece Invece di andare soltanto A riempire Mentre di quei monaci Ingordi Non si parlava di te Erborista mio Naturalmente Ecco Questa è la direzione Basta prendere questa scala chiocciola E salire al secondo piano Ed ecco lo scriptorium Volendovi si può accedere anche per le due scale Ben più calde Che si inerpicano dietro al forno della cucina Severino Anche se è domenica Troveremo qualcuno nello scrittorio Eh lo sapete Guglielmo Per un benedettino Il lavoro è preghiera Che ha un buona qualità Non motteggiatemi Guglielmo Per noi benedettini Il lavoro è preghiera Nel giorno del Signore Dopo gli uffici Magari non si opere di penna Ma ci si dedichi ai fruttiferi scambi Di osservazioni dotte Di consigli Di riflessioni sulle sacre scritture Ecco Vi ho mostrato la strada Adesso potete salire Potete salire Da solo E ora maestro? Prepara la tua mente Azzo E pure i tuoi occhi Una nuova orribile visione maestro Già Ma la Chia potrebbe turbarti Così come ti turbò la scultura Dell'Assiso Voi volete solo spaventarmi Guglielmo Di chi andate parlando adesso? Ma del bibliotecario naturalmente Del bibliotecario Il nome della rosa Di Umberto Eco Quarta puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Emilio Cappuccio Carlo Cartier Riccardo Reim Diego Verde Giglio Bruno Viola Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Siffra bella Il nome della rosa, di Umberto Eco. Adattamento radiofonico, in 35 puntate, di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci. Dove il profetico e cieco Horghe vede nelle miniature di Adelmo l'annuncio dell'arrivo dell'anticristo. Quinta puntata. Ma c'è da rimanere senza fiato. Ma chi sono questi? Uno scrittorio. È in mezzo. È pieno di luce. Tre enormi finestre si aprono su ciascun lato maggiore e cinque finestre più piccole traforano ciascuno dei cinque lati esterni di ogni torrione. E guarda, quelle otto finestre alte e strette fanno entrare i raggi del sole anche dal pozzo ottagonale. Mai, mai avrei immaginato una simile meraviglia. Persino in questo piccolo meriggio d'inverno Dio ha acceso questo luogo del suo splendore. Questa è la vera clarita, sazzo. Fonte di ogni bellezza e di ogni sapienza. Ho veduto molti altri scriptoria ma nessuno disposto in modo tanto perfetto. Osserva attentamente, senza destare la loro attenzione, antiquari, librai, rubricatori, copisti, studioci. Ognuno è seduto al proprio tavolo e c'è un tavolo sotto ciascuna delle finestre. Chi sono, costone? Da chi avranno avuto il permesso di salire? Ma la chi ha? Già li ha veduti, guarda! Ora sapremo, ora sapremo. Vediamo come li accoglie. Ogni tavolo ha tutto quanto serve per miniare e copiare. Corne da inchiostro, penne fini che alcuni monaci stanno affinando con un coltello sottile. E poi usano la pietra pomice per rendere liscia la pergamena. E si servono di regoli per tracciare le linee? Alcuni stanno mescolando inchiostri d'oro e di altri colori. Due gocce d'indaco nello zecchino, uno spruzzo di sangue di bove. Ci siamo, guarda come viene bene. Ma chi mai sarà costui che mi osserva le dita e la quantità e la qualità di macchie che esse adornano? Vieni, vieni. Dio misericordioso, dammi la forza di essere gentile. Pax vobiscus. E come spirito tu, un inquisitore che mi ha avvisato. In quello canterine svolazzante del santo Francesco. La batte mi aveva avvertito, ma non pensavo che saresti venuto accompagnato. Il giovane Anzo mi è stato affidato da suo padre a ciò che egli facessi da maestro. E questo posto di certo lo arricchirà di molte e vaste conoscenze. Almeno lui è un giovane con la vera condia negli occhi. Ecco, ora abbassa lo sguardo. Bene, molto bene. Seguimi allora, ti aiuterò nel tuo compito. Eccola... Venanzio, tu sia il benvenuto. Traduttore dal greco e dall'arabo, devoto di quell'Aristotele che certamente fu il più saggio di tutti gli uomini. Il Signore sia con te. E qui c'è... Bencio da Uppsala. Salve. A un giovane monaco scandinavo che si occupa di retorica. E poi c'è... Berengario, frate Guglielmo. Il mio alter ego, l'aiuto bibliotecario. Proprio qui, accanto al mio tavolo. Ti confesso, Malachia, che molto ho udito parlare del tuo scriptorium, ma ogni descrizione non è mai stata all'altezza di tanta bellezza. Apprezzo le tue parole, Guglielmo. Se poi non sottintendono altro. Salve, guarda. Cos'è questo voluminoso codice coperto di elenchi finissimi che tieni fissato con una catenella d'oro al tuo tavolo? È l'indice intero di ciò che la nostra biblioteca contiene. Ma immaginavo che tu lo sapessi già. Permettimi di usare i miei attrezzi. Oh, due mandorle di vetro. Quelli hanno due cerchi ovali. Temuti insieme da una croccia. L'aria leggeva un moregno senso di ostilità e lui? Riesce a capire. Ora se la mette sul naso. Sapete, Malachia, con questa davanti agli occhi, le mie pupille riescono di nuovo a vedere le piccole cose che l'età mi cancella. Ora si avvicina all'indice dei nostri libri. Osserva Malachia come lo guarda. Osserva. Ma mi sento fiero di essere al seguito di un uomo che riesce a far stupire anche uomini famosi nel mondo per la loro saggezza. E ancora? De pentagono Salomonis, ars loquendi ed intelligenti in lingua ebraica, o qual magnitudine, titoli celeberrimi e mille altri mai uditi e tutti questi segni, Malachia? Servono per determinare la posizione nello scaffale, nell'armadio, nella stanza o nel corridoio. Il posto dove rinvenire il libro, in sostanza. Ma sono incomprensibili. Non a me. Forse è dimenticato che l'accesso alla biblioteca è consentito solo al bibliotecario. Dunque solo io e Berengario sappiamo interpretare i segni. Anche Berengario. Non insistere, con cose che già sai. Se dunque io volessi consultare qualche particolare brano del pentagono di Salomone, quello di cui ho appena letto il titolo nell'indice, voi sapreste dirmi immediatamente dove si trova? Ecco un libro per il quale preferirei prima chiedere il consiglio dell'abate. L'abate a proposito. Molto mi ha parlato dello scomparso Adelmo da Otranto. Potrei vedere i codici che stava miniando. Adelmo da Otranto lavorava a causa della sua giovanità soltanto sul marginale. Naturalmente. Mostrami allora il suo tavolo. Eccolo, con tutti i suoi libri. Nessuno ha toccato niente da allora. Sorprendente davvero. Guardate le pagine di questo salterio. E appena concluso, ai margini è stato delineato un universo a testa in giù. Era davvero bravo Adelmo. Molto bravo. Cani inseguiti dalla vebre. Servi che cacciano il leone. Sono immagini semplici e bellissime che destano ammirazione e muovono il riso. E guarda, cazzo qui sul libro delle ore quante altre figure ha saputo creare con la sua fantasia. I bambuini. Sì. Abbaiono come gli abitanti di un'Africa rovesciata dove le case sorgono sulla punta di una goglia e la terra se ne sta sopra il cielo. Alle wonder si è proprio così essa è quella regione dove si arriva cavalcando un'Occalù. Sì, dove si trovano spalmieri che pescano dei pesci in uno stello. Dove gli ursi inseguono i falconi nel cielo. I gambi volano con le colombe. Tre giganti sono presi il trappo e sono passati da un gallo. Un gallo. Un gallo. silenzio. Il venerabile Org de Burgos. Er vavana auto isum apta non loqui. Frate Guglielmo quest'uomo avererando dagli anni di sciapienza è Org de Burgos più vecchio di chiunque viva nel monastero tranne che di Alinardo egli è colui a cui moltissimi tra i monaci affidano il carico dei loro peccati nel segreto della confessione. E voi Org quello che vi sta davanti è Guglielmo da Baskerville nostro ospite. Spero che non vi siate adirato per le mie parole Guglielmo. Pax vopiscon. Ho udito persone che ridevano di cose risibili ma voi venite da altro ordine dove mi dicono è vista con indulgenza anche la giocondità più inopportuna. Ah lo so lo so che per voi benedettini Santo Francesco era uomo bizzarro ma non accoglierò l'insinuazione e poi le immagini marginali inducono sovente il sorriso ma per fini di edificazione. Ah certo certo il capolavoro della creazione messo a capo in giù è perfetto per invogliare alla virtù. Certo che direi che non vi è di meglio che ridere di Dio attraverso l'asino che suona la lira o la formica che partorisce il vitello. Vergogna! Ma l'Europagita insegna Alt! Conosco l'argomento nostro signore non ha avuto bisogno di tante stoltezze per indicarci la via nulla vi dico nulla nelle sue parabole muove al riso d'altra parte l'avete visto voi stesso Dio punisce chi lo deride. Vi riferite ad Adelmo e a chi se no ora lo piangete morto ma godeva talmente delle mostruosità che miniava d'aver percorso tutti dico tutti i sentieri dell'orrido Venerabile Jorge la vostra virtù vi rende ingiusto Perché Venanzio dici ciò? Due giorni prima che Adelmo morisse voi eravate presente a un dotto di battito che ebbe luogo proprio qui nello scriptorium Non ricordo sono molto vecchio Frate Guglielmo ha appena nominato l'aeropagita Quel giorno Adelmo citò il dottore d'Aquino là dove dice che conviene che le cose divine siano esposte più in figura di corpi vili che in figura di corpi nobili Ho già detto che non ricordo Si trattava quel giorno di capire in che modo si possa scoprire la verità attraverso espressioni sorprendenti argute enigmatiche E io gli rammentai che nell'opera del grande Aristotele avevo trovato parole assai chiare a questo riguardo Non ricordo posso aver ecceduto in severità ora è tardi Molto strano che non ricordiate in vero strano fu una dotta e bellissima discussione in cui intervenero anche Bencio e Berengario e c'era anche Malachia vero Malachia? Ma che sta dicendo? Basta 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 così Benanzio Se il venerabile Olga non ricorda abbi rispetto per la sua età e per la stanchezza della sua mente Peraltro sempre così viva Maestro Berengario tiene le dita delle mani allacciate come chi voglia reprimere una grande tensione I suoi occhi fiammeggiano di rancore nei confronti di Benanzio Tutto questo è molto significativo Torniamo al nostro lavoro Va bene fratello Si torniamo Se la memoria è un dono di Dio anche la capacità di dimenticare può essere buona e va rispettata Lo credo bene Ma io la rispetto nell'anziano confratello Da te però mi aspettavo un ricordo più vivo intorno alle cose accadute quando stavamo qui insieme con un tuo carissimo amico Le vie dell'anticristo sono lente e tortuose e gli sta venendo non dissipate gli ultimi sette giorni ridendo sui mostriciattoli dalla pelle maculata e dalla coda ridorta Guglielmo alla biblioteca e alla biblioteca dello scrittorio più forte di alcuna porta deve essere l'interdetto dell'abate e i monaci devono avvalersi e della cucina e del refettorio sino a compieta A quel punto a impedire che estranei possano entrare nell'edificio io stesso chiudo i portali da basso che conducono e alle cucine e al refettorio e da quell'ora l'edificio rimane isolato interessante molto interessante allora a dopo fratelli carissimi vieni a dopo Il nome della rosa di Umberto Eco quinta puntata adattamento radiofonico di Piero Soria con Lino Capolicchio Max Malatesta Pino Micol Claudio Bigagli Giancarlo Zanetti Emilio Cappuccio Pier Giorgio Fasolo Elia Schilton Carlo Cartier Paolo Serra Bruno Viola Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove si incontra Nicola il vetraio? Si cena al tavolo dell'abate e misteriosamente si manifesta Malachia? Sesta puntata Camminare per il pianoro ci farà bene Maestro si è levato un gran vento e il cielo promette pioggia Sai Azzo continua a tormentarmi un dubbio Se al contrario di quanto abbiamo immaginato Adelmo si fosse davvero suicidato Ma che dite maestro? Seguimi Azzo Voglio addentrarmi nelle fucine Frate Guglielmo Mi riconoscete? Sono Nicola il maestro vetraio Salute a voi Salute anche a te Nicola Prendi Guarda queste lenti Oculi di vetro con capsula Azzo Nicola il vetraio lavora su tutte le finestre dell'abbazia e può sapere molte cose utili Resta qui Ne avevo dito parlare ma non li avevo mai veduti Spero Guglielmo che me li lascerai esaminare uno di questi giorni Certo Ma bada che lo spessore del vetro deve cambiare a seconda dell'occhio Devi provare col paziente tanto da trovare lo spessore buono sono di difficile fabbricazione E' meraviglia Eppure molti parlerebbero di stregoneria e di manipolazione del diavolo Oh ma questa è magia santa a cui i sapienti dovranno sempre più dedicarsi ma non tutto il popolo di Dio è pronto ad accettare tanti segreti Che vuoi dire? E' spesso accaduto che i depositari della scienza siano stati scambiati per maghi legati da un patto con il demonio Allora è giusto che come accade qui non tutti i libri siano alla portata di tutti No Io non volevo significare che occorre nascondere le fonti della scienza Io volevo solo dire che trattandosi di arcani da cui può nascere il bene ed il male il sapiente ha il diritto di usare un linguaggio comprensibile solo ai suoi simili Però lassù nella biblioteca i segreti della scienza sono ben difesi da opere di magia Porte sbarrate, di vieti severi, minacce, immagino No, di più Molto di più Che cosa per esempio? Ecco, io non so con esattezza Io mi occupo di vetri, non di libri ma nell'abbazia circolano voci strane Di che genere? Strane Voci che raccontano di un monaco che ha voluto avventurarsi nella biblioteca per cercare qualcosa che Malachia non aveva voluto dargli E allora il poveretto Ha visto serpenti Uomini con due teste Per poco non è uscito pazzo dal labirinto Ma davvero maestro? Un giorno stavo aggiustando le vetrate dell'ospedale di Severino C'era un libro Un libro di segreti E lessi del modo in cui puoi ungere lo stoppino di una lampada d'olio e procurarti visioni con i suoi suffumigi Se ungi col grasso dell'orecchio di un cane crederai di avere la testa di un cane Tu hai uno scopo, Nicola per dirmi questo? Quale? Tu non hai ancora dormito una notte qui? No? Durante le ore buie dalle vetrate della biblioteca traspare una luce fievole Si è parlato delle anime dei bibliotecari trapassati che tornano a visitare il loro regno Molti qui ci credono E tu? No Io penso che siano lampade preparate per le visioni Qualcuno nella biblioteca è molto astuto Ma vi ho detto fin troppo E il vespro non aspetta Non ne sono dispensato come voi Addio Cosa ne pensi, Azzo? Direi che nella biblioteca accade davvero qualcosa di anormale Ma non credo né alle anime dei bibliotecari né agli stoppini magici Che bravo, Azzo Maestro, ma voi pensate che questa storia abbia a che fare col delitto? Quale delitto, Azzo? Più ci penso e più mi convinco che Adelmo si è ucciso Seguimi, Azzo e di gran fretta lo strapiombo non ci nasconderà il vero ma dobbiamo fare in fretta prima che piova Vedi laggiù il segno della frana proprio dove si ammassa lo strame? La vedo, maestro Qui c'è solo la neve di ieri non quella dei giorni precedenti Dunque la frana si è staccata dopo la morte di Adelmo Se lui si fosse gettato proprio di qui dove siamo noi adesso sarebbe precipitato proprio là dove è poi passata la frana stessa Essa avrebbe travolto il cadavere trascinandolo con sé facendolo poi rimbalzare e rimbalzare su quelle rocce come ci ha detto la padre E alla fine della sua forza travolgente l'avrebbe abbandonato in quel pezzo d'abisso che si apre proprio sotto le finestre dell'edificio dove come vedi c'è solo la neve che è di ieri Ma perché si sarebbe ucciso? Perché lo avrebbero ucciso? Abbiamo dunque due possibilità Certo Una facile, questa L'altra assai complicata perché se Adelmo è stato ucciso dobbiamo trovare un assassino che Ricordi le finestre? Sì Sono assai alte, difficili da raggiungere Esatto Dobbiamo dunque immaginare che qualcuno sia penetrato nella biblioteca abbia colpito Adelmo abbia trovato il modo di salire con un corpo esanime sulle spalle fino alla finestra l'abbia aperta ed infine abbia precipitato giù lo sciagurato Un percorso impervio Già Nella seconda ipotesi ci bastano invece soltanto la volontà di Adelmo e una frana Allora è questo che avete deciso? No Ho deciso soltanto che nell'edificio si respira aria di reticenza Tutti tacciono qualcosa Questo è certo Abbiamo già raccolto inquietanti insinuazioni Quello strano rapporto tra Adelmo e Berengario ad esempio Già Vuol dire che d'ora in poi avremo un particolare occhio di riguardo per l'aiuto bibliotecario Ha ripreso a nevicare, figliolo È ora di rientrare La cena ci aspetta Edem pauperes Tu autem domine miserere nobis Adiutorium nostrum in nomine domini Mi feci c'è l'uma eterna Benedico Bobis Tanta fammi Prendiamo posto accanto alla parte, figliolo C'è entrambi invitati a sedere con lui e anche se Novizio ti ritiene ospite di riguardo Per questa sera, giovineazzo Benché Novizio Benedettino tu sia, siederai con noi Da domani ti accomoderai con gli altri monaci Bontà vostra, abate Nel caso il tuo maestro voglia affidarti qualche incarico potrai passare in cucina prima o dopo i pasti dove i cuochi si prenderanno cura di te Venerabile Orge Grazie, non devo Grazie a quanto è cosa Ha più di cento primavera Lo vedete dal suo aspetto claudicante e fragile da quei suoi occhi non più frequentati dallo spirito ma lui, già Novizio di questa abbazia sempre qui ha vissuto Anche il venerabile Orge Max Novizio Silenzio Ascoltiamo il lettore Mi diamo l'esempio del profeta che dice Viglierò sul mio cammino per non beccare con la mia lingua E così sia Ho un posto un babaglio alla mia lingua Sono ammutolito umiliandomi La nostra regola prevede un desinare assai parco Tuttavia questo tavolo e i suoi illustri ospiti ci consentono di usufruire dei genuini prodotti della nostra terra e delle nostre stalle Olio vero non di radizzone ma di pulissimo olivo delle mie terre e del vino Ecco il vino Non si può impedire a un monaco di bere di tanto in tanto E allora mi accerto personalmente colando le vigne della sua qualità è altissima Bevetene Bevetene senza timore Il mio padre ti ho già detto non befo Ho posto un babaglio alla mia lingua Sono ammutolito umiliandomi Silenzio Mi sono astenuto dal parlare anche di cose oneste e in questo passo il profeta ci insegna che talvolta per amore del silenzio ci si dovrebbe astenere perfino dai discorsi leciti E così sia E anche se la regola del nostro fondatore ci impone il silenzio desinando dialoghiamo pure rispettosamente sotto voce E accogliamo che ci fa l'onore di sedere a questa tavola con carni allo sfiedo maiali polli e soltanto l'oppetto e le cosce Essendo le ali cibo buono per i monaci ma non per i sapienti con esse spesso le buone idee volano via Ecco la forchetta Ah sì Volete favorire di conesta meraviglia perlomeno per trarre le carni dal grande bassoio No ve ringrazio padre Ne accetto con piacere i prodigi di questo strumento La forchetta è molto utile per non lordarsi le mani E questo valga soprattutto per i minimali a di Adelmo Giovanni Boccadoro ha detto che Cristo non ha mai riso Nulla nella sua natura umana lo vietava perché il riso come insegnano i teologi è proprio dell'uomo Manduca e un coctum est Mangi e già coca Di che accidenti parli? Del nostro cibo forse? No dottor York No mi stupisco che tu non conosca le parole che secondo Sant'Ambrogio Sant'Ambrogio furono pronunciate da San Lorenzo sulla graticola quando invitò i carnefici a girarlo dall'altra parte il che dimostra che il riso è cosa assai vicina alla morte Amen 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 La cena è finita Andate in pace Non prima però che presenti a voi tutti Guglielmo de Baskerville Egli è saggio e la sua fama ha raggiunto gli angoli del mondo Gli ho chiesto di investigare sulla morte del nostro amato Adelmo Ma che sta succedendo? Rispondete Perchè ad ogni sua domanda Avvertite i vostri sottoposti Per tutta l'abbazia appare altrettanto Facilitate di ogni ricerca purché non contravenga alla regola nel qual caso chiedete a me l'autorizzazione Così si sia E ora andate La compieta vi attende Ti ringrazio Pat L'avevo promesso E' questo il momento in cui si chiudono le porte dell'edificio? Appena i servi avranno pulito il refettorio e le cucine Malachia in persona chiuderà tutte le porte sprangandole dall'interno Dall'interno? Lui da dove esce? Ah Lui Certo non dorme in cucina Su andiamo in chiesa Guglielmo Guarda 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 là nell'ombra dietro al coro nella cappella laterale Ma è Malachia? Già Tieni d'occhio quel punto Potrebbe esserci un passaggio che porta all'edificio Dunque non si entra solo nelle cucine da refettorio? E così pare Se non erro passerebbe sotto il cimitero Già Da qualche parte ci dovrà pur essere un ossario E' impossibile che da secoli seppelliscano tutti i monaci solo in quel lembo di terra Guglielmo voi state voi state pensando di entrare nella biblioteca di notte non ora azzo non ora ma domani chissà ora è meglio andare a dormire tutto sommato vorrei rispettare le usanze di questo luogo tuttavia Il nome della rosa di Umberto Eco Sesta puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Pino Micol Claudio Bigagli Giancarlo Zanetti Carlo Cartier Pier Giorgio Fasolo Elia Schilton Bruno Viola Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove il mattutino viene interrotto dallo strepito dei porcai che annunciano un uomo è morto. Settima puntata Benedicando il Domino Benedicando il Domino La colpa si è impadronita dell'Empio Benedicando il Domino Dell'intimo del suo cuore Benedicando il Domino Non vede timore di Dio nei suoi occhi agisce con frode al suo cospetto Benedicando il Domino Levatevi Alleluia è l'ora Benedicando il Domino Abate un uomo è morto Dio abbi a tetta dell'anima sua Non è un uomo è un monaco non hai forse mi stai calzando Calma Calma Chi è? Dove sta? Fuori Dinanzi agli stabi Oh signore perdonami Là dove tronezza la grande giara col sangue dei maiali Oh sì Spunta dal loro dell'orso il poveretto la testa ficcata giù nel sangue Presto Presto Accorrete Su andiamo E voi Guglielmo Seguitemi Fuori Fuori Andiamo a vedere anche lui A che è successo? Hai udito ciò che quegli uomini nei hanno detto alla patria? Tragedia Tragedia Un altro monaco morto Che ci sia una maledizione su questa pazzia Via via Usciamo Corriamo a vedere Carodiamo Sono gambe Due Dio uomo Che sia città Qua sarà questo Poveretto Forza Forza Avanti Tiratelo fuori Non indugiate Oltre Un'altra torta Qui Qui Alla calomia Forza Adesso Infila Sì Sì Stiamo Sottisano Così Così La cinta La cinta Afferratelo Per la cinta Uscivala Ecco Escono le spalle Piano 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 Ora tutti insieme Più a terra Piano Piano Stendiamolo qui Uncora Un brutto fine Acqua Acqua Portate dell'acqua Unitevi il volto E tu Porta un bacile Bacile Avanti Allontanatevi Allontanatevi tutti Il mio abate E il povero Venanzio Di Salvamec Il sapiente Di cose greche E arabe Che molto difese La miniatura Dei codici Di Anselmo Ma come può essere? Forse Adelmo Si è suicidato Ma Una cosa è certa Venanzio E' stato Ucciso Non riesco A crederci Impossibile pensare Che possa essersi Sissato per accidente Fino al bordo Dell'orcio E che poi Si è caduto dentro Per errore Muglielmo Vi scongiuro Agite presto Era presente In coro Durante l'ufficio? No Avevo notato Che il suo stallo Era vuoto Nessun altro Era assente? No Non mi pare Berengario Era Al suo posto? No Berengario Era al suo posto In prima fila Alla mia destra Naturalmente Tutto questo Non significa nulla Potrebbe essere Entrato nel coro Passando da dietro L'abside Preferisco credere Che il cadavere Potesse essere qui Già da parecchie ore Almeno da dopo Che si era andati Tutti a dormire Certo I servi si alzano Troppe 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 Mi sei ben indovino Quello che vuoi chiedermi No Gli annegati Non hanno Questo volto I loro lineamenti Sono gone Allora Venanzi Era già morto Quando qualcuno L'ha gettato In codesta Ma perché avrebbe dovuto Fare ciò Perché avrebbe dovuto Ucciderlo Mi chiedi Ma perché ci troviamo Di fronte Ad una mente Distorta Occorre però Vedere se ci siano Perite o Contusioni Sul suo corpo Sarà meglio Allora portarlo Nel baldea Esattamente Quanto speravo Volessi fare Spoglialo Lavalo Ed esaminalo Ti raggiungerò Presto Mio abate Ne ho concessione Non ho forza Detta voi tutti Di favorire Guilherme al massimo E' vero Robato però Su voi torcai Su Aiutatemi Piano 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 Un bel pasticcio Piano Un bel pasticcio Avete ragione Tutte queste orme Sulla neve Intendevo La neve È infatti Una mirevole Pergamena Sulla quale I piedi Degli uomini Lasciano scritture Leggi belissime Non me ne capacito Con tutti questi monaci E questi famigli A sospingere A calpestare Li faccio allontanare Soprano Sì forse bene Ma ci vogliono Precise precauzioni Ebbene Guilhermo Date voi stessi Gli ordini Tornate tutti Allo stabio E alle stalle da cui siete venuti, ripercorrendo le vostre stesse orme. Qui non c'è più nulla da vedere. E tu, Azzo, vieni qui. Eccomi, maestro. L'unico spazio intatto è quello che va dagli stabbi all'edificio. Vediamo se riuscirai a trovare qualcosa di interessante. Non sempre è facile decifrare che cosa sia interessante per voi, maestro. Se Venanzio non si è buttato da solo nel recipiente, qualcuno ve l'avrà ben portato. E voi immaginate già morto? Esatto, Azzo, esatto. E chi trasporta il corpo di un altro lascia sempre tracce profonde nella neve. Di bene in meglio, Azzo. Anch'io comincio a vedere i segni. I miei occhi si abitano a guardare, a osservare, a scrutare. Che Dio mi salvi dalla vanità. Vai, figliuolo, e porta risultati. Le impronte sono abbastanza profonde e sono le uniche, ma sono più lievi di quelle lasciate dai monaci e dai famigli. Che vuol dire? È nevicato sopra. Dunque sono state lasciate prima, forse nella notte, subito dopo cena. E questa traccia continua significa che chi ha lasciato l'impronte ha trascinato il corpo. Sì, è così. Ecco la giara. Maestro, il percorso risulta assai chiaro. Dalla giara alla porta del refettorio. Refettorio, scrittorio, ma biblioteca. Già, ancora una volta alla biblioteca. Sì, Venanzio è morto nell'edificio, più probabilmente all'ultimo piano. Ma perché proprio nella biblioteca? Perché cerco di mettermi nei panni dell'assassino. E allora? Se Venanzio fosse stato ucciso nel refettorio, o nella cucina, o nello scrittorio, dimmi, perché non lasciarlo lì? Ma se fosse morto nella biblioteca... Occorreva portarlo altrove. Già, sia perché in quel labirinto non sarebbe mai stato scoperto, sia perché quel folle non vuole che l'attenzione si concentri sulla biblioteca. Ma perché all'assassino doveva importare che Venanzio venisse scoperto? Non lo so. Faccio solo ipotesi. Entrate, entrate, entrate. Il corpo di Venanzio. Ciace sul tavolo. Del gran laboratorio di Severino. Questo laboratorio sembra l'antro misterioso di un alchimista. Campolle, brocche, vasi antichi, pieni di sostanze di diversi colori. Oh, Guglielmo, ho esaminato il corpo del povero Venanzio con grandissima attenzione. Ebbene, mio dottor erborista? Nulla. Nessuna ferita, nessuna contusione. Credimi, direi che è morto per incanto. O per castigo divino. Forse. E se fosse stato per veleno? Veleno? Sì, potrebbe, forse. Tu ne conservi qui in laboratorio? Qualcosa, Guglielmo. Ma dipende sempre che cosa tu intendi per veleno. Ci sono sostanze che in piccole dosi... Sono salutari, mentre in dosi eccessive procurano la morte. Come ogni buon erborista, le conservo e le uso con discrezione. Nel mio orto coltivo... Valeriana. Poche gocce in infuso di altre erpe. Calmano il cuore che batte disordinatamente. Mentre troppe... Lo fermano. E non hai notato sul cadavere i segni di un veleno particolare? No, nessuno. Ma ciò non vuol dire. Molti veleni non lasciano traccia alcuna. E tutti questi preziosi vasetti? Una davvero bella collezione. Sono tutti prodotti del tuo giardino. Oh no! Molte sostanze rare che non crescono in questa zona mi sono state portate lungo gli anni da monaci provenienti da ogni parte del mondo. Agalingo Pesto viene dal Cataio. Lo ebbi da un sapiente arabo. E questo? Questo è arsenico. Pericolosissimo per chi lo ingerisce. E questa? Non ci crederai ma è mirra. Quella dai magi? L'hai detto. Qui però è buona per prevenire gli aborti. E questa ancora? È mandragola officinalis. Ottima per il sonno. E anche per suscitare il desiderio della carne. Dicono. Ma come ben potrai immaginare? Qui non la si usa davvero molto in tal senso. E che cos'è questa pietra che sola giace sul tuo scaffale? Oh non saprei. Mi è stata donata tanto tempo fa. Il suo nome è... Lapis ematitis. Pare abbia virtù terapeutiche ma onestamente non ho ancora scoperto quali. Lo credo bene. È un magnete. Cosa? Quale ignota parola hai tu pronunciato? Vevi tu questa lama di ferro? Ora l'avvicino alla pietra. Oh! Ma è miracoloso. È miracoloso? È miracoloso. Assolutamente no. Ma ti spiegherò avanti. Ora mi interessa sapere. Quelle piante di cui ci parlavi ieri. Quelle che danno visioni. Quali sono? Beh, sul momento non saprei. Dovrei pensarci. Ho così tante sostanze miracolose qui. Sì, sì, miracolose. Sostanze miracolose. Sostanze miracolose. Ma avete visto? Forse per oggi non ne dichiarà più. Signore, Pietà. Pietà dell'anima Sua. Preque in eterna donna与, ominné. Lecce in eterna donna è un domine. Lecce in pace. Amen. Preque in eterna donna è un domine. Lecce in eterna donna è un domine. Lecce in pace. il nome della rosa di Umberto Eco settima puntata adattamento radiofonico di Piero Soria con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Carlo Cartier Paolo Lorimer Riccardo Reim Bruno Viola Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon a cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Posta elettronica sceneggiato Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Bencio da Uppsala viene interrogato da fratello Guglielmo e svela molte cose soprattutto del libro sorriso di Aristotele Ottava puntata Signore Pietà Pietà dell'anima sua e il nostro confratello Benanzio che il Signore abbia pietà dell'anima sua Reclaim Eterna Dona Eo Domino Ed Luz Perpetua Luce Ateo Requiescat in pace Osserva Peregario Osservalo bene E pallido contratto lucido Dissutore Si maestro molto spaventato Ma guardate gli altri accanto a loro Quasi mi fanno impressione i loro volti Scuri e cigliati impenetrabili come rocce come se niente fosse successo E quello Bencio da Uppsala Lo studioso di retorica E' nervoso Vedete gli occhi Si muovono di continuo Da Malachia a Hork Occorrerà interrogarli subito Sia Bencio Sia Perengario Perché? Perché è duro mestiere Quello dell'inquisitore Bisogna battere sui più deboli Quanto maggiore E' la loro debolezza E' Luz Perpetua Dio Rescati in pace E' la prima eterna E' la prima eterna E' la prima eterna Bencio Fermati Aspettaci Di molte cose dobbiamo parlare Che volete da me? Ho altre cose da fare in questo momento Non ti ricordi che sto svolgendo un'indagine Per mandato dell'abbate? Lo sai bene? Non andare in cerca di sventure Ecco Mettiamoci a sedere qua Come volete? Raccontami per filo e per segno Cosa si disse quel giorno Che foste a discutere Dei Marcinaglia di Adelmo Tu Berengario Venanzio Malachia E Orche Se così volete Non è legito Tornare di immagini ridicole I libri che contengono la verità Mi ho dotto Jorge Ma se lo stesso Aristotele Ha parlato delle arguzie E dei giochi di parole Come strumenti Per meglio scoprire la verità No, 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 no Il riso pertanto Non deve essere cosa cattiva Se di verità può farsi veicolo Aristotele parlò diciamo Nella poetica E a proposito delle metafore Che già si trattava Di due circostanze inquietanti E quali? Ciocco! La prima perché E il libro della poetica Rimasto ignoto al mondo cristiano Per tanto tempo E forse per decreto divino Ci è arrivato attraverso I mori infedeli No, no Esso è stato tradotto E in latino Da Guglielmo di Mörpeche Grande amico dell'angelico Dotto da Quino Non interrompermi, vecchio Ma Il secondo motivo Di inquietudine E che idi si parla Di poesia Poesia, capite? Quella infima doctrina Che vive di figmenta Ma anche i salmi Sono opera di poesia E usano le metafore Sciocchi, sciocchi, sciocchi Ancora sciocchi I salmi sono opera Di ispirazione divina Usano le metafore Per trasmettere la verità Mentre le opere Dei poeti pagani Le usano Per trasmettere la menzogna E a fini di vero Continua Che cosa è successo poi? A quel punto Se ricordo bene Venanzio parlò di altri libri E Jorge si arrabbiò molto Quali libri? Non so Non ricordo Cosa importa di quali libri Si sia parlato? Non importa molto Perché qui Stiamo cercando di capire Cosa sia avvenuto Tra uomini Che vivono Tra libri Coi libri Dei libri E dunque Anche le loro parole Sui libri Sono importanti Noi viviamo Per i libri Ed è una dolce missione In questo mondo Dominato Dal disordine E dalla decadenza Spesso i libri Parlano di altri libri Spesso un libro innocuo È come un seme Che fiorirà in un libro pericoloso O all'inverso È il frutto dolce Di una radice amara Non di rado I libri parlano di libri Ovvero E come Se si parlassero Tra loro Cos'altro disse Ananzio? Disse che Aristotele Aveva dedicato al riso Il secondo libro Della poetica Venerabile forte Ammetterai che Se un filosofo Di quella grandezza Consacra un intero libro A riso Significa che il riso È cosa assai importante Oh Venanzio Venanzio Anche a peccato Sono stati dedicati Molti libri Perché non parli Di quelli E poi Tu cianci Del riso Di Aristotele Come se L'avessi letto No 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 Dove Come e quando Ben sai che non ho potuto È andato perso Mai più è stato trovato Ah E sai perché Nessuno l'ha rinvenuto No Perché non è mai Stato scritto Perché la provvidenza Non vuole che siano glorificate Le cose futili Ma venerabile Corio Niente ma Gesù ha raccomandato Che il nostro parlare Sia Sì E no Il di più I vostri cosiddetti enigmi I arguti Di cui I poeti africani Sono sommi maestri Quella è solo immondizia Che viene dal maligno Ma sei forse impazzito Berengario Perché ridi come uno stolto Scusami Corgi Ma mi è appena Sovvenuto un enigma Di quelli che tu chiami Poeti africani Perdonami Perdonami Non ho saputo Traattenermi Ma sai Ma c'è che avveni Tra gli africani Basta Berengario Via di qui Taci E vattene immediatamente Ad accudire alle tue faccende I libri con quel segno Sono andati per noi Tu dici che Malachia Era davvero irato Ah dovevate vederlo Ha quasi afferrato Berengario Per il cappuccio Cercando di trascinarlo Via il più in fretta possibile Che spettacolo Davvero strano Vero Vazzo Sì maestro Soprattutto perché Berengario Era il suo aiuto Trattarlo in quel modo Davanti a tutti Dimmi Bencio Che cosa successe poi Or che mise repentinamente Fino alla discussione Tutti ce ne tornamo Alle nostre cose Ma cosa? Ecco Mentre lavoravo Vedi prima Venanzio E poi Adelmo Avvicinare Berengario Per chiedergli qualcosa Vedi da lontano Che lui si schermiva Hai sentito Che cosa si sono dette? No Era impossibile ascoltare Ero troppo distante Però Durante il giorno Tornarono Entrambi da lui E poi Quella sera Vedi Adelmo E Berengario Confabulare Proprio qui Nel chiostro? Sì Giusto prima di andare In refettorio E questo È davvero tutto Non so altro Non so altro Ora però ti chiedo Di che cosa immagini Stessero discutendo? Se proprio Insistete Io penso Che Berengario Abbia parlato loro Di qualcosa Che si trova Nella biblioteca Ed è là Che secondo me Dovresti andare A cercare Perché pensi La biblioteca Bencio Cosa voleva dire Berengario Affermando che bisognava Cercare tra gli africani Non mi sembra Che volesse significare Che era necessario Leggere meglio I poeti africani Credo anch'io così Perché infatti Malachia Si sarebbe infuriato tanto In fondo Dipende da lui Decidere se dare O non dare in lettura Un libro di poeti pagani Anche perché A sfogliare il catalogo Dei libri conservati Solo il bibliotecario Sarà in grado Di riconoscerne Le indicazioni Si è così Ce n'è una Infatti che sovente Dice Africa Un'altra che addirittura Afferma Finis Afriche E tu non hai mai chiesto Tali libri? Si Una volta E che cosa successe? Malachia mi disse Che i libri con quel segno Sono andati per tutti Ecco perché A parer mio È giusto controllare Berengario Egli è l'aiuto bibliotecario Quel che sa Malachia Sa anche lui Tu Ci stai suggerendo Di seguirlo Quando sale in biblioteca? Si Non si sa mai E ora Posso andare Perché Adesso non solo Vi ho raccontato i fatti Ma pure Tutti i miei pensieri La biblioteca Tutto riconduce sempre L'ultimo piano Dell'edificio Dobbiamo Assolutamente Trovare il modo Di penetrarla Per scoprire Quale mistero Fissi i cieli Le circostanze Ci autorizzano Che che ne dica la bate Non sarebbe più Un peccato di curiosità Ma un dovere vero C'è un assassino Là dentro Mi sa che D'ora in poi Dovrò faticare molto Per tenerti a freno In fondo maestro Mi specchio soltanto Nel vostro ardire Perengario Perengario Fermati Ecco Il mio maestro Ti vuole parlare Ho fretta Forse anche Adelmo Aveva fretta Ma tu Sei stato l'ultimo A vederlo vivo Io? Sì Tu? Come potete dire questo? Io l'ho visto Prima di andare A riposare Come tutti gli altri No Tu l'hai visto ancora E sai più cose Di quanto non voglio Far credere Qui sono in gioco ormai Due morti E non puoi più tacere Sai benissimo Che ci sono molti modi Per far parlare Una persona Sì Sì Voglielmo Io ho visto Adelmo Quella sera Ma era già morto Il nome della rosa Di Umberto Eco Ottava puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Pino Miccol Giancarlo Zanetti Claudio Bigagli Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Paolo Serra Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome di Giorgio della Rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Berengario confessa molte cose E Adso comprende il valore della penitenza Poi in cucina scoppia una rissa assai volgare Nona puntata Becco Berengario Sediamoci qua Vieni Azzo Ma cosa vuoi ancora da me Cosa vuoi ancora Allora confermi che Adelmo lo vedesti quando era già morto Sì Guglielmo Sì Tu menti Berengario No È la verità Lo giuro E dov'era Ai piedi della scarpata No Lo vedi qui nel cimitero Procedeva fra le tombe Lo incontrai E subito mi accorsi Che non avevo di fronte Un uomo vivo Il suo volto era quello di un cadavere Ma cosa dici Sì Sì I suoi occhi già guardavano le pene terne Naturalmente solo il mattino dopo Quando appresi della sua ripartita Capii che avevo incontrato il suo fantasma Un fantasma che parlava Sì Sì Davanti a me c'era un'anima dannata Oh signore Con quale voce di tomba si rivolse E cosa ti disse Sono dannato Berengario Sono dannato Al quale mi vedi hai di fronte a te un re duce dall'inferno E all'inferno bisogna che torni Era così pallido E poi molte altre cose Disse ancora Cosa Oh l'inferno Le sue pene sono infinitamente maggiori Di quanto la nostra lingua possa dire Ma perché Colas sei disceso? A causa della mia vanagloria Per aver creduto al mio corpo Un luogo di delizie Per aver supposto di sapere più degli altri Oddio Ora tu parli come il cieco Jorge Troppo Mi sono dilettato di cose mostruose Le ho molto vagheggiate Con la mia immaginazione Ma esse hanno prodotto cose Ben più mostruose Nell'interno dell'anima mia E con esse ora Dovrò vivere in eterno Che il signore abbia fietà di te Per me è finita Ma per te Su Porgimi la tua mano Mio bel maestro Come? Perché? Su E lui scosse il dito della sua Che ardeva si come fuoco Ne cadde una piccola goccia di sudore Ed era talmente bollente Che quasi forò la mia di mano Com'è possibile? Lo ignoro Su solo che per molti giorni Ne portai il segno Che dovetti nasconderlo a tutti E poi? E poi Adelmo Scomparve fra le tombe E quando lo rividi Era là Ai piedi della rocca Perché Adelmo Ti ha chiamato Mio bel maestro Avevate la stessa età Gli avevi forse insegnato qualcosa di Particolare? Non so perché Mi chiamasse così Ho paura padre Voglio confessarmi Un diavolo che mangia le viscere No Berengario Assolutamente no Non chiedere di confessarti Perché Guglielmo? Perché? Siate misericordiosi No Non chiuderai le mie labbra Aprendo le tue Quello che voglio sapere Non me lo dirai Costringendomi al silenzio Troppi tacciono in questa bazzia Se ne suppico No Alzati svelto Frate Guglielmo Basta ho detto Dimmi piuttosto Come hai fatto a vedere Che Adelmo era pallido in volto Se era notte folle No Come hai potuto bruciarti la mano? Non lo so Che cosa facevi a quell'ora nel cimitero? Non ricordo più Non so rispondermi Avanti, avanti Dimmi almeno questo Guglielmo Fermatevi Però ripeto Non so perché ero là Non ricordo Adelmo era pallido Forse l'ho visto perché portava un lume Come poteva portare una luce Se pioveva e nevicava? Era dopo compieta Non nevicava ancora Fuggivo verso il dormitorio E poi non ricordo più Vi prego Lasciatemi andare Se non volete confessarmi Almeno non interrogatemi più Vai, vai a parlare col signore Visto che non vuoi parlare con gli uomini Cercati un monaco che voglia ascoltare la tua confessione Perché se è da allora che non confessi i tuoi peccati Tu ti sei avvicinato da sacrilego ai sacramenti E ora via dai miei occhi Ma ci rivedremo Stanne pur certo Quel fantasma mi pare pochissimo fantasma Come sarebbe a dire? Pensaci Non ti pare che quel fantasma stesse recitando una pagina Che tu e io abbiamo già letto su qualche libro Ad uso dei predicatori Forse che questi monaci leggono davvero, troppo Già, e quando sono eccitati Rivivono le visioni che ebbero sui libri Volete dire che Adelmo ha detto veramente quelle cose E che Berengario le abbia udite perché aveva bisogno di udirle? Dimmi, Alzo Quella goccia di sudore infuocato che ha bruciato la mano di Berengario Forse portava un cero E la goccia era solo una goccia di cero Già, ma Berengario si è sentito bruciare molto di più Perché Adelmo lo ha chiamato suo maestro Con ciò rimproverandolo di avergli insegnato qualcosa Di cui ora egli si disperava a morte Intendete dire che Berengario? Sì, Berengario gli aveva fatto conoscere cose proibite E soffriva perché sapeva di aver spinto Adelmo all'inferno Vistigandolo a fare cose che non doveva E non è difficile immaginare cosa I perni della terra si accederanno del tuo corpo di peccatore Adelmo si era appena confessato Allora perché punire il suo primo peccato con la morte? Un peccato ancora più grande del primo Perché qualcuno gli aveva detto parole di disperazione infinita Parole che non ammettevano assoluzione Le fiamme del demonio arrosteranno i tuoi occhi Fino a farli uscire dalla testa L'umore vitreo a bollire come acqua sulle bragi Non preghiamo tutti un Dio di misericordia I tempi in cui viviamo i confessori e i predicatori Offrono al popolo per stimolarne la pietà Il terrore di parole truculente e sconvolgenti I denti e pulsi di mille pipistrelli Dilagneranno le tue carni Mai come in giorni nostri Si sono udite laudi sacri Ispirate ai dolori del Cristo e della Vergine Mai come oggi Si è insistito nello stimolare la fede dei semplici Attraverso l'evocazione dei tormenti infernali A volto e da becco a cuzzo distraperanno il cuore Ed esso faranno perenne panchetto Ormai né il Papa, né i viscovi E neppure i miei confratelli spirituali Sono più in grado di promuovere una vera penitenza E' finita l'epoca della penitenza E per i penitenti il bisogno di penitenza E' diventato bisogno di morte Ecco allora perché Adelmo Dopo aver udito parole tanto feroci E' andato a commettere suicidio Ora si vuol trattenere le anime del peccato Con la paura Ma davvero così non peccheremo più? Gli italiani per opera dei loro predicatori Rischiano di tornare alle antiche superstizioni Hanno paura soltanto delle ferite corporali E delle disgrazie E perciò temono più Sant'Antonio del Cristo Maestro, guardate che cosa fa con la bocca la luce Quando il cibo avanzato lo passa lì nascosto ai capelli Su, prendi una scodella Di latte caldo, vendi farà Ecco la scodella per il tuo paese Prendi questa pecora appena scocciata Oh, quella pecora no Quale pecora? La bocca la pecora E vai Buongiorno frate E vai Buongiorno frate E vai Buongiorno frate Buongiorno a te Cellario, Cellario Tu devi amministrare i belli della pazzia Non che si parli Pilli dai Sono Gesù ha detto che facete per lui Quello che facete a uno di questi pueri E vai Correggione di un minorita Non sei più tra i tuoi picocchi di frate E andare figli di Dio ci penserà la misericordia della pace Non sono un fraticello minorita Sono un monaco, santi benedicti Merda tua Vogomilo di merda Vogomila la valdracca che ti inquinna la notte con la tua verga eretica Buongiorno Correggione Frate Al fin di tuo io Tuo ordine non è Dio Digli che i figli esfranciscino E reti cos'esse Il menter E basta adesso cuciniere No frate Guglielmo No, non parlavo male del vostro ordine e degli uomini santissimi che lo popolano Parlavo a quel falso minorita e falso benedittino che ne ha né carne né pesce So da dove viene Salvatore Ma ora è in monaco come te e gli devi rispetto Ma lui mette il naso dove non deve metterlo perché è protetto dal cellario Anzi si crede lui stesso il cellario E usa l'abbazia come se fosse cosa sua Di giorno e di notte Di notte? Perché? Non fatemi parlare di ciò che indegno È meglio che tacere Sì, meglio Meglio tacere Sapete maestro Non riesco a togliermi dalla testa il colloquio che ho avuto con il santo Bertino A proposito di Salvatore E di Remigio il Cellario È lui Vedi Quando lasciai il sangue francescano Tornai per qualche tempo nel mio vecchio convento di Casale E lì trovai altri frati in angustia Vi accusavano di essere spirituali? Sì Spirituali della mia setta Della mia setta Capisci? Così mi adoperai in loro favore Ottenendo che potessero seguire il mio esempio Dunque Salvatore e Remigio erano tra loro? Sì Poi me li sono ritrovati qui quando arrivai l'anno scorso Ma Salvatore È vero Pare una bestia Ma è assai servizievole L'ho sentito pronunziare Penitenziaggio No No Non credo Non ve lo assicuro Sai giovane Alzo Come sono questi fratelli laici Gente di campagna Che hanno udito forse qualche predicatore vagante E non sanno che cosa dicono Non mi pareva Salvatore è una bestia biotta e russuriosa Ma non è contro l'ortodossia Ma ma io non Il male di questa abbazia è un altro Cercalo in chi sa troppo Non in chi non sa nulla Il nome della rosa Di Umberto Eco Nona puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Claudio Bigagli Emilio Cappuccio Carlo Cartier Pier Giorgio Fasolo Elia Schilton Paolo Lorimer Bruno Viola Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Posta elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Musiche originali di Nicola Campogrande Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Venetucci Dove si incontra Aymaro d'Alessandria Che si abbandona molte mormorazioni E sugli orribili tedeschi della sua abbazia Decima puntata Pax Bobiscum E con spirito tuo Allora, frate Guglielmo E mi dite Vi siete già abituato a questa spelonca di dementi? Di dementi? Siete proprio voi Aymaro d'Alessandria Sì Vi avrei detto che questo fosse luogo di uomini ammirevoli Per santità e per dottrina Eh, lo era Un tempo lo era Questo sì Quando gli abbati facevano gli abbati E i bibliotecari I bibliotecari Non l'avete forse visto voi stesso Quel tedesco mezzo morto Con gli occhi da cieco Malachia Proprio lui Se ne sta devotamente a sentire i vaneggiamenti di quello spagnolo Egli sì, veramente cieco Ma con gli occhi da morto Orche Sembra che l'anticristo debba arrivare ogni mattina E noi lì a grattare pergamene Ma di libri nuovi ne entrano pochissimi Interessante Molto interessante Noi siamo qua E laggiù nella città si agisce Una volta dalle nostre apazie Si governava il mondo Mentre ora Lo vedete L'imperatore ci usa per inviare qui i suoi amici A incontrare i suoi nemici Ma cosa credete? Io so qualcosa sulla vostra missione Qui i monaci parlano Parlano, parlano Un tempo L'imperatore sarebbe salito qua solo Ora invece Se vuole controllare le cose di questo paese Se ne sta nelle città Noi qua raccoglie le grano E da levare i portali E laggiù A scambiar braccia di seta Con pezze di lino E pezze di lino Con sacchi di spezie Noi custodiamo il nostro tesoro Ma laggiù i tesori Anche i libri E molto più belli dei nostri Nel mondo accadono certo molte cose nuove Ma voi, Amaro Pensate che sia colpa dell'abate? Ha dato la biblioteca in mano agli stranieri Un'abbazia benedettina in questa plaga italiana Dovrebbe essere il luogo dove degli italiani Decidono per cose italiane Invece siamo controllati da un gruppo di stranieri Come se a Clioni ci fosse ancora un grande abate italiano Ma l'abate è italiano Sì Ma non conta nulla Due volpi furbissime, Guglielmo e Amaro L'una in caccia dell'altra Una per sapere L'altra per far sapere Un duello sottile Solo le parole E ciò che intendevano significare Ovvero abate Mi sembra che esagerate, Amaro Al posto della testa Ha un armadio della biblioteca È parlato Per far dispetto al papa Lascia che l'abbazia sia invasa da fraticelli Dico Quelli eretici I transfughi del vostro ordine santissimo E per far cosa grata all'imperatore Chiama monaci da tutti i monasteri del nord Come se da noi non avessimo bravi copisti E uomini che sanno il greco e l'armo Non dubito che a Firenze o a Pisa Non ci siano figli di mercanti ricchi e generosi Che entrerebbero volentieri nell'ordine Se l'ordine offrisse possibilità di incrementare la potenza e il prestigio del padre Vedete, Guglielmo, che ho ragione Ma qui l'indulgenza alle cose del secolo La si riconosce solo quando si tratta di permettere ai tedeschi Ai tedeschi? Fulminate la mia lingua perché sto per narrare cose poco convenienti Cose poco convenienti qui, nell'abbazia Anche il monaco è un uomo Ma qui, frate Guglielmo, vi assicuro Sono meno uomini che altrove E quello che ho detto sia chiaro che non l'ho detto E ditemi, Aymaro, sono queste opinioni solo vostre o di molti? Di tutti coloro che adesso si dolgono per la sventura del povero Adelmo E che non sarebbero stati scontenti se Se nel precipizio fosse caduto qualcun altro Qualcuno che gira per la biblioteca più di quanto dovrebbe Ai tempi d'oro del nostro ordine, frate Guglielmo Se un abate non aveva una tempra da abate Beh, una bella coppa di vino attoscato Una bella coppa di vino attoscato Ed ecco aperta la successione Non spingetevi troppo in là, Aymaro Non ditemi che l'abate vi ha pregato di investigare su di me O su... Pacifico da Tivoli O su... Dietro da Sant'Albano No Noi con le storie della biblioteca non c'entriamo Ma vorremmo che voi scoperchiaste questo nido di serpenti Voi che avete bruciato tanti eretici Io non ho mai bruciato nessun eretico Non la diratevi Dicevo così, per dire Comunque, buona caccia, Guglielmo E fate attenzione di notte Perché non di giorno? Perché qui di giorno si cura il corpo con le erbe buone Di notte si ammala la mente con le erbe cattive Siate chiaro Credete forse che Adelmo e Venanzio siano stati uccisi per mano di qualcuno? Voi cosa mi suggerite? Qui qualcuno non vuole che i monaci siano liberi di leggere ciò che vogliono E allora si usano le forze dell'inferno Si usano le forze dell'inferno O dei negromanti amici dell'inferno Per sconvolgere le menti dei curiosi Parlate forse del padre erborista? Severino da Sant'Emerano Sì, lui è una brava persona Ma tedesco lui Tedesco Malachia Vi pregherei di non fare parola con nessuno Di queste mie riflessioni A Imaro vuole che si torni alla tradizione Una pazzia benedettina Ai tempi auri dell'ordine Era il luogo da cui i pastori controllavano il greggio dei fedeli Solo che la vita del greggio è cambiata E la pazzia può tornare alla sua gloria solo se accetta il nuovo costume del greggio Diventando diversa Oggi si domina con il controllo del denaro Il desiderio dell'abate è una pazzia fabbrica di denaro Azzo, andiamo allo scrittorio Ma queste riflessioni mi hanno acceso molte curiosità Stai copiando questo? Sta bene tutto Ci vuole ancora tempo Continua pure, non ti preoccupare Andiamo alla scrivania di Venanzio Per vedere che lavoro aveva fra le mani Ecco qua maestro Stava traducendo l'opera di Luciano È un autore greco? Sì, il suo libro narra di un uomo trasformato in asino Ah, ricordo una favola analoga di Apuleio Ma ai novizi erano certo severamente sconsigliata Berengario, vieni qua Sì, Guglielmo Come mai Venanzio stava lavorando a questa traduzione? Questa traduzione è stata chiesta dal signore di Milano È assai preziosa Da dove arriva? Oh, è un prestito del doge di Venezia Che lo ebbe dall'imperatore di Bisanzio Ma una coppia rimarrà a noi In cambio di una certa prelazione sui vini di Taluni Poderi Dunque l'abbazia non disdegna né i lavori venali Né di raccogliere favole pagane Questa biblioteca sta diventando testimonianza dell'errore Porche, non ti avevo sentito arrivare Tuttavia hai torto Certo, Apuleio e Luciano sono colpevoli di molti errori Vorrei ben dire Però questa favola contiene sotto il velame della funzione, naturalmente Anche una buona morale L'uomo che si trasforma in asino è la metamorfosi dell'anima che cade in peccato Certo, certo Ora capisco perché durante quella vostra inquieta discussione Venanzio fosse così interessato alla commedia Questo tipo di favole, infatti, proprio alla commedia può essere assimilato Proprio così Ma che dici, Guglielmo? Che commedia è commedia? Era della liceità del riso che si dibatteva, mio caro Che spadato Avevo frainteso Mi era parso di capire che tu non ricordassi assolutamente nulla di quanto detto Riso, riso Del riso si parlava Il riso squassa il corpo, deforma i lineamenti del viso Rende l'uomo simile alla scimmia Mio caro Orge, le scimmie non ridono Il riso è solo dell'uomo È lo specchio della sua razionalità Se è per questo, anche la parola è simbolo di razionalità Ma con la parola l'uomo spesso bestemmia Ma Quintiliano, Tacito, Plinio e il Giovane Erano Pagani Pagani Lo capisci o no? A proposito di Pagani San Mauro non mi sembra fosse tale Però, al loro cospetto, quando lo posero nell'acqua bollente Ricordi che cosa disse? Puttate la ventra! C'è bisogno dei tuoi soldati, governatore Entro da solo Vedi? Ecco Che c'era Non mi dicevi che Cotestacro voleva bruciarmi le carni? Prova Prova tu stesso Su Immergilo tu a Augusto braccio E così il governatore si ostionò Allora Orge Un santo martire che ridicolizza i nemici della fede Tutti i soldati del governatore risero, risero, risero E lo seppellirono di Lazzi Non fu forse quella una bella azione? Ma cosa dici? Un santo immerso nell'acqua bollente soffre per Cristo E per Cristo trattiene le sue grida Questa è la verità Non gioca a tiri da bambini ai pagani Sbaglio, Orge, o stai ridendo del riso? Tu vaneggi, Guillermo Vaneggi! Assolutamente no Tutti hanno visto e udito Sia pure tacitamente controllando le tue labbra Stavi ridendo? Giocando sul riso mi stai trascinando in discorsi vani Tu sai bene che Cristo non rideva mai Non ne sono ben sicuro Un esempio Fammi un solo esempio Quando gioca con le parole e dice Tu es Petrus Su questo piede Silenzione! E qui il Cristo non c'entra Ma un altro esempio mi sovviene Stai esagerando Oh ma questo riguarda noi La nostra santa chiesa Non ci sono pagani in questa storia Solo uomini di Dio Sta zitto! Ricordi che nel periodo più acceso della lotta tra Cuniacensi e Cistercensi I primi accusarono i secondi Non voglio sentire E' orribile ciò che sta in perdere Li accusarono di non portare le bracche Fermatino! E nello Speculum Stultorum si racconta dell'asino Brunello Che si chiede che cosa accadrebbe se di notte Il vento sollevasse le coperte E il monaco si vedesse le pudende Facci là! Finisci là! Tu vuoi metti i peti? Peti! Hai ragione Hai ragione venerabile Orche Ti chiedo perdono La mia bocca ha tradito i miei pensieri Non volevo mancarti di rispetto Forse quello che dite è giusto E io mi sbagliavo Bene vado E voi seguitemi tutti Puglielmo Devo parlarvi subito Dietro il padre Uscite per primo Vi seguirò appena mi sarà possibile Il nome della rosa Di Umberto Eco Decima puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Pino Micol Claudio Bigagli Paolo Lorimer Fabio Poggiali Pier Giorgio Fasolo E Lia Schilton Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Posta elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Agambia ihr C Whole Scripture score Gillie Favara Chiocciolarai.it Bé Chiocciolarai.it Chiocciolaai.it vania.it Dorsi Shavara.it Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Bencio da Uppsala rivela che Sodoma e Gomorra possedevano peccaminosi fedeli nell'abbazia e che Berengario pur di godere del corpo di Adelmo molto in là si spinse Undicesima puntata Dove c'era me? È nell'armato, maestro Dobbiamo trovare una saggia e ragionevole via d'uscita dallo scriptorium Malachia, tu che sei il bibliotecario ti ordinò... Oh, Guglielmo, ma quali accenti? In virtù del mio mandato conferitomi dall'abbate ti prego, non ti resta che obbedire e immediatamente tu e tutti i presenti nessuno escluso, capito? Non metto in dubbio la tua autorità Meglio così Dici dunque che vuoi Finché io non potrò essere di ritorno nessuno dovrà avvicinarsi al tavolo di Venanzio Provvedi tu stesso o metti un uomo di guardia, chiaro? Se così vuoi È così che voglio A più tardi, Malachia Non vedo l'ora di raccogliere le confidenze di Bencio Lo sapremo presto Eccolo qua Allora, Bencio? Io non so nulla dei segreti di Adelmo, Venanzio e Berengario Ma spero nella tua indagine Cosa vuoi dire? Vorrei che se non altro finisse per stimolare l'abbate ad allentare la disciplina intellettuale che pesa sui monaci venuti da tanto lontano proprio per nutrire la loro mente Senti, Bencio Ci stai facendo perdere tempo in chiacchiere pane Vuoi nascondere o vuoi rivelare? Deciditi a dire quello che sai Dovrei raccontare della stessa nefasta passione per cui la collera di Dio colpì Sodoma e Gomorra Qual maraviglia tu sei, Azzu mio Furo e fresco, siccome fagioli A cui ci legami Ci tengono lontani da quella sentina di vizi che è il corpo della femmina Ma tu, femmina, non sei Una sera ho colto un colloquio inquietante tra Perengario e Adelmo Conoscerò il segreto Adelmo caro, te lo prometto Ben turpe mercato Quello che mi proponi Non è così Tu pure in fondo non desideri altro Siamo così simili noi due Bellissimo Adelmo Esce che ti accarezzi No Capite quanto egli sia ignobile Ha usato le armi del ricatto per ottenere da Adelmo quanto la virtù e il decoro avrebbero dovuto sconsigliargli di donare Quale ricatto? Ah, il più grande, Guglielmo Un corpo in cambio degli arcani della sapienza Così che Adelmo potesse nutrire l'illusione di piegarsi ad un peccato della carne per accontentare una voglia dell'intelletto Sì Io credo che sia andata così D'altra parte, Guglielmo Non ci sono momenti in cui voi stesso fareste cose riprovevoli pur di avere tra le mani un libro che cercate da tanti anni Un libro? Ma la virtù non può essere oggetto di scambio Le voglie dell'intelletto, Guglielmo Pur di accontentarle io asseconderei voglie carnali, non mie Persino contro la voglia carnale ma voglia carnale medesima La notte prima che Adelmo morisse io li ho seguiti Dove? In dormitorio appena dopo compieta Sono entrato nella mia cella che non era lontana dalla loro Ho lasciato la porta socchiusa e ho visto chiaramente Adelmo scivolare nella cella di... Berengario Vieni Il silenzio era assoluto come il sonno dei monaci Ho vegliato a lungo senza riuscire ad assopirmi poi ho udito la porta di Berengario che si apriva Aspetta Lasciami Lasciami Guglielmo È stato angosciante Ti supplico non andare Devo Non riuscirai a fermarmi E poi? Poi cosa è successo? Li seguì nell'ombra Svolta è l'angolo e vidi Berengario tremante Immobile Appoggiato alla porta di Jorge E Adelmo? Dentro Probabilmente prostrato ai suoi piedi A confessare il suo delitto Mentre Berengario fuori vaneggiava in preda al terrore Il mio segreto stava per essere asvelato a Jorge Seppur sotto il sicilio del sacramento E poi? Poi Adelmo uscì Pallidissimo E poi fuggì via come se avesse il diavolo e le calcagne E dove andò? Corsi in chiesa probabilmente per pregare E Berengario? Sempre dietro ma lui non osò entrare nella casa del signore Rimase tra le tombe del cimitero A torcersi le mani e a singhiozzare E tu? Ero rito contro il tronco di una quercia tra le tombe E all'improvviso mi accorsi che c'era anche qualcun altro Quasi mi sfiorò ma non si accorse di me Chi era? E nanzio Entrò nel coro e io me ne tornai nella mia cella Già troppo avevo visto quella notte E questo è tutto Maestro Credete che Bencio ci abbia detto la verità? In linea di massima, sì Dunque Berengario ha davvero svelato ad Adelmo un segreto Che ahimè per noi segreto rimane Ne sono convinto E Adelmo corre da Jorge per farsi assolvere Sì Forse nemmeno gli concede la soluzione O forse gli impone una penitenza impossibile Fatto sta che Adelmo corre in chiesa a prosternarsi davanti all'altare Ma non placa il suo rimorso E a questo punto viene avvicinato da Venanzio E forse gli confida il segreto avuto in dono o a pagamento A Berengario Può essere E forse gli confida anche che ormai non gli importa più nulla della vita Ma a questo punto il punto focale diventa Venanzio E cosa fa Venanzio? E Adelmo? Progetta di uccidersi Esce disperato dal cemitero e incontra Berengario Gli dice le parole tremente Lo chiama il suo maestro di turpitudine Gli ripete le parole di disperazione che deve aver udito da Jorge Ed ecco che Berengario se ne va sconvolto da una parte E Adelmo corre a uccidersi dall'altra Tutti credono che Adelmo sia stato assassinato Venanzio infatti finisce per convincersi Che il segreto della biblioteca è ancora più importante Di quanto abbia mai immaginato E continua le ricerche per proprio conto Finché qualcuno non decide che è giunta l'ora di fermarlo Per sempre Ma chi può essere stato? Chi l'ha ucciso? Berengario? Può essere Come può essere stato Malachia? E' lui che deve costruire l'edificio O magari qualcun altro Ma Berengario è sospettabile Proprio perché è spaventato E sa che ormai Venanzio conosce il suo segreto Ma pure Malachia è sospettabile per lo stesso motivo E' lui il vero difensore dell'integrità della biblioteca Scopre che qualcuno l'ha violata E allora uccide Ma non dimenticarti di Jorge Jorge? Ma come può un uomo cieco ucciderne un altro nel piano delle forze? E come può un vecchio benché robusto Trasportare il suo cadavere e buttarlo a testa in giù Nella giara del sangue dei maiali? Come, come, come? Non ho risposte per tutto E Bencio? Sospettate dunque di lui Secondo te non potrebbe avervi mentito mosso da fini infamanti? Ma allora che cosa facciamo? Vedrai mio caro Ci occorrono due cose La prima, sapere come si entra in biblioteca di notte E la seconda, avere un lume Un lume? Già, pensaci tu Gira in cucina all'ora di pranzo e prendine uno Ma un furto Soltanto un prestito alla maggiore gloria del Signore Se è così, contate pure su di me Tra un'ora andremo a mensa E dopo abbiamo una riunione con l'abate E riconobbi il giacinto Il topazio Il rubino Lo zaffiro Lo smeraldo Il crisolide L'onice Il carbonchio Il diaspro L'agata Sono sopraffatto Commosso da tanta magnificenza e ricchezza Non avevo mai visto un tesoro così immenso Con queste meraviglie che tu vedi E altre che vedrai Sono il retaggio di secoli di pietà e di devozione Sono la testimonianza della potenza e della santità di questa abbazia È stupefacente Siamo convinti Che si debba rendere l'omaggio anche attraverso l'esteriore ornamento della sacra superlettile Sì Questa è sempre stata l'opinione dei grandi e del vostro ordine Noi francescani invece Già Voi francescani Sì Noi E la povertà Certo Certo sì Noi abati benedettini Abbiamo dato protezione e ricetto ai francescani spirituali Anche se loro predicano la rinuncia ad ogni bene terreno Mentre noi seguiamo una vita non meno virtuosa ma Del tutto opposta Un eccessivo potere del papa può significare un eccessivo potere del vescovo E dunque delle città e dei suoi mercanti L'abati dice sempre A noi piace essere mediatori tra cielo e terra Essere consiglieri dei sovrani Per questo ha ricevuto frate Gugliel Da quando l'orrido papa francese Santità Buongiorno Santità Questo maledetto generale dei francescani Questo Michele da Cesena Ha venduto all'imperatore Lo voglio qui Ad Avignone Santità non verrà mai Non senza garanzie Teme che lo mandiate a rogo Teme a verdonde L'eretico Michele però non vuole rompere con vostra santità Sa che senza il vostro consenso Non potrà rimanere a lungo alla testa del suo ordine E' disposto a mediare Voi sapete questo? Sì C'è un tale abate benedettino in Italia Uomo di grandi ambizioni Che sarebbe disposto a ospitare Voi conoscete Guglielmo da Vaskerville? L'inglese amante di vaccino e il giudice che non vuole giudicare Lui sarebbe disponibile a nome di Michele dell'imperatore A discutere della povertà Mai? Sarebbe una scusa Santità Guiderebbe una delegazione Ne incontrerebbe volentieri una nostra E mentre si discetta potrebbero essere presi accorti No! Non mi avranno mai Mi hanno preso il loro intero italiano No! L'abate accetterebbe che i nostri messi pontifici Fossero protetti da un piccolo trappello di soldati francesi Mai visto un abate disposto a rinunciare a sua autorità Santità non si è detto questo I nostri armati avrebbero giurisdizione soltanto sulla salvaguardia della nostra legazione Accetta questo? Sì D'altra parte nulla potremmo interferire sui suoi monaci e sul popolo della pazia sua A meno che? A meno che qualcuno non sia di pericolo alla nostra incolumità E con tutti quei minoriti D'accordo Scoprire chi sarà con Guglielmo E si è attrezzata una squadra adeguata allo scopo Mio abate Veramente Guglielmo Pensavo di aver invitato solo voi Vi riferite al giovane Azzo? In effetti Dovete comprendere Azzo mi è indispensabile Il nome della rosa Andrea Giordana Max Malatesta Claudio Bigagli Giancarlo Zanetti Paolo Lorimer Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Bruno Viola Loris Lotti Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Grazie a tutti Grazie a tutti Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove l'abate trema e tra Papa e Imperatore si svela finalmente la vera missione di Guglielmo e dove il centenario Alinardo insegna il modo di penetrare nella biblioteca Noi abate benedettini abbiamo dato protezione e ricetto ai francescani spirituali anche se loro predicano la rinuncia ad ogni bene terreno mentre noi seguiamo una vita non meno virtuosa ma del tutto opposta Perché un eccessivo potere del Papa può significare un eccessivo potere del Vescovo e dunque delle città e dei suoi mercanti A noi piace essere mediatori tra il cielo e la terra essere consiglieri dei sovrani Per questo mi sono offerto di ricevervi Frate Guglielmo Da quando l'orrido Papa Francese Questo maledetto generale dei francescani questo Michele da Cesena fin tutto l'imperatore Lo voglio qui ad Avignone a regolare conti Per questo sono terrorizzato Queste due morti Vi capisco Il nostro prossimo incontro con la legazione a Pontificia non deve essere compromesso dal dubbio di un complotto ai loro danni Certamente no Per questo dovete trovare subito il colpevole Sto facendo il possibile Io non potevo immaginare quando i patti furono stabiliti che potessimo essere funestati da lutti tanto misteriosi Sarebbe difficile Tacelli Non credete? Sono d'accordo con voi Oltretutto qui siamo pieni di minoriti Magari persino di qualche orribile seguace di Fra Dolcino Il Cellario, per esempio Remigio da Varagine Un dolciniano Ma no A me pare assai mite e in ogni caso molto poco preoccupato di Madonna Povertà Lo so, lo so E voi sapete anche con quanta sollecitudine il nostro ordine ha accolto gli spirituali quando sono incursi nell'elevia del Papa per sospetta eresia Abbiamo dunque due compiti in comune Il successo dell'incontro e la scoperta di un assassino È vero Dobbiamo procedere di comune accordo Ma ho parlato di queste cose perché credo che ci sia un rapporto Mi capite? Quale? Tra i delitti e le tesi dei vostri confratelli Sbaglio o mi state suggerendo che all'origine di queste morti possa esserci qualche oscura storia che risale al passato ereticale di qualche monaco L'inquisitore siete voi Io sono soltanto il padre comune Abbate, io... Dobbiamo prevenire ogni sospetto o insinuazione da parte degli avignonesi Questo vi è chiaro? Fin troppo Abbate Fin troppo A meno che qualcuno non sia di pericolo alla nostra incolumità e con tutti quei minoriti D'accordo Scoprire chi sarà con Guglielmo e si è attrezzata una squadra adeguata allo scopo Benedicamuston Maestro Siete dirato Scuro in volto E' l'abbate che all'improvviso ci svia su un'altra traccia il cellario e di conseguenza su quello strano animale di Salvatore venuto qui con lui Ma io non ci sto Volete dire che non rinunciate al vostro proposito di penetrare nella biblioteca? Assolutamente no Vedi Azzo secondo me le cose stanno così L'abbate mi ha chiesto di indagare su Adelmo quando pensava che accadesse qualcosa di torbido tra i suoi uomini Ma una morte di Venanzio ha totalmente cambiato la cosa? Giusto All'abbate deve essere venuto il sospetto che la chiave del mistero stia nella biblioteca Ma sulla biblioteca non vuole che si indaghi E dunque ci regala la falsa pista del cellario per distoglierci dall'ultimo piano Ma perché non dovrebbe volere? Avrà le sue buone ragioni Magari anche lui è coinvolto Allora viviamo in un posto abbandonato da Dio Guarda che arriva Alinardo da Grotta Ferrata Chi è? Il monaco più vecchio di tutta l'abbazia Avviciniamoci Giornata serena a te Alinardo Serena nel cielo scura in terra Guglielmo mio Per via di Venanzio? Venanzio chi? Ah già Venanzio il ragazzo morto La bestia si aggira nell'abbazia Quale bestia? Quella che pare un leopardo coi piedi come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone Io l'ho vista Sì l'ho vista E dove? In biblioteca forse? In biblioteca? E perché? Sono anni che non vado più nello scriptorium e non ho mai visto la biblioteca Nessuno va in biblioteca Io conobbi coloro che salivano in biblioteca Malachia? Perengario? No Prima molto prima il bibliotecario che venne prima di Malachia tanti anni fa E chi era? Il nome il nome no non lo ricordo è morto quando Malachia era ancora giovane e poi quello prima di lui Ma tu nella biblioteca? No Io non sono mai entrato nel labirinto Come? La biblioteca è un labirinto? Sì è un labirinto come il mondo Entri e non sai se ne uscirai Non bisogna mai violare le colonne d'erco del labirinto Leonardo Ma come si entra quando le porte dell'edificio sono chiuse? Lo so io come lo sanno in tanti E da dove si passa? Dall'ossario Allora è facile Non è facile È impossibile E perché? Ma perché i monaci morti vegliano Le ossa calano a poco a poco dal cimitero e si radunano lì a custodire il passaggio Non hai mai visto l'altare della cappella che reca all'ossario? È la terza da sinistra dopo il transetto vero? È quella con la pietra dell'altare scolpita con mille scheletri Il quarto teschio a destra sì proprio lui Cosa succede a quel teschio? Facile Spingi negli occhi e sei nell'ossario Un bottone segreto? Un bottone segreto Ma tu nell'ossario non ci vai Io non ci sono mai andato L'abate non vuole E la bestia? Dove hai visto la bestia? L'anticristo sta per venire Il millennio è scaduto Aspettiamo Ma il millennio è scaduto da 300 anni E allora non venne Si conta dalla donazione di Costantino Vedi sono mille anni proprio ora Sta dunque per finire il regno dei giusti? Chiedi a Orche Lui è giovane ricorda bene Ma tu non hai udito le sette trombe? No Non saprei Io sì Le sette trombe Sì Le ho sentite È Dio che ci pulisce Maestro Si è assopito Sono sicuro che ci abbia detto qualcosa di assai importante sul modo di penetrare nell'edificio Dunque gli credete? Hai visto anche tu la cappella da cui è uscito Malachia la notte scorsa Sì non è stata un'allucinazione L'avi è davvero un altare di pietra e sulla base sono scolpiti dei teschi Tutti sussurrano che il peccato è entrato nell'abbazia E tu giovane monachello hai dei ceci? Come ceci? Ceci, ceci Ma cosa c'è di tanto strano? La prossima volta portami dei ceci Vedi la mia povera bocca senza denti? Li tengo dentro finché si ammollano Stimolano la saliva E la saliva è fonte della vita Me li porti domani? Sì padre Lo prometto Domani Allora stasera Proveremo Il quarto a destra Spingere sugli occhi Stasera Proveremo Ci puoi giurare? Maestro Guardate La base dell'altare è un ossario Dio mio teschi Dimmi Su Prendiamo il quarto teschio a destra Spingiamogli gli occhi Guarda Cazzo L'altare si muove È un miracolo No Non è un miracolo Sono perni L'altare Sta girando Su di essi Là Là Se vede un'apertura Così buio Avvicina il lume Gradini Ci sono dei gradini Scendono Avanti Fai strada E l'altare Non dovremmo Richiudere il passaggio No Meglio di no Dubito Che sapremmo Riepererlo Di dentro Attento Guglielmo Sono dieci scalini Dio mio Che orrore Ma cos'è Che si muove Calmati Alzo Calmati È solo un topo Un topo E che ci fanno Qui i topi Passano Come noi Libri e cucina Il miglior cibo Che possono trovare Qui partono Alte scalini Questa volta Finalmente si sale Fai luce Una porta Sì Non sembra chiusa Apri Ma questa è la cucina Sì Siamo proprio dietro il camino E là Là c'è la scala a chiocciola Che porta lo scrittorio Andiamo dunque Sì Sì Andiamo a faccio Spengo il numero Se spegni Non sappiamo dove andiamo Se lo lascia acceso Diamo l'allarme Anche eventualmente Si trova nello scrittorio E allora? Procediamo così Confido che se c'è qualcuno Egli abbia Molta più paura di noi Com'è ampio lo scrittorio Ecco il tavolo di Venazio Sembra in ordine Vediamo i fogli nello scaffale Per le corna del maligno Manca qualcosa? Oggi ho visto qui i due libri Uno era in greco Ed è quest'ultimo che manca? Già qualcuno lo ha tolto E anche di gran fretta Guarda in terra È caduta una pergamena I vostri ordini erano chiari Il tavolo doveva essere sempre vigilato Qualcuno vi ha messo le mani Solo poco fa Andiamo Andiamo di qua Forse è ancora qui Se sei qui Bada a te Meglio Che chi ci incute paura Abbia più paura di noi Fuori Vieni fuori Adesso basta Quel che doveva capire Ormai l'ha capito Su Raccogli quella pergamena Facciamo come se non la fosse? Esatto Avrò bisogno delle mie lenti Tu che cosa leggi? Non capisco molto bene Direi che è greco Ha scritto davvero molto piccolo Persino con i miei attretti Leggo a fatica Fammi luce Viene più vicino Attento Attento Stai bruciando tutto Il nome della rosa Doris Loddi Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chioccio 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 Caricolari Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Guglielmo trova il passaggio segreto Ma anche si scopre una tal pergamena di Renanzio Un'ombra misteriosa fuggendo gli ruba le lenti Tredicesima puntata Cosa sono questi tratti strani? Non assomigliano ad alcun alfabeto se non a quello dei negromanti Fantastico, sempre più interessante Ma sarà meglio non esporre questa scoperta all'insidio del nostro ospite misterioso Adatto È là, è là, ai piedi della scala che porta alla biblioteca Prendilo, forza, seguimi in fretta È andato da questa parte Presto, vediamo Stolto che sono Presto, Azzo, vai al tavolo di Venanzio Ha gettato con testo libero per distrarci, per attirarci lontano Non c'è, è sparito Giù per le scale, corri all'ossario Volo È sparito E l'ha dato dall'ossario? No, ha infilato la porta del refettorio Fa più nulla Scomparso Lo immaginavo Non ti avevo predetto che qui dentro ci sono altri passaggi Ma dove? Questa era una rocca E deve avere più accessi segreti di quanto non sappiamo Su, risaliamo nello scrittorio Vedi dunque che è inutile continuare a cercare Già, in questo momento Forbastro starà riemergendo da qualche parte lontana Con lui le mie lenti Le vostre lenti? Proprio così ha afferrato i miei vetri dal tavolo Ma perché? Perché non è uno sciocco Senza, non sarò in grado di interpretare questi appunti E sa che non mi fiderò a mostrarli a nessuno Ma come faceva sapere delle vostre lenti? All'interno dello scrittorio non mi hanno visto tutti Su, sediamoci Ma com'è possibile? Magia? No, no, ma è sumissima, Magia Venanzio voleva celare un segreto importante E ha soltanto usato succo di limone Scrive senza lasciare traccia E ricompare col calore Ma poi svanisce di nuovo Può essere E' per questo che adesso ricopierà ingrandendoli tutti questi segni Il meglio che puoi Su, affrettati Ma sono linea stregonese No, è certamente un alfabeto zodiacale Occorrerà decifrarlo Avanti, copia Ecco Maestro, va bene così? Perfetto Ecco qua Alfabeto zodiacale Lo sapevo, lo sapevo Sì, sì Sagittario Sole Mercurio Scorpione E cosa significano? Se Venanzio fosse stato un ingenuo Avrebbe usato l'alfabeto zodiacale più comune Il sole uguale alla A Giove uguale alla B E così via Ma Venanzio non era ingenuo per cui? Ha riformulato l'alfabeto secondo un'altra chiave E voi la scoprirete? Certo A Oxford ho potuto farmene leggere qualcuno Bacone diceva che la conquista del sapere passa attraverso la conoscenza delle lingue Abu Bakr Ahmad Ben Ali Insomma, quanto ci metterete a decifrare questo caos? Abbastanza Ma non più di un giorno Basta avere pazienza E volete incominciare adesso? Azzo, azzo Riponi la pergamena ai tuoi appunti E saliamo in biblioteca Siete proprio sicuro che ci tocca? So che niente mi fermerà Soprattutto dopo quanto ci è appena successo Ma chi, chi potrebbe essere stato a procederci qui? Pensate che sia stato Bencio O Berengario O Malachia O Jorge O Pacifico da Timoli O un altro qualsiasi Dei monaci che abbiamo visto qui oggi O Nicola il vetraio Che sa dei miei occhiali O Salvatore Che gira di notte per chissà quali faccende O Berengario O Malachia Basta Vedi, azzo Dobbiamo stare attenti Molto attenti Non dobbiamo restringere il campo dei sospetti Solo perché le rivelazioni di Bencio Ci hanno orientato in un'unica direzione Come sempre avete ragione voi Ma non scordare Che il primo dovere di un buon inquisitore È quello di sospettare per primi Proprio coloro che ti paiono sinceri Gran brutto mestiere Guardate l'inquisitore Andiamo La biblioteca ci aspetta Non avevo mai visto una sala come questa A sette lati È angusta È priva di finestre La paura mi sta di nuovo bloccando le visce Mi sembra che il cuore è quasi cesse di pattere E sento odore di inferno No, no Direi piuttosto che questo È odore di paradiso È profumo di muffe antiche Lo stupendo e nebrante profumo Di migliaia e migliaia di libri Del sapere dei secoli È questo Che vellica le tue narici Spesso i libri parlano di altri libri Spesso un libro innocuo È come un seme Che fiorirà in un libro pericoloso O all'inverso È il frutto dolce Di una radice amara Non di rado I libri parlano di libri Ovvero E come Se si parlassero tra loro E la so Sopra quel barco scuro Che conduce in quell'antro nero Che dice? Apocalipsis Jesu Christi Apocalipsis Jesu Christi Jesu Christi Apocalipsis Jesu Christi Che cosa facciamo ora, Guglielmo? Su, in fretta ora Entriamo da quel barco No, da quello E vediamo cosa troviamo Un'altra sala Qui c'è pure una finestra Ma quelle Quelle non sono vetre Già Mi paiono lastre di alabastro E ci sono solo due pareti piene E un barco Avanti Attraversiamolo Un'altra sala ancora E poi un'altra Cinque stanze quadrangolari O vagamente trapezoidali Con una finestra ciascuna Che girano intorno A una stanza epitagonale Senza finestre Su cui sale la scala Fine maestro Non si procede oltre Occorre tornare indietro Siamo Nel torrione orientale Il conto torna Credo che ci orienteremo facilmente Tentiamo con i cartigli Come si chiamava l'ultima stanza Da cui siamo tornati indietro? Ecus albus Ebbene Ritroviamola E' una parola Questa non è Questa neppure Idem come sopra Sando Cosa succede? Andiamo Là No, è un fantasma No, è un gigante mostruoso Mi stava venendo a tosse E ora? E ha una lanterna in mano? Sì, sì Ma come fate? Calmati Azzu Calmati E' solo uno specchio Uno specchio? Poco fa nello scriptorium Ti sei lanciato contro un nemico vero E ora Ora ti spaventi di fronte Alla tua immagine Ma non so io quello E perché ti rimanda Ingrandito e deforme Dovresti leggerti un trattato di ottica Alcuni specchi fanno di un nano Un gigante E di un gigante Un nano Gesù, signore Sono dunque queste le visioni Che qualcuno dice di aver visto in biblioteca? Forse Un'idea davvero ingegnosa Senza quei benedetti oculi Ad leggendum Non riesco nemmeno a capire Che cosa ci sia scritto Sul dorso di questi libri Anch'io riesco a leggere questi titoli Non hanno lettere dell'alfabeto E neppure greco Altrimenti lo riconoscerai Sembrano vermi Serpentelli Caccone di mosca E arabo Ce ne sono altri così? Sì, in quantità Maestro Là giù Un chiarore Spostatevi verso di me Là Nella fuga di quelle stanze In fondo Sì Vedo C'è qualcuno Vado io Se c'è davvero qualcuno Si è già accorto del nostro lume Tocca a me andare Io sono più piccolo e più leggero Restate là Procederò cauto al buio Tenete voi il lume Messia Vai tu Non c'è nessuno Cos'è questa sorta di turibulo E questo libro aperto Vediamo Mio Dio Adesso si è risalvo È finita Allora Cosa ho visto? Non ho visto proprio nulla Te lo assicuro Non è possibile Ho trovato che Delgravi È ai piedi di un tavolo Con sopra una bella Apocalisse mozarabica Aperta sulla pagina Della donna Vestita di sole Che affronta il trago Non capisco Mi sono accorto Dall'odore Che avevi respirato Qualcosa di cattivo E ti ho portato Subito via La mia testa Sì, pure Meduola è il capo E anche molto Ma perché? Erbe Capaci di dare visioni È un'erba degli arabi Forse la stessa Che il veglio della montagna Dava ad aspirare I suoi assassini Prima di spingerli Alle loro imprese Ma a che scopo In un posto santo come questo? Per convincere I visitatori inopportuni Che la biblioteca È protetta Da presenze diaboliche E così è bello spiegato Il mistero delle visioni Per metà Ti sei ritrovato Ad ampliare Ciò che avevi scorto Sul libro E per l'altra Hai lasciato parlare I tuoi desideri E le tue paure Geniale Sì, sarà bene Riparlarne con Severino E al più presto Pensate dunque Che egli ne sappia Più di quel che ha voluto Farci credere Ne sono certo Azzo Signore Svecchi erbe Qualmente perversa C'è dietro Quella di chi presiede Alla santa difesa Della biblioteca Di chi usa la scienza Per occultare Anziché illuminare Il nome della rosa Di Umberto Eco Tredicesima puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it A cura di Ida Sansone Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Guglielmo e Azzo Si perdono nel labirinto Della biblioteca Dove Azzo si reca Nello scrittorio Mentre fuori Continuano vane Le ricerche di Berengare A un lungo colloquio Con se stesso Quattordicesima puntata Ora Dobbiamo uscire di qua È inutile cercare Di aprire queste finestre Troppo alte Forse chiusi da decenni Come hanno potuto pensare Che Adelmo Si sia gettato di qui No maestro Non mi reggo in piedi E il mio stomaco Tuttavia Le vostre parole Mi rincuolano Sono certo Che riusciremo Ad uscire di qui Siete dunque Asperto Anche di labirinti Avanti Così Sento che Questa è la direzione giusta Non avete nulla Di più scientifico Su cui basarvi No ma la prossima volta Provo anche le mie lenti Se il percorso dei cartigli Oggi ci confonde Sono sicuro Che domani Quello dei libri Ci indicherà La retta via Volete dire Che troveremo le vostre lenti Prima di uscire Assolutamente no Ma me ne farò fare Delle altre Credo che il vetraio Ha gli attrezzi giusti Dunque Non avete dubbio alcuno Che rivedremo le stelle È questione di minuti Alzo Resisti Fermiamoci un attimo Respira a lungo Forte Mi sta sferendo il vuoto Il lume Alza il lume Svelto Sentite pure voi Guarda la fiamma La fiamma Che cos'ha la fiamma Si muove Io voglio L'avaneggiate anche voi Vi ho visto La mano invisibile Ha sferato pure le vostre gote Non è stata un'etere mano Ma aria Pura e semplice aria Ecco guarda Azzo All'altezza dei tuoi occhi Due feritoie Fammi luce È vero maestro Dovevo aspettarmelo Sì La biblioteca Doveva pure avere Un sistema di areazione Altrimenti L'atmosfera Sarebbe irrespirabile Soprattutto d'estate Su su Avvicina l'orecchio Ascolta È vero Sento come uno stormire E il vento di fuori Andiamo ancora per di là Se non troveremo l'uscita Non ci resterà che dormire In una qualsiasi di queste sale In attesa che prima o poi Malachia si imbatta in noi Ecco la scala Il cielo si è ringraziato Sì è proprio la scala Malachia dovrà attendere un'altra volta Per metterci il sale sulla coda Ti è tornata l'allegrezza Eh Azzo Sono felice per te E anche per me ti devo confessare Sarebbe stato un bello smacco Su in fretta Via da qui Non voglio farmi sorprendere Proprio all'ultimo Sarà bene trovarci Nelle nostre celle Prima che suoni il mattutino Su in fretta Guardate Proprio sulla soglia Del nostro albergo La parte Sembra molto adirato Concederò a voi Il privilegio Di placare la sua ira È tutta la notte Che vi cerco Non vi ho trovato in cella Non vi ho trovato in chiesa Seguivamo una traccia Una traccia eh Ricordate Siete stato proprio voi A farmi urgenza Ho iniziato a cercarvi Subito dopo con pieta E perché mai eccellenza? Berengario Non era in coro Cosa dite? Non solo Berengario Non era in coro A con pieta Ma non è tornato Neanche nella sua cella Aspettiamo il mattutino E se non compare Avremo qualcosa Su cui meritare Non comprendo perché Ma voi sembrate Così indifferente Guglielmo Io pavento Qualche nuova sciagura Io non voglia Pater nostre Quiesi in celis Sanctificetur Nomen tu Adveniat regnum tu Fiat volundas tua Buongiorno Hai visto frate Berengario? No, non mi sembra È strano Di solito uno dei primi Ad alzarsi Andiamo nella sua cella Dimitta nobis debita nostra Sicutet nos Dimittimus debitorimus nostris Ed in nos Inducas in tentazione Sed lì per la nostra Dove, dove va Sono qua, fratello Sono qua Cosa hai trovato? Il panno bianco Sporgo di sangue Sangue? Il panno bianco Sporco di sangue Ora tutto è chiaro Ma allora Dov'è Berengario? Non lo so Inutile scervellarsi tanto Gli inglesi sono fatti così No, è che noi sappiamo aspettare Vedrete Su, dividiamoci per andare a cercarlo Voi andate ai piedi della scarpata E voi intorno alle mura Fratello Allunga la mano Facciamo a catena Su Così Tienimi La scarpata è ripidissima in questo punto Vedi qualcosa? No Solo immense lorture Scava Sotto quel mucchio E' inutile Non c'è niente Voi altri Di su Ehi Novità Trovato qualche traccia Maestro Guglielmo Guardate laggiù I monaci stanno tornando dalle ricerche ma di Berengario ancora non vedrà traccia Speriamo che lo si trovi, azzo Io sto andando da Nicola, il maestro Petraio Perdonatemi, Malachia, mi è permesso sfogliare il catalogo dei libri? Accomodati pure, giovane azzo Ma stai in silenzio E non disturbare le opere che qui si svolgono Me ne guarderò bene Se parole saranno, saranno mute Quinti sereni de medicamentis Fenomena Liber es opi De natura animarium Che calma Con quanta serenità costoro si dedicano solo al lavoro Come se non fossero turbati dalla misteriosa morte dei loro confratelli E oggi si aggiunge anche la scomparsa di Berengario Lo stanno cercando ovunque Certo, è questa la grandezza dell'ordine Per secoli e secoli codesti uomini hanno visto irrompere le turbe dei barbari A saccheggiare le loro abbazie A precipitare i regni in vortici di fuoco Eppure mai hanno cessato di amare le bergamene e gli inchiostri Hanno continuato a leggere fiori di labbro parole che si tramandavano da secoli E che essi tramandavano ai secoli a venire Sì E hanno continuato a leggere e a copiare mentre si oppressava il millennio È questa la vera seduzione Quella che per i laici è la tentazione dell'adulterio Per i monaci è la brama della conoscenza Perciò non mi stupisco che il mistero di questi delitti ruota intorno alla biblioteca Oh sì, questi bravi monaci vivono per essa, con essa e forse anche contro di essa Sperando magari colpevolmente di violarne un giorno tutti i segreti Ora guardando Pacifico da Tivoli E Magnus da Iona E Rabano da Toledo Capisci quanta felicità debbano provare? È palese sui loro visi Sì Pare proprio che essi stiano vivendo le loro ore di paradiso in terra E stanno solo producendo nuovi libri Ma qualcuno potrebbe cercare una beatitudine ancora superiore Ora capisco Sì Perché allora non rischiare la morte per superbia di mente? Perché non uccidere per impedire che altri si approvi di un tuo geloso segreto? Eccolo qui il mio giovane affamato Vieni Azzo Senti che profumo questo brodo eh Prenditene una tazza E poi guarda qua che pezzi di carne Che delizia Cotene di porco, ali di gallina E quello cos'è? Ottimo pasticcio di pecora Osserva Salvatore laggiù nell'angolo Come si lecca persino le dita Ma come Salvatore? Non volevi forse la sua pelle solo qualche tempo fa? L'hai forse perdonato? Chiedilo a lui se tanto ti preme Mi avevi detto che rubavano la tua cucina Oh su, lascia correre Riempiti il piatto e lasciami ai miei doveri Con tutte codeste bocche da sfamare Salute a te Salvatore Vedo che mangi di buon appetito Salute a te Novizio Cava il diavolo non lo buono comer Vedi, esso io ora mangio per tutti gli anni che ho digiunato Perché? Molto patisti la fame? Oh, lo mio villaggio aveva aria cattiva Alluvioni, carestie, carestie Alluvioni, mea infanzia dolorosissima Anche i signori avevano i visi bianchi come i poveri Ma questi morivano di più Quando i miei parentesi ebbero digerito Tutte le carogne degli uccelli E tutti gli animali mondi che si potessero trovare Va bene? Allora, come usavano fare Incominciò a sotterrare i morti E il dia post sepoltura E quegli omeni malissimi che scavavano manu E tungoli sotto la terra dei ciliteri Qualcuno cadaveri Ma è orribile Non è stodo Quando la scadavera fresca terminaron Fu la volta dei viandanti Zac sulla gola E gnam I peggiori tra gli peggiori poi Adescavano i fanciulli con un uovo sodo auto Una mela Ne faceva scempio Inde li cocevano Una volta un uomo invenne al villaggio Vendendo carne cotta per poco dinero E cosa successe? Il prete spraicava Alta, alta, spianta umana Vedelle Fu fatto a pezzi dalla folla e feroce Ma è se la noce misma Un tale andò a scavare la fossa del acceso E mangiò lo cannibale Cosicché quando fu scoperto Il villaggio condannò a morte Il lunguoque Contrede? Ma basta Tutto ciò orrendo Come fai a continuare a mangiare la tua pecora Con tutta questa immonda indecenza? Ma mia infanzia dolorosissima fu Sì, va bene, basta Raccontami altro Quando partisti del villaggio nativo Dove andasti? Il nome della rosa Di Umberto Eco Quattordicesima puntata Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Pino Micol Giancarlo Zanetti Bruno Alessandro Pier Giorgio Fasolo Mario Bombardieri Elia Scilto Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Amén Schill Amén La nu contenta Chega più Grazie a tutti Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Azzol riceve le inquietanti confidenze di Salvatore Dove l'abate dà a Guglielmo una gran brutta notizia La delegazione del Papa sarà comandata dal terribile Bernardo Guglielmo Quindicesima puntata La mia infanzia dolorosissima Qua questo avvo rubacchiera mi faceva ammalato servivo a qualche signore scappavo della foresta mi univo a bande vaganti Bande di chi? Oh, di vaganti, falsimolaci charlatani arcatori, pezzenti estrazioni, nevrosi, storpiati cantastori mercenari, immaniti, giudei, erranti malfattori con le orecchie mozzate podomite bari, reti, barattieri, falsi di bolle, sigilli papale vendatori di indulgenze, corruttori di fonache Salvatore, basta, basta adesso Quindi, con malamacchia stavo con noi per la prima vez predicatori francescani auscultai loro un verba e compresi che vita paupera e terrabonda poteva tesse non cupa necessitate set magna gioia E cosa facesti? Entrai in molte sette penitenziari tirai un altro pezzo di mondo e feci per lo signore quadante facevo per lo mio ventre Quali sette? Molte, molte di molta nomina Anche umiliati patarini, valdesi catari Può essere, può essere Tutto questo quando successe? Più di trinta anni Antera E poi? In me fu in Toscana in conventa di fratres minoritos misi l'osaio di santo Francesco ma non presi gli ordini Quindi facemmo rotolare canonico di chiesa vicina accusato di rapine e tenefandezze ali e giù di scale E il peccator morì meritava punizione Eravamo santi ma dovemmo fucire Per dove? Per sostolosa mette carcassone e vi punivamo i ricchi in de los breos Perché gli ebrei? Perché gli predicatori dicevano che gli ebrei erano uomini nemici della cristianità e accumulavano quei beni qua pauperibus affamati erano negati Mio Dio Poi apiccavamo fuoco Uccidevamo e ce l'avamo sempre più santi Ma questa è follia No No Erat virtuosissima impresa in nomine cristi come liberare certo se poi c'è poi cerusalemme dagli infideli Mio Dio Sì 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 Lo nostro mismo Dio Che dinde casale Ubico Niovi Remigio Cellario Sì Ce l'ha detto Bertino Ma nei tuoi viaggi Hai mai conosciuto un frate Fra Dolcino Antivaganti Falcimoloci Cialatani Arcatori Pezzenti Straccioni Leprosi Stroppiati Contastori Emozionati Invalidi Giudeira Fammi provare questi cerchi Nicola Ottimi vetri Davvero pure codesti Che ne dici? Troppo spessi I miei occhi faticano ancora Prova a questi altri Intanto vado a dare le consegne ai fabbri per la forcella Ci vorrà poco Devo dire che le lenti che più mi soddisfano sono quelle di color smeraldo E dunque esse siano? No, no Non voglio vedere le pergamene come se fossero prati Mentre decidi io mi reco alla forza Vai vai Nicola No Azzo Sei qui Mi sbaglio o vedo nuvole sul tuo viso? Ho parlato a lungo con Salvatore E i suoi racconti ti hanno sconvolto Maestro Credo di essere un buon annulla Non riesco più a distinguere tra Valdesi Catari Poveri di Lione Giacomiti Beghini e tutti gli altri E non è mica torto Pensa a un fiume denso e naestoso E tu sai dove è il fiume dove è l'argine e dove è la terra Ma... Ma... Ma verso il mare il fiume diventa il proprio delta un ramo maggiore e mille altri rigagnoli minori e non sai più cosa sia ancora fiume e che cosa sia già mare Se capisco la vostra allegoria il fiume come città di Dio No, no il fiume è piuttosto la chiesa il suo corpo il suo corpo che è diventato troppo ricco e denso che trascina con sé le scorie di tutti i paesi che ha attraversato perdendo la propria purezza E il delta? Sono dunque quelli i rami delle tante eresie che non so più distinguere Già sono altrettanti tentativi del fiume di correre il più presto possibile al mare al momento della purificazione Ma perché degli eretici si parla sempre come di un'unica mala pianta? I semplici non possono scegliersi la loro eresia si aggrappano a chi predica nella loro terra a chi passa nel loro villaggio o nella loro piazza E' proprio su questo che giocano i loro nemici sulle loro povere ignoranti contraddizioni che subito diventano diaboliche contraddizioni e le usano a secondo dell'utilità politica del momento Il papa i vescovi l'imperatore E' davvero una vita difficile la vostra Sì ma poi ti capita di ritrovare Brunello il cavallo dell'abbate E allora vuol dire che c'è un ordine nel mondo No Più semplicemente vuol dire che c'è un po' più di ordine nella mia testa A proposito ho decifrato i segni cabalistici di Venanzio Come? L'ho detto così? E come dovrei dirlo? Ma solo i segni apparsi con la fiamma Gli appunti in greco devono attendere le nuove lenti Mastro Nicola sono pronte le lenti? Non ancora Guglielmo Venivo solo ad avvertirti che l'abbate ti attende in giardino E' urgente ha detto D'accordo Alzo Andiamo Ma si trattava davvero del Finisafric? Sì Leggi qua su questa pergamena Secretum Finisafric e Mano sopra Itulum Age Primum Septimum De Quator Che vuol dire? Mi sa Bisognerebbe sapere cosa Venanzio intendeva per Itulum Ma allora non sappiamo nulla più di prima E tu piccolo furfante illetterato osi dire che siamo al punto di prima Brutta cosa Guglielmo Ho ricevuto una lettera dalla base di Conte che sono certo vi inquieterà come ha inquietato me Che brutte notizie ci sono La base di Conte mi comunica il nome di colui al quale Papa Giovanni ha affidato il comando dei soldati francesi e la cura dell'incolumità della missione E chi è? Non è un uomo d'arma né un uomo di corte e al tempo stesso sarà membro della legazione Raro conubio di diverse virtù È Bernardo Gui o Bernardo Guidoni come volete chiamarlo La cosa non mi piace Bernardo è stato per molti anni martello degli eretici nel Tolosano Ha scritto una pratica inquisizioni saduso di tutti coloro che dovranno perseguire e distruggere Valdesi Beghini Pinzoccheri Fraticelli Dolciniani Lo so lo so conosco il libro Mirabile di Dottrina Ah sì? Bernardo è devoto a Giovanni Non è un mistero Gli ha affidato missione nelle Fiandre nell'Altitalia o anche Vescovo di Galizia Già e mai si presentò nella sua diocesi Ha sempre preferito fare l'inquisitore il martello ma credevo che finalmente si fosse ritirato nel Vescovato di Lodev Evidentemente non è così Papa Giovanni ha preso questa decisione ma perché inviarlo proprio ora e proprio qui e perché con la responsabilità degli armati Sapete bene anche se non volete ammetterlo con me che le posizioni sulla povertà di Cristo e della Chiesa sostenute dal capitolo di Perugia sono le stesse sostenute in modo molto meno prudente e con un comportamento meno ortodosso da molti movimenti ereticali Allora Bernardo mi vorrà sfidare vorrà sostenere che la posizione di Michele da Cesena e dunque le tesi di Perugia che l'imperatore ha fatte proprie sono le stesse dei fraticelli Siete d'accordo? Sì ma il punto non è questo E qual è allora? Se non troviamo entro domani il colpevole di questi delitti dovrò concedere a Bernardo di esercitare una sorveglianza sulle cose dell'abbazia Svegliatevi Guglielmo non posso tacere a un uomo investito nel potere di Bernardo Gui che in questa abbazia stanno avvenendo fatti inesplicabili Dovremmo vigilare su Bernardo che vigilerà sul misterioso assassino forse sarà un bene però così sarà meno disponibile intervenire nella discussione Bernardo alla ricerca di un omicida sarà una spina nel fianco della mia autorità Questa torbida vicenda mi impone per la prima volta di cedere parte del mio potere entro queste mura questo è un fatto nuovo non solo nella storia di questa abbazia ma dello stesso ordine che uniacenze farei qualsiasi cosa per evitarlo e la prima cosa da fare sarebbe legare ospitalità alle legazioni Non potete avete tra le mani una lettera dell'imperatore che vi invita a So, so che cosa mi chiede l'imperatore e lo sapete anche voi ma voi che cosa state facendo dove è il verencario cosa gli è accaduto Voi sapete che non si trova la verità in due giorni e poi abate che potere mi avete concesso posso entrare in biblioteca Non vedo il rapporto tra i delitti e la biblioteca Ma no Adelmo era miniatore denanzio traduttore verengario aiuto bibliotecario e voi non vedete alcun rapporto Allora in questo senso tutti e 60 monaci hanno a che fare con la biblioteca così come hanno a che fare con la chiesa Perché dunque non cercate in chiesa Ah, fate finta di non capire In questa cinta di mura io sono il solo padrone dopo Dio e per grazia sua Io ho violato un mandato voi eseguitelo Contento voi Ascoltate Due martelli insieme Sembra davvero che Papa Giovanni abbia intenzione di chiudere i conti con i francescani Di questo informeremo subito l'imperatore Fatelo E di gran carriera E di gran carriera voi trovate l'assassino Addio Il nome della rosa Di Umberto Eco Quindicesima puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Carlo Cartier Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Bruno Viola Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Azzo scopre che Salvatore è un buon cuoco e sa molte cose e dove Ubertino racconta ad Azzo la storia di Fradolcino Sedicesima puntata Troviamo in un gran brutto guaio frate Cuglielmo Sì Azzo però cerchiamo di non farci prendere dalla fretta Ma l'abbate Lascia stare l'abbate Non c'è di nessun aiuto Anzi Perché un eccessivo potere del Papa può significare un eccessivo potere del Vescovo e dunque delle città e dei suoi mercanti A noi piace essere mediatori tra il cielo e la terra essere consiglieri dei sovrani Per questo mi sono offerto di ricevervi Frate Guglielmo Pensiamo piuttosto al manoscritto di Venanzio Devo leggerlo al più presto Ecco Nicola che arriva Che nuove Nicola? Pessime nuove Azzo Pessime Non dimmi che... Sì Guglielmo mentre molavo il vetro delle lenti uno si è rotto E l'altro? Si è incrinato quando ho cercato di inserirlo nella forcella Perdonate frate Guglielmo Vai vai Ricomincia il lavoro da capo Starò su tutta la notte Vado Vado Pazzo una giornata persa È già l'ora del vespro Si sta facendo buio Penso proprio che stanotte non faremo un'altra visita alla biblioteca Maestro siamo ad un punto morto Andiamo a passeggiare nel chiostro Chissà che non ci venga qualche buona idea Ma sì Hai ragione Pensavo ad un modo per orientarci nella biblioteca Noi sappiamo solo che l'entrata è nel torrione occidentale Certo E allora che cosa stavate pensando? Pensavo che se avessimo una macchina che ci dice da che parte è il settentrione Sarebbe meraviglioso Ma non credo che neanche il vostro bacone posseghi una macchina del genere E invece ti sbagli Ti ricordi di quella pietra meravigliosa che abbiamo visto nell'ospedale di Severino? Quella che tira il ferro? Proprio quella E voi dite che con quella pietra potreste costruire la vostra macchina? Un arabo, un certo Bailek al-Kabayaki c'è riuscito Basterebbe seguire i suoi dettami E quale? Si prende un vaso pieno d'acqua Si pone a galeggiare un sughero su cui è infilato un ago di ferro Poi? E poi si passa la pietra magica sopra la superficie dell'acqua a lungo finché l'ago non acquisisce le sue stesse qualità Dopodiché la sua punta si disporrà sempre verso settentrione Che cosa meravigliosa Ma perché il lago punta sempre a settentrione? La pietra attira il ferro, l'ho visto Vuol dunque dire allora che ai limiti del globo in direzione della stella polare esistono immense miniere di ferro? Qualcuno dice di sì Ma del problema si sta occupando il mio amico Giovanni di Gianduno Quando l'imperatore non gli chiede di far sprofondare Avignone nelle viscere della terra Allora andiamo da Severino a prendere la pietra Piano piano Quello che non ti ho detto è che non ho mai visto una macchina che perfetta nella descrizione dei filosofi sia poi perfetta nel suo funzionamento meccanico Ma così mi deludete Guglielmo Tuttavia è vero il contrario La roncola del contadino che nessun filosofo ha mai descritto funziona perfettamente Mi fate scoppiare la testa con le vostre speculazioni Mi viene un'altra idea Dimentica la macchina e pensa all'edificio E' stato costruito secondo una regola ben precisa E noi quella dobbiamo scoprire Ecco Alzo Useremo le scienze matematiche Come dice avvero è Nelle scienze matematiche si identificano le cose note per noi e quelle note in modo assoluto Intanto tu che hai gli occhi buoni prendi una pergamena e una tavoletta Eccoli maestro Bravo Adesso andiamo a fare un giro intorno all'edificio sino a che abbiamo ancora un poco di luce Dobbiamo ancora capire se c'è una regola anche per la distribuzione dei libri nelle stanze I versetti dell'Apocalisse? Sì, molti si ripetono uguali Ecco Hanno usato tanti versetti quanto sono le lettere dell'alfabeto Non conta il testo conta soltanto la lettera iniziale Di Apocalipsi sia su Cristi vale unicamente la A E così, è così Ogni stanza una lettera e tutte insieme compongono qualche testo che dobbiamo scoprire Come se fosse un carme figurato a forma di croce o di pesce? Sì, una cosa del genere Ma da dove inizia il testo? Dalle frasi in rosso Ma sono tante E allora vuol dire che tanti saranno anche i testi Che cosa ne dici? Dico che siete un genio Sì, bene E fatta anche questa Ora andiamo a riposare Non posso far nulla senza le mie lenti Tanto vale dormire e levarci per tempo Cercherò di riflettere E la cena? Ah, già, la cena È passata l'ora I monaci sono già a compieta Ma forse la cucina è ancora aperta Vai a cercare qualcosa A rubare qualcosa, volete dire? Oh no, a chiedere Magari a Salvatore Che ormai è tuo grande amico E così sarà lui a rubare Ascolta, Caino Sei forse il custode di tuo fratello? Brunello, sta buon Sta buon, Brunello, sta buon Che adesso te dago da mangiare Sta buon, Brunello Bellissimo questo cavallo, Salvatore Mi piacerebbe molto poterlo cavalcare Ma non si può Ma non bisogna un buon cavallo per correre forte Anche quello, sufficit Vide il look terzio segui Ma chi è quello? Ma te dico mi Anche la bestia più vecchia e più fiacca Può diventare veloce come Brunello Occorre mescolare nella sua vena Un'erba che s'appella Satirion E pronunciare tre volte A voce bassa Caspare, Melchiorre e Merchisar Quello cavallo Corse in un'ora senza fadiga Il camin che Brunello avrebbe fatto in otto Satirion Remember? È bellissima una tua storia, Salvatore Ma io sono venuto a chiedervi del cibo Per me e il mio maestro Ma faccio mi Faccio il cazio in pasteletto E com'è? Faccio il cazio tagliato in petelline A bocconi quadri O sicuro te piace E poi? E poi ti metterai un po' di bottiglia Ovvero del strutto fresco A lasciar fare sopra la brasilia Sembra promettente E dentro vamo sapone Due vette di cazio E come te pare sia tenero Succarù Et canela Supra positorum dubis Dubis? Dubis Ti mandalo subito in tavola Che se vuole mangiarlo Caldo, caldo Bene Vada per il cazio pasteletto Che profumo salvatore Finalmente sei tornato Tene il cazio E anche una lucerna grande Piena d'olio Per fare che? Sai pasmo Filaish tua magister Voleire in loco buio E stanocce Pax vobis cum Et cum spiritu tuo Pater nostre Pater nostre Qui essi in cielo Santificetur nomen tuo Padre Padre santo Posso chiedervi luce e consiglio? Figlio carissimo Tutto quello che questo povero vecchio peccatore Può fare per la tua anima Sarà fatto con gioia Cosa ti turba? Le ansie della carne? No Semmai le ansie della mente Che vuole conoscere troppe cose Sono novizio Ma sarò monaco E sacerdote Devo imparare dove sta il male Per riconoscerlo un giorno E Per insegnare agli altri Cosa vuoi conoscere? La mala pianta dell'eresia padre Ho udito parlare di un uomo malvagio Che ne ha seduti altri Fra dolcino È una storia molto brutta Di cui mi dà dolore parlare La storia incomincia prima Di fra dolcino A Parma Più di 60 anni fa Quando io ero ancora bambino Ivi incominciò a predicare Un certo Gerardo Segalelli Che invitava tutti A una vita di penitenza E percorrevo le strade gridando Penitenziagite Ho udito Salvatore a dire così Ma cosa significa esattamente? È come dire Penitentiam agite Adesso capisco Gerardo I sacerdoti La celebrazione della messa E la confessione E lui non ebbe nulla da dire Anzi Presi a portare con sé Una postonessa Non ci posso credere Una certa tripia Che pretendeva di avere Il dono della profezia Ma padre Voi stesso avete riferito Della santità di Chiara Di Montefalco E anche essa Era una donna No No Chiara era santa E tripia era eretica Già Andava a predicare per la città Non conosceva differenza alcuna Tra celibbi e sposati Ottima fine Fu il rugo per tutti quanti Cosa c'entra a far dolcino Con queste cose? C'entra C'entra E la dimostrazione Di come l'eresia Sopravviva persino Alla distruzione Degli stessi eretici Ora però ditemi Di fra dolcino Dolcino Era il bastardo Di un sacerdote Della diocese di Novara Ed era un giovane Di ingegno acutissimo Ben educato alle lettere Dite davvero? Ma un giorno Derubò il sacerdote Fuggì nella città di Trento E lì riprese La predicazione di Gerardo Solo in modo Assai più ereticale Cosa intendete? Diceva di essere L'unico vero apostolo Di Dio E che ogni cosa Doveva essere Comune nell'amore Non capisco Cosa significa? Dolcino sosteneva Che era lecito Andare indifferentemente Con tutte le donne Per cui Nessuno Poteva essere accusato Anche se si coricava Con la sua stessa figlia Ecco Ora hai capito Padre Ma questa è verità Soltanto diceria Per certo si sa Che dolcino Iniziò la sua predicazione A Trento Lì sedusse una fanciulla Bellissima Di nobile famiglia Margherita Non ne fu seduto Perché ricorda bene E attraverso la donna Che il diavolo penetra Nel cuore degli uomini Il nome della rosa Di Umberto Eco Sedicesima puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Emilio Cappuccio Carlo Cartier Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia Di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia Di Giuseppe Venetucci Dove da visioni Lascive Azzo è turbato Dall'altro sesso Finché non si imbatte In una vera donna Diciassettesima puntata Sento Le carni accendersi Di una strana fiamma Ricorda bene Che attraverso la donna Il diavolo penetra Nel cuore degli uomini Amore Piacere Membre che si intrecciano Dolcino sosteneva Che era legge Andare indifferentemente Con tutte le donne Per cui nessuno Poteva essere accusato Anche se si curicava Con la sua stessa figlia Padre Per certo si sa Che Dolcino Iniziò la sua predicazione A Trento Lì sedusse Una fanciulla bellissima Di nobile famiglia Margherita Quanta era bella Margherita E quali dolci Mammelline A quel punto Il vescovo di Trento Lo cacciò Dalla sua diocesi Ormai Dolcino Aveva raccolto Più di mille seguaci E iniziò Una lunga margia Che lo ricondusse Nei paesi Dove era nato Insomma Rebello O rubello Divenne la rocca Dei ribelli Alla chiesa E lì avvenne la sua fine Già Dolcino E suoi furono Catturati E finirono Giustamente Sul ruolo Anche la bella Margherita Ti sei ricordato Che era bella Vero? Sì E bene Morì Impenitente Col suo amante Brucia 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 La meretrice Sì Prima l'eredica Prima lei O boia Picca 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 il fuoco Guardate Dolcino Non dice una parola Come se non l'avesse mai conosciuta E mai gli fosse stata compagna Nel suo giacinio Avanti boia Prendile Te penaglie Prendile Strappa Il membro beccaminoso Strappa 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 Così Così Guarda Guarda Nemmeno uno strepito Il prete è satana Dai con i ferri Voglia Ancora Ancora Povera Margherita Quasi mi fa pena Bruciare a causa di un uomo siffatto Nemmeno la tortura La strappa dall'inferno I suoi occhi non provano Eccuna pietà per lei Sì Sì Ma nemmeno per sé Guardate come osserva Il suo pene gettato ai cani Il suo pene gettato ai cani Alle fiamme Alle fiamme Quanta era bella Margherita E quali dolci mammelline Mio bel giovine Sento Le carni accendersi Di una strana fiamma Tutto ciò che per sempre A me Sarà negato Voglio andare subito via di qui Voglio affrontare per la prima volta da solo il labirinto Spesso i libri Parlano di altri libri Spesso un libro innocuo È come un seme Che fiorirà in un libro pericoloso O all'inverso È il frutto dolce Di una radice amara Non di rado I libri parlano di libri E come Se si parlassero tra loro Ma l'altra sera non c'erano Codesti libri Ma la chi ha ritirato i libri Dallo scriptorium E non li ha ancora ricollocati Nei punti a loro destinati Il libro delle rivelazioni dell'apostolo Ancora la donna vestita di sole L'artista ha insistito a lungo sulle fattezze muliebri I fianchi flessuosi I seni Questa donna è bellissima Come la statua della Madonna Che tanto amore ispira a Ubertino Oh, Vergine mia Adorata Vergine mia Guarda la statua della Vergine Sol di lei puoi dire che è bella Perché è colei in cui la femminilità si è sublimata Sì, padre Lo scultore l'ha rappresentata con tutte le grazie Di cui la donna deve essere adornata Oh, Vergine mia Adorata Vergine mia Sì, padre Devi imparare a distinguere il fuoco dell'amore soprannaturale Dal deliquio dei sensi Sì, padre E questa? Oh, questa è la meretrice di Babilonia Guardati dalla meretrice di Babilonia Anche quando assume la creatura più squisita Ma la madonna e la meretrice hanno le stesse fattezze Perché allora l'una è vascello di ogni vizio e l'altra ricettacolo di ogni virtù? E Margherita? Perché la sua immagine si sovrappone nella mia mente a quella della Vergine della Chiesa? Io credo che senza le seduzioni di Margherita Dolcino non si sarebbe mai dannato E ora dai Ma, padre santo Vai! Ormai ti ho detto quello che volete sapere Vai! Grazie, padre Grazie Ancora Era, era Siamo già Addio, addio Ci vediamo domani Si dice che il cellario e forse anche Salvatore incontrarono a Gino e furono con lui in qualche modo Non pronunciare giudizi temerari Ti ho già detto dove incontrare Remigio E so che fu sempre un buon frate Si Ho sentito sussurrare qui nella bazia che il cellario Sembra che lui non sappia resistere a certe tentazioni Ma sono solo mormorazioni, vada bene Quali tentazioni? Hai capito benissimo Quelle? Si, padre santo Altre domande ora? Mio bel giovine Non comprendevo le sue parole Nelle le mie Guardavo solo le sue nudità E in esse mi stavo perdendo Poi ad un tratto capì che si esprimeva nel volgare di quelle terre Ma presto non ci fu più bisogno di intendere Mi sorrise Mi prese la mano Mi baciò Ed improvviso La lingua divenne la stessa Addio mio bel giovine Addio E lei Aveva favo O lei aveva favo che cucciolava dalle sue labbra C'era miele e latte sotto la sua lingua I suoi segni Ah, i suoi segni erano Grappoli d'uovo Le sue braccia Mi cingevano Assaggiai il suo nardo Il suo zafferano E la mirra E la mirra E la mirra E la mirra Oh signore non vai a bestemmia Oh signore non vai a bestemmia Ma Ivi stavo gustando la vera vita Che dopo questa mortale ci sarebbe toccata di vivere Accanto agli angeli dell'eternità Oppure stavo sperimentando di notte In quella notte Di notte La possessione del demone meridiano Demone meridiano Non si trattava La possessione del demone meridiano Solo da noi Non si trattava solo da noi Omne animal triste post coitu Mamma mia, questo è un uologo No Non lo voglio Alza Ma che hai? Per l'abbandonato lei Svegliati Sono brandelle di carne Addio, mio bel giovane Ancora palpitando Addio Pazzo Ma che hai? Svegliati Guglielmo Guglielmo Non sapete cosa mi è successo Voi dovete confessarmi subito Io ho peccato tanto E quel cuore? Sì, il cuore Calma Calma, tu vaneggi ancora Sei morto di paura Ma perché ridete? Ma quale uomo avrebbe un cuore così grosso? È un cuore di vacca O di bue Hanno giusto ammazzato un animale oggi? Oddio Raccogliete la mia confessione, Guglielmo Prego Eh sia Omne animal triste post coitu Pazzo È certo che tu hai peccato contro il comandamento Che ti impone di non fornicare E contro i tuoi doveri di novizio Lo so, maestro, lo so A tua discolpa, però Sta il fatto che ti sei trovato in una di quelle condizioni E cui si sarebbe dannato anche un padre nel deserto Se non diminuisce la mia colpa Vedi caro Azzo L'ecclesiaste dice La donna è più amare della morte È come il laccio del cacciatore Il suo cuore è come una rete Le sue mani sono funi Ma io non riesco a convincermi Che Dio abbia voluto introdurre nella creazione Un essere così immondo Senza dotarla di qualche virtù Quale? Vedi L'uomo fu creato da Dio in questo mondo vile Dal fango E la donna in un secondo tempo In paradiso E da nobile materia umana Non dai piedi o dall'interiora di Adamo Ma da una sua costola E poi il signore che tutto può Avrebbe potuto incarnarsi in un uomo Invece no Scelse il ventre di una donna La beata vergine Dopo la resurrezione A chi apparve? A una donna E se egli nella sua grandezza Ha avuto tante attenzioni per Eva stessa E per le sue figlie Certo Non credi allora che non sia così anormale Se ci sentiamo attratti dalle grazie E dalla nobiltà di quel sesso Ma con gli alma ma io ho peccato No Assolutamente no E certo che non devi farlo più Ma non è così mostruoso Che tu sia stato tentato di farlo Posso dunque sperare nella soluzione Che un monaco almeno una volta nella sua vita Abbia avuto esperienza della passione carnale In modo da poter essere un giorno indulgente Comprensivo coi peccatori E cosa da non auspicare prima che avvenga Però Neppure da vituperare troppo Dopo che sia avvenuta Potrò dunque essere assolto Sì, sì Va con Dio E non parliamone più Evita ad ora in poi di meditare troppo Su qualcosa che sarà meglio dimenticare Se ci riuscirai Lo prometto Il nome della rosa Di Umberto Eco Diciasettesima puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Emilio Cappuccio Luca della Bianca Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Nadia Noto Silvia Tortarolo Carolina Zaccarini Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Grazie a tutti i nostri spettatori A cura di Ida Sansone Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Azzo sconvolto si confessa con Guglielmo e medita sulla funzione della donna nel piano della creazione Ma un fatto orribile sta per accadere Diciottesima puntata Potrò dunque essere assolto? Sì, sì Va con Dio e non parliamone più Evita ad ora in poi di meditare troppo su qualcosa che sarà meglio dimenticare se ci riuscirai Lo prometto E adesso chiediamoci invece il senso di quanto è caduto qui questa notte Chi era questa ragazza? E con chi aveva convegno? Maestro, proprio non lo so non ho visto l'uomo che era con lei Ma ci sono indizi sicuri su chi fosse non credi? Non saprei Intanto era un uomo brutto e vecchio Come fate a dirlo? E' uno con cui una fanciulla non va volentieri specie se è bella come dici Mio bel giovine Guglielmo, vi prego non girate il coltello nella ferita spiegatemi perché brutto e vecchio? Perché di certo la fanciulla non andava con lui per amore E per cosa? Se no per un pacco di rognoni Certamente Era una ragazza del villaggio che si concedeva qualche monaco lussurioso per fame e ne ha come guidardone qualcosa da mettere sotto i denti lei e la sua famiglia Addio mio bel giovine Addio Una meretrice? Una contadina povera Azzo Magari coi fratellini da nutrire E che potendo si darebbe per amore e non per lucro Come ha fatto stasera con te Non ti ha forse trovato giovine e bello? Su, dimmi Non saprei Sì E non ti ha forse dato gratis e per amor tuo ciò che ad altre avrebbe invece dato per un cuore di bue o qualche pezzo di polmone? Sì, ve l'ho già detto Ti rendi conto? Essa si è sentita così virtuosa per il dono gratuito che ha fatto di sé che è fuggita senza prendere nulla in cambio Ed è questo che vi convince della bruttezza della vecchiaia di quell'altro? Non era un indizio così difficile Primo questo vecchiaccio brutto è uno che ha la possibilità di scendere al villaggio e avere contatti con i contadini per qualche motivo connesso al suo ufficio Secondo? Deve conoscere il modo di far entrare e uscire segretamente qualsiasi persona dal muro di cinta Terzo Doveva sapere che in cucina ci sarebbero state quelle frattaglie Ecco Non ti sembra il ritratto spaccato del cellario? O quello del nostro misterioso salvatore? Il quale essendo di queste parti sa parlare assai bene con le genti del posto e sa come convincere una fanciulla E se tu non fossi arrivato? Sì Guglielmo è andato certamente così Ma a che serve ora sapere tutto ciò? Può servire a tutto e a niente Una cosa però è sicura Questa bazzia di notte è il luogo di molte rabonde vicende E chissà che Remigio o Salvatore che la percorrono al buio con tanta disinvoltura non sappiano molte più cose di quante non dicano Ma le diranno a noi? No se ci comporteremo in modo compassionevole ignorando i loro peccati ma se proprio dovessimo sapere qualcosa avremmo in mano un modo di persuaderli a parlare Basta ora Azzo tra un'ora è mattutino torniamo a letto Ma ti vedo ancora agitato È così maestro Continua a tormentarmi per il mio peccato E allora non c'è nulla di meglio che una buona sosta in chiesa per distenderti l'animo Io ti ho assolto ma non si sa mai Su va a chiedere che conferma al Signore Vergine Santissima troppi morti troppi morti ma era scritto nel libro dell'apostolo la terza tromba avverte che una stella cadente precipiterà nella terza parte dei fiumi e delle fogge Vecchio Alinardo sta citando l'Apocalisse Chissà se ci sarà qualcosa di vero Questo presupporrebbe che la mente di Apolica usando l'Apocalisse come guida avesse predisposto le tre scomparse Ammesso che anche Berengario sia morto Invece sappiamo che la scomparsa di Adelmo fu dovuta alla sua volontà È vero ma la stessa mente di Apolica potrebbe aver tratto ispirazione della morte di Adelmo per organizzare in modo simbolico le altre due Sì ma se così fosse Berengario dovrebbe trovarsi in un fiume o in una fonte Ma qui non hai visto non è fiume né fonti Guglielmo Ipalnea Ipalnea Certo Hai ragione Ma mi avranno già guardato No i servi cercavano qualcosa di ben nascosto Forse non hanno guardato bene Andiamo Andiamo La vasca è vuota Nascosta Nascosta la tenda di quell'altra Guarda laggiù in fondo Nell'ultima vasca la tenda è tirata Guglielmo c'è una veste Venite con il lume Sembra che ci sia qualcosa in acqua Qua Qua sul fondo Un corpo nudo Oddio Aiutami Bisogna tirarlo fuori Aspettate Entro dentro Ecco Vedi il volto Il gonfi è completamente deformato Forza Prendilo per le scelle e sollevalo Di modo che lo possa afferrare E' Berengano Sì E' lui E' lui Non ci sono dubbi E' sicuramente annegato Guarda il suo corpo Bianco Mollo E privo di peli Sembra proprio Quello di una donna Aveva ragione Ubertino Quando alludeva Beneditelo Guglielmo Beneditelo Anche se era un peccatore Ha maggior ragione Ora bisogno Della nostra compassione In nome Ne patrice Trigli E spiritus sancti E qui Escati in pace Su ora vai A svegliare Saberino Io penserò Alla patrice Povero Berengatio Non v'è dubbio E' morto Annegato Il viso è gonfio Il ventre teso Ventre teso Non è stato Annegato da altri Altrimenti Si sarebbe Ribellato Alla violenza Dell'assassino E avremmo trovato Tracce d'acqua sparsa Attorno alla vasca Invece era tutto Ordinato e pulito Come se Berengario Avesse scaldato l'acqua Riempito il bagno E si fosse addagiato Di sua volontà Questo non mi stupisce Assolutamente Perché? Berengario Soffriva di convulsioni Io stesso Gli avevo detto Più volte Che i bagni tiepidi Servono a calmare L'eccitazione Del corpo E dello spirito E aveva licenza Di accedere ai balnei Sì E così Devo aver fatto Questa notte L'altra notte Vorrei dire Guarda bene il corpo Vedi? Secondo me E' restato in acqua Almeno un giorno Non sei d'accordo? Sì È possibile Mi nascondi forse qualcosa Che tu sai e io no Sono venuto a sapere Che Berengario Ha rubato un libro E poi è fungito Mi piacerebbe sapere il modo No, non chiedere di più Ti basti quanto ho detto D'accordo, d'accordo Non insisto Posso solo aggiungere Che sempre che fosse lui il ladro Berengario era Di natura Molto sensibile Sì Sì Da loro una contrarietà Un'emozione Gli provocavano tremori E sudori freddi Sudori freddi Sbarava gli occhi E cadeva per terra Sputando una bava biancastra Quindi un forto L'avrebbe agitato a tal punto D'averlo indotto a cercare La tranquillità In un bel bagno ristoratore È la prima cosa Che mi viene in mente Ed è libero Nessuna traccia Sì, ho frugato Una sua veste Niente Dunque prima di venire qui È stato da qualche altra parte Non c'è altra soluzione Severino Sì Ritieni che il male Di cui soffriva Fosse sufficiente A fargli perdere i sensi E poi a negare Potrebbe essere D'altra parte Se tutto è accaduto Due notti fa Avrebbe potuto esserci Dell'acqua Intorno alla vasca Che poi si è asciugata E dunque Perché escludere Che sia stato annegato A forza Severino Hai mai visto Un assassinato Che prima di farsi annegare Si toglie gli abiti? No, no Ecco una cosa curiosa Quale? L'altro giorno Ho osservato le mani Di Venanzio Quando il corpo È stato ripulito Dal sangue Ebbene? I polpastrelli Di due dita Della mano destra Erano scuri Come anneriti Da una sostanza bruna E guarda qua Guarda qua La stessa cosa Per Perengario E c'è qualche traccia Anche su un terzo dito Molto interessante Allora avevo pensato Che Venanzio Avesse toccato Degli inchiostri Nello scrittorio E ora non più Eh no Se fosse solo La mano destra Sarebbero le dita Di chi afferra Qualcosa di piccolo O di lungo E sottile Ma l'indice E il pollice Scuri sui polpastrelli Il medio Solo sulla parte interna Ma se ci sono segni Anche sull'altra mano Potrebbe essere Anche una coppa La destra La tiene salda E la sinistra Collabora Con minor forza Povero Perengario Dammi quei guanti Sì Ecco Proviamo a spregargli Le dita per vedere Se il colore va via Ma non va Non va via Usate guanti Quando maneggiate Cose velenose Pensate che c'entri Il veleno E la morte di Berengario Eh non si sa mai Sentiamo anche Se c'è qualche odore strano Cosa dicono Le tue narici Eh nulla purtroppo Però potrei citare Molte sostanze Vegetali Anche minerali Che provocano Tracce di questo tipo Sostanze letali Alcune si Altre no I miniatori Hanno talvolta Le dita sporche Di polvere d'oro Adelmo faceva il miniatore Gliel hai controllate Ho visto che il suo corpo Era sfraccellato Non ci hai pensato No Non l'ho fatto E ora me ne rammarico Ma sia Berengario Sia Venanzio Potrebbero aver toccato Qualcosa che era appartenuta Ad Adelmo Io proprio non lo so Due morti Entrambi con le dita nere Severino E tutte quelle innumerivoli Ampolle e vasi Che tieni così in ordine Su quegli scaffali Te l'ho già detto Molte di quelle erbe Doputamente composte e dosate Possono dar luogo A bevande A unguenti mortali Del tipo? Guarda laggiù Bella donna Stramonio Cicuta Possono dare sonnolenza Eccitazione O entrambe Somministrate con cautela Sono ottimi medicamenti Ma in dosi eccessive Portano alla morte Ma nessuna di queste sostanze Lascierebbe segni sulle dita? Nessuna credo E poi ci sono sostanze Che diventano pericolose Solo se ingerite Altre che invece Agiscono sulla pelle Per esempio? L'elevolo bianco Può provocare vomiti In chi l'afferra Per strapparlo dalla terra Quello nero Al solo toccarlo Ti provoca la tiarrea E il veleno della vipera? Si penetra solo sulla pelle Senza entrare nel sangue Niente più di una piccola irritazione Ma una volta Mi fu mostrato un composto Che applicato Alla parte interna Delle cosce di un cane Vicino ai genitali Porta l'animale A morire in pochi istanti Tra convulsioni Atroci Seferino Sai davvero Molte cose sui veleni So quello che un erborista Un medico Un cultore di scienze Dell'umana salute Deve sapere Povero Bellinario Davvero Un bel mistero Il nome della rosa Di Umberto Eco Diciottesima puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Bruno Alessandro Riccardo Reim Carolina Zaccarini Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Posta elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Giuseppe Venetucci Ida Nemetucci Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Severino sul cadavere di Berengario Discute a lungo di un veleno misterioso scomparso durante una bufera E Guglielmo decide di mettere sotto il torchio Salvatore e il cellario Diciannovesima puntata Severino, sai davvero molte cose sui veleni So quello che un erborista, un medico, un cultore di scienze dell'umana salute deve sapere Ti prego Severino, apri la bocca al povero Berengario Va bene Com'è la lingua? Nera E così allora Berengario ha ferrato qualcosa con le dita e poi lo ha ingerito Questo elimina i veleni che hai citato prima Che uccidono penetrando attraverso la pelle Ma questo non rende più facile le nostre inizioni Ora dobbiamo pensare sia per lui sia per Venanzio A un gesto volontario non casuale Ne è indotto con la violenza Cioè ha introdotto in bocca qualcosa? Sì, è proprio così Ma cosa? Un cibo? Una bevanda? Non lo so, ha anche uno strumento musicale Berengario Come un flauto Ma è assurdo Ma certo che è assurdo Ma non dobbiamo trascurare nessuna ipotesi Per straordinaria che sia Severino? Sì? Mettiamo che Berengario si sia introdotto qui Che abbia usato queste tue erbe per fare un unguento mortale Capace di produrre quei segni sulle dita e sulla lingua Frate Guglielmo vuol dire un composto da poter facilmente nascondere in una petanza In un boccale pieno, su un cucchiaio Improbabile ma non impossibile Bene, ora rifletti C'è qualche fatto che non ti è ancora tornato in mente? Il tipo? Non lo so Qualcuno che ti abbia fatto domande sulle tue erbe Qualcuno in grado di entrare con estrema facilità nell'ospedale Un giorno di tanti anni fa Il giorno in cui sul pianoro venne una bufera terribile Un confratello che aveva viaggiato in paesi lontani Mi aveva portato una sostanza molto potente Che io conservavo su quegli scaffali Cos'era? Oh, non sepe dirmi di cosa fosse fatta Certo di erbe Era vischiosa Giall'astra Il frate mi disse solo di non toccarla mai Perché se soltanto fosse venuta in contatto con le mie labbra Mi avrebbe ucciso in breve tempo La tenne a lungo Sempre proponendomi di esaminarla Che cosa accadde? L'Uradano sconvolse anche questa stanza in cui siamo Ognuno vizio aveva lasciato aperta la porta dell'ospedale E così trovai ampolle rotte Liquidi sparsi sul pavimento Erbe e polveri disperse Un giorno intero rimettere a posto le cose E il veleno di cui parlavi sparito? Mi convinsi che fosse finito in mezzo agli altri detriti L'avevo ancora il pavimento Gli scaffali Severino, ora sforzati di ricordare Quell'ampolla La avevi per caso vista prima dell'uragano? Sì, cioè no Ora che ci penso Stava dietro una fila di vasi Ben nascosta E non la controllavo ogni giorno Quindi per quanto ne sai Avrebbe potuto essere stata sottratta molto tempo prima Senza che tu lo sapessi Eh, sì Supponiamo allora Che ci sia stata una terza persona Non in novizio Troppo giovane e ingenuo E poi è morto l'anno scorso Cadendo da un'impalcatura Una terza persona Certamente molto più esperta Dimmi chi era a conoscenza del tuo veleno Forse l'abate? Oh, lui di sicuro Era inevitabile chiedervi il permesso di trattenere nell'abbazia Una sostanza così pericolosa E chi altri? Forse qualcuno in biblioteca Sai, cercavo degli erbari che potessero far luce su quella cosa misteriosa Ma non ci avevate detto che trattenevate presso di voi i libri più utili alla vostra arte? Sì, ma quelli che cercavo non erano testi che potevo conservare con me Anzi, Malachia si oppose a tal punto che dovete chiedere l'autorizzazione all'abate Malachia Forse hai dimenticato che l'accesso alla biblioteca è consentito solo al bibliotecario Dunque solo io e Berengario sappiamo interpretare i segni Anche Berengario? Non insistere, con cose che già sai Sì, Malachia Per forza In un luogo ignoto della biblioteca si conservano anche opere di negromanzia Di magia nera Di filtri diabolici Io volevo consultare quelle opere per dovere di conoscenza Non per panna curiosità Dovevo trovare una descrizione di quel veleno e delle sue funzioni Non devi giustificarti con me Ma resta un punto Quale? Malachia sapeva E forse anche Berengario che lo assisteva Ma non trete conclusioni affrettate Forse potevano esserci anche altri monaci mentre parlavo Il nostro cellario Mi sei gel? Allora lo scrittorium è abbastanza affollato Non sto sospettando di nessuno Cerco solo di capire cosa può essere accaduto Rimane tuttavia un fatto inquietante Quale? Se dici che il fatto avvenne qualche anno fa È curioso che qualcuno abbia sottratto con tanto anticipo un veleno Che avrebbe poi usato tanto tempo dopo Sarebbe indizio di una volontà maligna Che ha covato a lungo nell'ombra Un proposito omicida Ah, vedo che non sei solo Mi cercavi Malachia? Parliamone dopo Non importa Non preoccuparti per noi Malachia Stavamo andandocene No, cercavo il fratello erborista O il mal di capo Deve essere l'aria chiusa della biblioteca Dovresti fare dei succumigi Ci vediamo più tardi Ma dopo Da più tardi E cosa voleva Malachia da Severino? D'ora in poi facciamo attenzione a ciò che mangiamo e a ciò che beviamo Corriamo il rischio anche noi? Dopo Berengario siamo coloro che sanno più cose Dopo l'assassino E ora chi volete interrogare? Non ti sarà sfuggito che qui le cose più interessanti avvengono di notte? Di notte si muore, di notte si gira per lo scrittorio Di notte si introducono donne nella cinta Maestro No, era solo per completare l'elenco In ogni caso abbiamo una balsia diurna e una notturna Maestro, ecco Salvatore Salvatore Vieni che il mio maestro desidera parlarvi Come ne dici te? Sai che domani arriva l'inquisizione E tu farei bene a dire a me la verità Che sono frate minore come tu sei stato Piuttosto che dirla domani a quelli che conosci benissimo Tu, amico Questa notte c'era in cucina una femmina Chi era con lei? Una femmina che vende sé come mercandia Non può un cabonessere, né aver cortegia Non voglio sapere se era una brava ragazza Voglio sapere chi era con lei E io, quanto sono le femmine dei malvecci scaltride Pensano di e notte come l'uomo scarnisca Basta C'eri tu con lei o c'era il cellario? Sette argiversi ancora No, no, amico Allora, dimmi Mi conoscio le femmine su al velaccio E le faccio entrare la notte per l'uomo Hai conosciuto Remigio prima o dopo essere stato con Dolcino? Salvemi, salvemi dagli inquisitori Giuro solennemente di non dire a nessuno quanto mi dirai Ho conosciuto Remigio con Dolcino alla parete calva Poi siamo fuggiti nel convento di Casale E poi dai cluni a Censi Perdonatemi, perdonatemi Non dite niente agli inquisitori D'accordo Vai Manterrò la promessa Amico 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 Capirti del mio tono Lo imbarazzerò trattandolo come se fosse un confratello del mio ordine Oh, fratello Guglielmo, ditemi Ascolta Remigio, ho bisogno di aiuto Tu, per le ragioni del tuo ufficio, sei evidentemente costretto ad aggirarti per l'abazia Sì, proprio così Anche quando gli altri dormono, immagino Dipende, Guglielmo, dipende Talora vi sono piccole faccende da sbrigare Vi devo dedicare qualche ora di sonno Non ti è mai accaduto di vedere qualcuno tra la cucina e la biblioteca aggirarsi senza avere le tue giustificazioni? Se avessi visto qualcosa l'avrei detto all'abate Posso andare? Giusto E dimmi, il villaggio a valle non è molto ricco, vero? Sì e no Vi abitano dei prebendari che dipendono dall'abazia E costoro nelle annate grasse condividono la nostra ricchezza E come? A San Giovanni hanno ricevuto 12 moggi di malto Un cavallo, 7 buoi, un toro, 4 giovenche, 5 vitelli, 20 pecore, 15 maiali, 50 polli, 17 alveari E più carne affumicata, strutto, sapone e reti da pesca Se vi pare poco E gli altri non prebendari quanto possiedono? Ma lo sai poco, una famiglia normale non possiede più di 50 tavole di terreno a un viveto Tradotto in numeri comprensibili? Una tavola vale una quarantina di coppe d'olio Una miseria allora Ma perché mi domandate queste cose? Oggi leggendo le prediche alle donne di Uberto da Romanz Sai, mi chiedevo se alcune fanciulle povere siano state indotte in fornicazione Magari da qualcuno che conosci bene Tu sai meglio di me che in alcuni luoghi santi come le abbazie Le tentazioni del demone meridiano non mancano mai Guglielmo, mi chiedi cose che se le sapessi avrei già detto l'abate In ogni caso se queste notizie servono alla tua indagine non ti tacerò nulla A Tremigio ci sono dei morti Devo sapere tutto, anche la minima cosa non ho tempo da perdere Certo Partiamo dalla notte in cui morì il povero Adelmo E non lesinare i particolari Sì Quella notte io circolavo per la corte, sai Una storia di galline Avevo raccolto voci che un maniscalco nottetempo andava a rubare nel pollaio Non potrei giurare ma mi sembrò di vedere Berengario tornare dall'edificio Non me ne stupì perché tra i monaci si mormorava da tempo su di lui Forse l'hai saputa? No, dimmi Berengario era sospettato di nutrire passioni che non si convengono ad un monaco Mi stai suggerendo che aveva rapporti con ragazze del villaggio come ti avevo domandato? No, passioni ancora più sconvenienti Perché? Un monaco che si diletti carnalmente con fanciulle del villaggio esercita invece passioni convenienti? Non ho detto questo ma tu mi insegni che come nella virtù anche nella depravazione c'è una gerarchia La carne può essere tentata secondo natura e contro natura Berengario era mosso da desideri carnali per uomini del suo sesso? Così si mormorava di lui Ti dico questo come prova della mia sincerità e della mia buona volontà Io ti ringrazio e convengo con te che la sodomia è ben peggiore di altre forme di lussuria Eh miseria, Gugliano, miseria Se vorrai sapere altro fai conto di avere in me un amico fedele E tale io ti considero Il nome della rosa Di Umberto Eco Diciannovesima puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Giancarlo Zanetti Riccardo Reim Luca della Bianca Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove il Cellario confesse i suoi peccati di carne E il suo passato di Dolciniano Dove Guglielmo recupera due paia di occhiali E dove Azzo se ne va per tartufi Ventesima puntata Se vorrei sapere altro fai conto di avere in me un amico fedele E tale io ti considero Guglielmo mi ha detto che un tempo appartenevi al mio stesso ordine E sai che non tradirei mai un antico confratello Specie ora che sta arrivando un grande inquisitore Famoso per aver bruciato tanti Dolciniani Basta Guglielmo non sono un uccioco Non mi piace giocare al gatto e al topo Soprattutto se il topo sei tu Tu credevi in Dolcino Anni fa ho creduto nell'ideale di povertà Io non sono un uomo colto Ho ricevuto gli ordini ma sua pena di ermessa So poco di teologia Come molti altri a quei tempi Allora ho tentato di ribellarmi ai signori Adesso li servo O ribellarsi o tradire È data poca scelta O la semplice Spesso i semplici capiscono le cose meglio dei dotti Forse Ma non so neppure perché ho fatto quello che ho fatto Allora Ero di famiglia cittadina Non avevo fame Vedi per Salvatore era comprensibile Veniva dai servi della gleba Da un'infanzia di carestie e malattie E Dolcino rappresentava la ribellione e la distruzione dei signori Sì Allora sulle pendici del rebello Respiravamo un'aria di libertà Io non sapevo prima cosa fosse la libertà Ci sentivamo liberi Pensavamo che fosse la verità Mi avete preso a unirvi liberamente con una donna Sul rebello c'era gente che per tutta l'infanzia Aveva dormito in dieci e più In pochi cubiti di stanza Fratelli e sorelle Padri e figli Cosa vuoi che fosse per loro Accettare questa nuova situazione Eravate eretici Ubbidivate a Satana Ma dov'era Satana Voi monacelli che venite da un castello E finite in una bazia Credete che sia un modo di pensare Ispirato dal demonio Invece era un modo di vivere Ed è stata Un'esperienza nuova Dio era con noi E poi che avvenne? Ti fai vecchio Non diventi saggio Ma diventi un ghiottone Qui faccio il ghiottone Puoi condannare un eretico Ma non un ghiottone Basta così, Remigio Io non ti interrogo su ciò che è successo allora Non posso e non voglio giudicarti A me interessa solo quello che è accaduto di recente Aiutami E io non cercherò la tua rovina Chi hai di ciò che vuoi? Chi ha ucciso Venanzio? Non lo so, te lo giuro So quando è morto e dove Allora racconta Quella notte Un'ora dopo compieta Sono entrato in cucina Da dove? E perché? Da dove? Dalla porta verso l'orto Ho una chiave che da tempo mi sono fatto fare dai fabri Perché? Tu stesso hai detto che non vuoi accusarmi per le debolezze della mia carne Spiegasi meglio Stavo cercando cibo Da regalare alla ragazza che Salvatore doveva far entrare nella cinta E allora? Quella notte Appena entrai in cucina Vi divenanzio Per terra Morto In cucina? Sì Vicino all'acquaio Forse era appena disceso dallo scriptorio C'erano tracce di lotta? Nessuna O meglio Vicino al corpo c'era una tazza infranta E segni d'acqua in terra Perché sai che era acqua? Non so Ho pensato che fosse acqua Cos'altro poteva essere E cosa hai fatto? Nulla Non potevo dare l'allarme perché l'abate avrebbe scoperto che me ne andava in giro di notte Così hai avvertito Salvatore di fermare la ragazza? Sì E poi sono tornato in cella ad aspettare che lo scoprissero Immaginate la mia sorpresa Quando i porcai l'hanno trovato nel sangue della giara Chi mai avrà fatto sparire il cadavere dalla cucina? L'unico che può muoversi liberamente per l'edificio è Malachia No, Malachia no Perché lo difendi così? Sa qualcosa di te? Sì Ma si è sempre comportato da uomo discreto Possì in te sorveglierei Bencio Perché? Lui aveva strani legami Con Berengario e con Benanzio Ma non ho visto altro Se saprò qualcosa D'accordo Per ora può bastare Alleluia, Guglielmo Alleluia, alleluia Guarda che cosa ho trovato Le mie lenti Dio si ha lodato Erano il saio di Berengario Ecco così svelato almeno un mistero Ora sappiamo di sicuro che fu Berengario a derubarci l'altra notte nello scrittorio Ce l'ho fatta, Guglielmo Ce l'ho fatta Ma chi è che urla laggiù? A Nicola Oh, le mie vecchie lenti C'è riuscito davvero? Tutto da solo E montate sulla loro forcella Credo che funzioni, no? Prima niente E ora lenti in abbondanza Dovrete fare attenzione a non umiliarlo Già, già Bene Nicola, benissimo Aspetta che mi tolga queste che ho sul naso Ecco qua Su, fammi provare Cosa ne dite, Guglielmo? Ottime Ottime Molto migliori delle altre Vuol dire che mi terrò le vecchie di riserva E porterò sempre le tue Grazie, grazie E piacevole meritare complimenti da un uomo come voi Al vostro servizio Quando volete Dunque, Azzo Penso che mi ritirerò in cella a leggere quelle carte che sai Sì, Guglielmo Vi aspetterò Addio, mio bel giovane Addio La vedo ovunque Nei rami degli alberi Nelle nuvole del cielo Negli occhi delle giovenche che vagolano nel prato Maestro Sono riuscito a decifrare il foglio di Venanzio Finalmente vi vedo felice Sì, siedi e leggi la traduzione Bisogna ingannare E sorprendere ingannando Dire le cose all'opposto di quanto si credeva Dire una cosa e intenderne un'altra A essi Le cicale Canteranno da terra Ma mi sembrano le farmedicazioni di un demente Potrebbe darsi E appare senz'altro più demente di quanto non fosse per la mia traduzione Conosco il greco abbastanza approssimativamente E se Venanzio fosse stato pazzo? Questo non spiegherebbe perché tante persone, pazze o no, si siano tanto date da fare Prima per nascondere il libro E poi per recuperarlo Ma le cose che sono scritte qui provengono dal libro misterioso Si tratta senz'altro di cose scritte da Venanzio, lo vedi anche tu Non si tratta di una pergamena antica Devono essere appunti presi leggendo il libro Altrimenti Venanzio non avrebbe scritto in greco Volete dire che ha ricopiato abbreviandole Frasi trovate sul volume sottratto al Finisafrica? Sì Io credo che lo abbia portato nello scrittorio Ma e lì abbia iniziato ad annotare ciò che gli pareva degno di nota Poi è accaduto qualcosa Già, o si è sentito male o ha inteso salire qualcuno Allora riposto il libro con gli appunti sotto al suo tavolo Ripromettendosi di riprenderlo la sera dopo Sì, solo partendo da questo foglio Potremmo ricostruire la natura del libro segreto E a cosa ci serve? A ricostruire di conseguenza anche la natura dell'assassino E voi sarete in grado da queste poche righe di capire di che libro si tratta? Queste parole sembrano uscite da un testo sacro Leggendole dopo aver parlato con Remigio Mi ha colpito il fatto che anche qui si face noi semplici Come portatori di una verità diversa da quelle dei saggi Remigio ha lasciato capire che qualche strana complicità lo lega a Malachia No, per questo devi chiedere l'autorizzazione all'abate Che Malachia conservi qualche pericoloso testo ereticale consegnatoli da Remigio Devo pensarci su Forse dovrò leggere altri libri Come mai per sapere cosa dice un libro ne dovete leggere altri? Allora si può fare così Spesso i libri parlano di altri libri Spesso un libro innocuo è come un seme che fiorirà In un libro pericoloso o all'inverso E il frutto dolce di una radice amara Non capisco Rifletti Non potresti leggendo Alberto Sapere cosa avrebbe potuto dire Tommaso O leggendo Tommaso Sapere cosa avesse detto averlo è Ehi Nazzo Sei anche tu della partita? Cosa? Che fai con tutti questi maiali? Da quando ti tocca pascolarli? No, no, niente di ciò Si fa per tartufi Cosa? Tartufi Frutti prelibati del sottobosco Tipici delle terre benedettine Siano esse a Norcia Siano esse qui La differenza è che là sono neri Da queste parti sono invece più bianchi e più profumati E i maiali? Sono gli unici animali capaci di scovarli con il loro olfatto Perché si trovano sottoterra e sono più segreti dei funghi Ma i maiali quando li trovano non se li mangiano? Oh sì, bisogna fare molta attenzione Allontanarli appena li annusano Altrimenti Altrimenti? Sapessi quanti gentiluomini si dedicano a questa caccia Senza che le loro nari vengano turbate più di tanto da questo immane lezzo E dove si va? Si scende verso il villaggio Verso il villaggio? Addio mio bel giovine Addio Chissà, forse potrei rivederla Ma no, no, no Oggi si attende l'arrivo delle due legazioni Forse ne potrò avvistare una Maestro Sta arrivando la delegazione dei frati minori Realmente avrò modo di conoscere Michele da Cesena Che tipo è? È un uomo ben strano Ardentissimo nella sua passione francescana Ha gesti e accenti che ricordano Bertino nei suoi momenti di rapimento visto È molto umano e giudiale nella sua natura terrestre di uomo delle Romagne Capace di apprezzare la buona tavola Assai felice di ritrovarsi con gli amici Sì, ma quando si sfiorano i rapporti con i potenti Di colpo Michele diventa sottile e defasivo Abile come una volpe Sornione come una talpa E l'erede di San Francesco ha un compito impressionante Garantire il rispetto della regola E al tempo stesso le fortune di un ordine così potente e vasto E' difficile comprendervi Da una parte ci sono le elemosine I doni, i lasciati Ovvero prosperità e ricchezza Michele deve prestare orecchio alle corti e alle magistrature cittadine Dalle quali trae la sua linfa materiale E dall'altra parte? C'è bisogno della penitenza Che non deve trascinare fuori dall'ordine gli spirituali più accesi Disciogliendo la sua splendida comunità di cui è guida in una costellazione di eretici Michele deve piacere al Papa, all'imperatore, ai frati di povera vita A San Francesco che lo sorveglia dal cielo E al popolo cristiano che lo sorveglia dalla terra Quando il Papa ha condannato tutti gli spirituali come eretici Michele non ha esitato a consegnargli cinque tra i più riottosi frati di Provenza E il Papa li ha mandati a rovo? Sì, ma Michele quattro anni dopo al capitolo di Perugia Ha praticamente fatto proprie le istanze dei bruciati Cercando di riassorbire nell'ordine le loro sollecitazioni E mentre attende di convincere il Papa Non disdegna di accettare il favore dell'imperatore e dei suoi teologi Proprio così Ed è per questo che prima di andare da Giovanni ad Avignone Michele vuole garanzie Non dovrà essere un atto di sfida Ma nemmeno di sottomissione Maestro, stanno già salutando l'abbate Il nome della rosa Di Umberto Eco Ventesima puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Carlo Cartier Riccardo Reim Luca della Bianca Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons de Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Musiche originali di Nicola Campogrande Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Guglielmo discute delle malefatte di Papa Giovanni Con Michele da Cesena Con Michele da Cesena e i suoi minoriti Nel frattempo arriva la delegazione pontificia Comandata dal vieco Bernardo Gui Ventunesima puntata Maestro Sta arrivando la delegazione dei frati minori Stanno già salutando l'abbate Finalmente avrò modo di conoscere Michele da Cesena Quel vieco simoniaco del Papa Una cosa dovrà imparare Michele A non fidarti dei suoi giuramenti Che egli mantiene sempre alla lettera Violandoli nella sostanza Tutti sanno che cosa accadde ai tempi della sua elezione Caro Bertino La sua non fu un'elezione Ma un'imposizione Oh Ugo lo sa Dio No lo sa il diavolo Mettere sulla cattedra di Pietro Quello gnomo ultra settantenne E anche di aspetto ti si cuzzo Ma tu lo gusti assoluto di quanto si credesse Figlio di un calzolai Attento Cristo era figlio di Falegname Non è questo il fatto È un uomo colto Ha studiato legge a Montpellier Medicina a Parigi Ha aiutato Filippo il Bello a rovinare i Templari Sì Dopo l'elezione è riuscito a sfuggire a un complotto di cardinali Che volevano uccidere Ma Un momento Guglielmo Mi stavi parlando della sua abilità di tradire i giuramenti Senza essere speciuro Quando fu eletto Ha promesso al cardinale Orsini Che avrebbe riportato il seggio pontificio a Roma Sì certo E ha anche giurato sull'ostia consacrata Che se non avesse mantenuto tale promessa Non sarebbe mai più salito su di un cavallo O su di un molo Beh Sai che cosa ha fatto quella volpe? No Si è fatto incoronare a Lione Contro la volontà del re Il quale voleva che la cerimonia avvenisse ad Avignone E poi ha viaggiato da Lione ad Avignone In battello Spero giuro Spogliato Beh Non gli si può negare un certo ingegno Davvero non è più salito a cavallo? Già Quando scese dal battello Era pronta per lui una cavalla bianca E la rifiutò E da quest'uomo Michele Tu ti attendi che tenga fede alle garanzie che ti darà Posso capire il suo desiderio di stare ad Avignone E non lo discuto Ma lui non potrà discutere il nostro desiderio di povertà E la nostra interpretazione dell'esempio del Cristo Non essere ingenuo Michele Devi renderti conto che da secoli Non era mai asceso sul trono pontificio Un uomo più avido Volete ancora vino? Signora, grazie Ad Avignone si fanno più traffici che a Firenze E lui è una cazzaladra Un usolaio ebreo E un re mida Ogni volta che sono entrato nei suoi appastamenti Ho trovato banchieri Cambiatori di moneta Tavole cariche d'oro E ghierici che impilavano fiorini Adesso capisci perché hai emanato tutte quelle bolle contro la povertà Pensa Michele Che ad Avignone sono stati esposti crocefissi Con Gesù inchiodato per una sola mano Perché? Per lasciargli toccare con l'altra una borsa appesa alla sua cintura E significare che egli autorizza l'uso del denaro per fini di religione Non l'ho spudorato Ma questa è pura bestemmia Si dice anche che abbia elaborato taxe sacre penitenziarie Dove specula sui peccati dei religiosi per trarne altro denaro Vale a dire? Se un ecclesiastico per esempio commette peccato carnale con una monaca Potrà essere assolto pagando 67 lire d'oro e 12 soldi Non posso crederci E se quella monaca vorrà diventare badessa Ne pagherà 131 e 15 soldi Non sai che vergogno ho dovuto vedere ad Avignone Santità Oh Dio Santità Questo maledetto generale dei Francescani Questo Michele da Cesena Ha venduto l'inferatore Lo voglio qui Ad Avignone Allora Vorrei ancora un po' di carne fratello Oh eccolo Tieni Grazie Anche i nostri hanno commesso degli eccessi Ho avuto notizia di Francescani che attaccavano in armi i conventi dominicani E denodavano i frati nemici Per imporre loro la povertà Per questo non osasti opporti a Giovanni ai tempi dei casi di Provenza Già Voglio addivenire a un accordo con lui Gli chiederò solo che non umili la nostra umiltà Non gli parlerò di denaro È l'unica cosa che capisce Gli chiederò solo di consentire con una sana interpretazione delle scritture Dunque è questo che dovremo fare domani con i suoi legati Sì In fondo sono uomini di teologia E non tutti saranno rapaci come Giovanni Non credi? Michele Non conosce ancora le sue follie in campo teologico Sta elaborando alcune proposizioni folli Che toglierebbero ogni forza alla nostra predicazione Ma perché? Calma Vuole essere veramente colui che decide per il cielo e per la terra Sapevo di queste mormorazioni Me lo aveva scritto Guglielmo di Occan A maggior ragione devo incontrare il Papa Il popolo intero della chiesa potrebbe sollevarsi Io vado in chiesa Vengo con te Pazzo Pazzo Intanto dobbiamo preoccuparci dell'arrivo di Bernardo Cui Oh signora E del cardinal Bertrando del Poggetto a presiedere la loro legazione Due inquisitori Dunque Giovanni vuole usare contro i minoriti l'argomento dell'eresia Tanto peggio Noi tratteremo da eretici loro No, no Procediamo con cautela Non dobbiamo compromettere alcun accordo possibile Io non credo che i diavignonesi vengano qui per trarne alcun risultato positivo La verità è che Giovanni ti vuole da Vignone solo e non garantito Non ci credo Ci crederai dopo l'incontro Vedrai Così tu ti saresti dato da fare per realizzare una cosa che pensi totalmente inutile Mi era stato richiesto da te e dall'imperatore E non è mai inutile conoscere meglio i nostri nemici Salmiti piccioncini macerato nel vino di queste terre Con le due borghette e pagnotini di Santa Chiara Riso con le mandorle di questi monti, crostini di borrage Uliveri piene e formaggio fritto Parve di pecora con salsa cruda di peperoni e fave bianca E poi i dolci Dolce di San Bernardo Le paste di San Nicolò Occhietti di Santa Lucia E poi i vini, vini di queste valli Vino contro la cotta e vino di Genziano Liquori di Citronello E nocino Ah, l'abate è un grande ospite 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 Pace e bene, Guglielmo Mio cardinale, pace e bene anche a voi Mi è molto caro che usiate codesta espressione così cara ai francescani Sono questi i voti che Giovanni vuole inviare esplicitamente a voi e a tutti i minoriti Vorrei farvi conoscere il mio discepolo e scrivano Il suo nome è Azzo Eminenza Bravo, bravo giovane Conosci Bologna? No, vostra Eminenza Splendida università, buon cibo Dovresti visitarla un giorno Invece di tornare fra quelle tue genti tedesche Che tanto stanno facendo soffrire il nostro amato Papa Concedetemi di baciare il vostro anello In ginocchiati Azzo In ginocchiati Laudemus Domine Oh, ecco il nostro Michele da Cesena Santum est Nomen Domine Caro Bernardo Pax Bobiscum Michele da Cesena Lassù vi si attende da molto tempo E voi? Voi siete Guglielmo, vero? Sì, Bernardo Da tempo desideravo conoscere un uomo la cui fama mi è stata di lezione e di monito Per tante importanti decisioni Che hanno ispirato la mia vita Quali, ad esempio? Oh, abbandonare il mestiere di inquisitore, ad esempio Maestro Gugli, guarda come se vi volesse molto Guglielmo Pare che in questi giorni siano qui successe vicende tristissime In cui si avverte il pestifero odore del demonio Vedo che l'abate vi ha già riferito e vi avrà anche detto che mi ha incaricato Ora tocca a me Proprio per assolvere al compito affidatomi, nei termini dell'accordo che ci vede qui riuniti, naturalmente Non avete perso tempo, vedo Già Ditemi allora voi qualcosa di utile su queste cose delittuose Sfortunatamente no, non ho la vostra esperienza in cose delittuose Ma perdonatemi Evinenza Per merda Malachia Malachia, fermatevi, prego Sì, Guglielmo Scostiamoci un po' di qua, ci sono orecchie piuttosto curiose Qui va bene Perfetto, ascolta Eccoti, un breve elenco, ho bisogno di questi libri, è in fretta Ascolta Niente storie, ne ho necessità e basta Non c'è bisogno di cercarli in biblioteca Erano già tutti sul tavolo di Venanzio E lì stanno ancora Nulla è stato toccato Bene, salirò subito nello scriptorium E io maestro, posso seguirti? Io oazzo, a te tocca un compito delicato Tieni d'occhio a Bernardo Cui, osserva dove va, con chi parla Ma non farti sorprendere Muoviti con circospezione Sarà un fantasma Ci troveremo nel chiostro tra un'ora Sì, prudente Ho fatto quanto mi avete detto, maestro Ho seguito Bernardo Cui, che ha girato dappertutto In cucina, nei mulini, negli orti, nelle stalle Ha parlato con i contadini, con i servi, con i cucinieri Mai con i monaci Parla nel volgare del luogo E secondo me li ha terrorizzati con i suoi occhi Occhi da inquisitore Bravo, alzo Guarda chi sta arrivando Alinardo Sei ricordato di procurargli i ceci che ti ha chiesto? Hai pensato a me, giovanotto? Sì, Alinardo Ecco i vostri ceci Bene, bene Hai visto, ragazzo? Anche l'altro cadavere giaceva Là dove il libro lo annunziava E ora? Ora? Ora attendi la quarta tromba Addio Giovanni offre la chiave Dio punisce Dio punisce Addio Maestro Ma Alinardo non vi sembra pazzo? No Alinardo è uomo da ascoltare Ogni volta che parla dice qualcosa di interessante Cosa ha detto questa volta? Ma piuttosto ditemi Nello scrittorio mi avete trovato libri utili alla nostra indagine? No, azzo Lasciami ancora pensare Almeno fino a domani Siete ancora lontano dalla soluzione? No Ci sono vicinissimo Ma non so a quale Il nome della rosa Di Umberto Eco Ventunesima puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Bruno Alessandro Roberto Alpi Mico Kundari Luciano Roffi Claudio Fattoretto Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Giancarlo Zanetti Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Posto elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Azzo sorprende Salvatore Con un gatto nero Pronto a fare un maleficio Per meritarsi una fanciulla E poi accompagna Guglielmo Nel labirinto E ne fa una mappa Ventiduesima puntata Allora Racconta per fila e per segno Di Salvatore Azzo Ma non ti devi distrarre Perché devi contemporaneamente Disegnare La mappa del labirinto Sulla base delle lettere Che appaiono sui cartigli? Certo Salvatore Stava sgattaiolando Verso l'orto Con un fagotto in braccio Io l'ho inseguito L'ho fermato Come Basiliscom Basiliscom cos'è? Esti orai dei serpenti Tanto bene Che il veleno Che ne rilunge tutto fuori Come? Che dica Il veleno Il punzone ben fuori Che te incide Ti attosca Ed ama Cule bianche Sul dosso E caput come gallo E lo incide La bellula La bellula Bestiola parvissima Più lunga Che il topo Che cosa ci faceva Salvatore Con un basilisco La verità è Che non era un basilisco Ma un gatto nero Da usare Per una magia portentosa Che serviva A far cadere Ogni donna Presa d'amore per lui Voleva che tu E il cellario L'uno perché potente L'altro perché giovane E bello Poteste avere L'amore delle ragazze Maestro Avete capito tutto E in che cosa Consisteva la magia? Bisognava Uccidere un gatto nero Cavargli gli occhi Metterli dentro Due uova di gallina nera Un occhio In un uovo Noto nell'altro E poi le uova Marcire dentro Un mucchio di sterco Di cavallo Ed i linee sarebbe nato Per ciascun guscio Un diavoletto Che poi si sarebbe Messo al suo servizio Per procurargli Tutte le delizie Di questo mondo Ma perché la magia Riuscisse Occorreva che la donna Di cui voleva l'amore Sputasse sulle uova Prima che queste Fossero seppellite Nello sterco Significa che stanotte Quella ragazza Con cui tu No, no, no Maestro Salvatore sostiene Che nel villaggio Di femmine Ce ne sono tante Che ne porterà Una molto più bella Di quella Che io conoscere Adesso torniamo I libri I libri vengono collocati Secondo i paesi Di provenienza Su Andiamo avanti Ecco Leones Leones Meridione Siamo dunque In Africa E questo spiega Contiene una saggezza E avranno ritenuto Che questo libro Che parla di bestie Fantastiche Che vivono In paesi lontani Facesse parte Del repertorio Di menzogne Diffuso dagli infedeli Ma l'unicorno Animale dolcissimo Altamente simbolico Figura di Cristo E della castità Mi hanno detto Che può essere catturato Solo ponendo Una vergine Nel bosco In modo che Sentendo Nell'odore castissimo L'animale Adagi il suo capo Nel gremò di lei Molti ritengono Che l'unicorno Sia un'invenzione Favolistica Dei pagani Che delusione Mi sarebbe piaciuto Incontrarne uno Attraversando un bosco E non è detto Che non esista Forse è diverso Da come lo rappresentano Questi libri Un viaggiatore veneziano Andò in terre Molto lontane Vicino La Fons Paradisi E vide Unicorni Rozi Sgraziati Nerissimi E bruttissimi Poi questa descrizione Viaggiando nel tempo E per successive Composizioni Della fantasia Ha finito Per trasformare Gli unicorni In animali Leggiadri Bianchi E mansueti Per cui Se vuoi portare Una vergine Nel bosco Attento Guglielmo Vi prego Perché volete Ancora ricordarmi Il mio peccato No no Volevo solo avvertirti Che potresti Imbatterti Nell'animale Descritto Dal testimone Veneziano Super trono Svigenti Quattua Guardate bene la mappa Maestro Come tutte le altre stanze cieche Degli altri tre torrioni Anche questo torrione Dovrebbe avere la sua stanza Autagonale Per ragioni di logica C'è ma non ci si arriva È murato Probabilmente E questo sarebbe dunque Il finisafri Sì Il luogo intorno a cui Si aggiravano Quei curiosi Che sono morti La stanza È murata Ma non è detto Che non vi sia un passaggio Anzi Sicuramente c'è E Venanzio L'aveva trovato O ne aveva avuto La descrizione Da Delmo E questi da Berengare Già prendi i tuoi appunti E leggiamoli con cura Ecco qua La mano sopra L'idolo Opera sul primo E sul settimo Dei quarti Ma certo È l'idolum È l'immagine dello specchio Venanzio pensava in greco E Eidolon È sia immagine Che spettro E lo specchio Ci rinvia La nostra immagine deformata Che noi stessi L'altra notte Abbiamo scambiato Con uno spettro Ma allora cosa saranno I quattro Supraspecchi Al di là Dello specchio Se è così Questo specchio È una porta Sì Sì Deve essere così Cerchiamo Sopra Sotto Nella cornice Nel muro Niente Prova ancora Alzati in piedi Nulla Sembra pietra nella pietra Dall'altra parte Dall'altra parte Seppure lì dietro Ci fosse una stanza Beh Il libro che cerchiamo Di sicuro Ora non c'è più L'hanno portato via Prima Venanzio E poi chissà dove Berengario Forse Berengario L'ha riportato qui No no Quella sera Eravamo nel labirinto Ed egli Deve essere morto Nei Balnea Non molto dopo il furto Quella stessa notte Altrimenti Lo avremmo rivisto Il mattino successivo Cosa concludete Maestro Per ora abbiamo Appurato dove stia Il Finisafriche E abbiamo quasi tutti Gli elementi Per perfezionare meglio La mappa Della biblioteca Abbiamo risolto Tutti i misteri Del labirinto Tutti direi Meno uno E li abbiamo risolti Meglio da fuori Che da dentro Su Usciamo di qua Oltretutto i lumi Stanno indebolendosi Andiamo al refettorio I due prigionieri Sono Avern Sapete chi sono Capitano L'uomo si chiama Salvatore E la donna Sta a Avern È lei con gli arma È lei Zitto Sta zitto Salvatore Mi aveva detto Zitto Ti ripeto Secondo i vostri ordini Silenzio Battugliavamo il cammino Fuori dalle cucine E come annunciato Li abbiamo sorpresi Portali qui Mio Dio Una donna Una donna in questo luogo santo E con un monaco Giotto Non è riuscito a tacere con me Non ha tacciuto con altri L'hanno venduta E' meglio per tutti Ci penserò io No Abate No Questo fatto è troppo grave Se si trattasse solo della violazione Del voto di castità Questa è la mia giurisdizione La punizione di quest'uomo È compito mio Magnificentissimo Poiché non sappiamo ancora Se i maneggi di questi due sciagurati Abbiano a che vedere Con la salute di tutti gli ospiti Dobbiamo prima far luce Su questo mistero Proceda capitano Io penso all'uomo Voi due alla donna Avanti tu Cos'hai lì dentro No Sì poche storie Un gatto Un gatto nero Guardate come corre Scappa come se avesse il fuoco Da dove arriva? E' uscito da quel prodotto Che Salvatore portava in petto Magnificentissimo Sì capitano Avete visto? Anche troppo bene Un coltello Due uova rotte e viscite Che paiono sangue e bile E la ragazza? Forza voi due Datevi da fare Vieni qui bella giumetta Che belle mele mature Lasciate Lasciate Altro che mature Sono vive Guarda come si muove Lasciate Lo credo che sono vive Ma cosa c'è nascosto in mezzo A con questo periodo Maestro Maestro ditemi Che era solo per mangiare Slezio ti ho detto Un gatto E' un gallo nero abate Io li conosco bene questi parafernali Bernardo Guglielmo Vedo che ci siete anche voi Ditemi Tre anni fa Non foste inquisitore A che il Kenny Dove quella ragazza Aveva commercio con un demone Che le appariva sotto la specie Di un gatto nero Si è vero Mi prego Mi prego Diteglielo Che era una povera famata Non credo Bernardo Che abbiate bisogno Delle mie antiche esperienze Per arrivare alle vostre conclusioni Oh no Sui gatti neri Ci sono testimonianze Ben più autorevoli Da Alberto Magno A Jacques Fournier Certo Vedete abate Anche Guglielmo Ne è edotto Ma forse la magnificenza vostra Non sa Che cosa sono usifari peccatori Con questi strumenti Ditemelo voi Ho visto donne scelleratissime Nelle ore più buie della notte Usare gatti neri Per ottenere prodigi Che non poterono mai negare Bernardo Cali Racconta Ad esempio Racconta Andare a cavalcioni di certi animali E percorrere col favore notturno Spazi immensi Trascinando i loro schiavi Trasformati in incubi vogliosissimi E il diavolo stesso Si mostra loro sotto forma di gallo O di altro animale nerissimo Col quale esse poi Non domandatemi come Congiacciano Silenzio Che so di certo che proprio in Avignone Con negromanzie del genere Non è molto Si preparano filtri E unguenti Per attentare la vita Dello stesso Papa Avvelenandogli i cibi Vi basta abate Per convincervi Mi basta Perfetto Il fatto ormai mi pare chiaro Un monaco sedotto Una strega E qualche rito che per fortuna Non ha avuto luogo E sapete anche a quale fine si sarebbe celebrato Non ancora Ma sottrarrò alcune ore al mio sonno per saperlo Sempre che mi concediate un luogo dove quest'uomo Possa essere custodito Abbiamo delle celle nel sottosuolo del laboratorio dei fabbri Che per fortuna si usano assai poco E sono vuote da anni Capitano Comandate Bernardo La strega Prima di bruciarla cercheremo qualche prova Il monaco invece Lui lo legherai bene a qualche anello infisso nel muro Voglio guardarlo in viso quando tra breve scendolo ad interrogarlo Vedrai Riuscirò a farlo pentire Il nome della rosa Di Umberto Eco Ventiduesima puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Paolo Serra Roberto Alpi Maurizio De Carmine Carlo Cartier Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Bruno Viola Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove nella sala capitolare Tra le due legazioni Si incomincia a discutere Sulla povertà di Cristo E presto c'è bisogno Degli arcieri Per sedare una furiosa rissa Ventitresima puntata Lasciate Maestro Lasciatemi andare Voglio seguirla Stai fermo Sciocco La ragazza è perduta È carne bruciata Tu guardi la strega Vero? No Bertino Non la guardo Cioè Forse la guardo Ma non è una strega Tu la guardi Perché è bella È bella no? Mi state facendo male So che sei turbato Sì lo so E lo sei perché Il peccato di cui là Si sospetta Te la rende ancora Più affascinante Lasciatemi Mi state stringendo troppo Se la guardi È proprio il desiderio Perciò stesso Essa è una strega Addio Mio bel giovane Addio No Stavi Guardi a figlio mio La bellezza del corpo Si limita alla pelle Se gli uomini Vedessero cosa c'è sotto Rabbe li vi direbbero Alla visione della donna È come la lince di Beozia Che vuol dire? Tutta quella grazia Consiste di mucosità e sangue Di umori e bile Mi viene da vomitare Se si pensa a ciò Che nasconde Nelle narici Nella gola Nel ventre Non troveresti Che l'ordume E se ti ripugna Il mucolo sterco Come potresti mai Desiderare di abbracciarlo? Come potresti? Adesso basta Ubertino Quella ragazza Presto sarà sotto tortura Quindi sul rogo Diventerà esattamente Come dici tu Mucosangue Umori e bile Ma saranno i nostri simili A cavare di sotto Ciò che il signore Ha voluto Che fosse protetto E adornato Dalla sua pelle Basta Smettetela E dal punto di vista Della materia prima Tu non sei il migliore di lei Lascia stare i ragazzi Guglielmo Davignone Un gatto nero Un gatto nero non è certo Una prova E in prima istanza Non può essere usata Per disturbare L'incontro di domani Ma stanotte Bernardo cercherà Di strappare a quel Disgraziato di Salvatore Qualche altra indicazione Di cui si servirà Magari più avanti Se mai la discussione Prendesse un andamento A lui poco gradito Guglielmo Vedere il signore Faccia a faccia Maledetto sia L'eretico Giovanni Se adesso ci togli Anche l'assistenza Dei santi Dove finiremo noi Poveri peccatori Dove finiremo Poveri finiremo Dove finiremo Il peccolo dice Che Cristo aveva una borsa Taci tu Con questa borsa Che dipingete Persino sui croce fissi Maestro Mentre mi stavo avvicinando Alla sala capitolare Ho visto Bernardo Che si accomiatava Da Malachia Malachia era molto agitato Era guardingo Come chi non voglia Essere scorto Mentre commette un delitto Credo che abbia passato Delle carte a Bernardo Hai proprio visto? No Ma quando Malachia Se n'è andato Con quella sua aria furtiva Ingobbito nelle spalle Come al solito Io ho seguito Bernardo L'ho visto Che scorreva delle carte E poi ha chiamato Il capo degli arcieri E le ha murmurato Alcune parole E dopo? Sono venuto subito A raggiungervi Mi pare che l'hai fatto bene Perché qui Se capisco bene Qui già incominciano A scaldarsi gli animi Silenzio Penso che prima di iniziare Sia giusto riassumere I fatti più recenti Nell'anno del signore 1322 Il capitolo generale Dei frati minori Riunitosi a Perugia Sotto la guida di Michele da Cesena Aveva stabilito Con matura E diligente deliberazione Che Cristo E gli apostoli Non hanno mai avuto In comune alcuna cosa Sia per ragioni di proprietà Che di signoria E che questa verità Era materia di fede sana E cattolica Lo stesso Papa Giovanni XXII Nel 1317 Aveva commentato Le tesi del capitolo Perugino Come santamente composte Lucide Solide E matura Dovete perdonarmi Abbone Ma per chiarezza Occorre ricordare Che l'anno seguente Il Papa Era ritornato Sui suoi passi E che a complicar le cose E a irritare Il pontefice Era successivamente Intervenuto Nel 1324 Ludovico il Bavaro Sì Con la dichiarazione Di Saxenaus Esatto L'imperatore decise Colà Di assumere le tesi Di Perugia Senza Alcuna buona ragione Ma insomma Silenzio E si comprese Perché mai l'imperatore Acclamasse tanto Entusiasticamente Una povertà Che egli Non praticava affatto E si pose contro Pessere il Papa Chiamandolo Inimicus facis E dicendolo Inteso A suscitar Scandali E discoglie Trantandolo Infine Da eretico Anzi Da eresianco Eh non è proprio così Cardinal Bertrandolo E in sostanza Sì mio caro Appone Ed è proprio Per controbattere Questo inopportuno Intervento Che Giovanni È stato costretto A dimettere La decretale Qui a Corundam E a invitare Severamente Michele da Cesena A presentarsi Al suo cospetto Ma Michele Non l'ha mai fatto Dicendosi malato Ma ora Per fortuna Lo vedo sereno E di bell'aspetto E pertanto Lo attendiamo Da Vignone Per comporre Amichevolmente Questa diatriba Dico bene Michele Prima di rispondervi Vorrei che udiste Ubertino da Casale Che con mia grande gioia E commozione Si trova qui con noi E a cui Lo stesso pontefice Nel 1322 Chiese una fondata relazione Sulla povertà E che può quindi Riassumere I punti capitali Di quelle che sono Le idee E dell'ordine francescano Solo dopo il peccato I nostri progenitori Iniziarono a dividersi La proprietà delle cose Cristo e gli apostoli Ebbero le cose Non in possesso Bensì in uso Rimanendo salva La loro assoluta povertà Vestimenta Pani Pesci Come disse Paolo Abbiamo gli alimenti E di che coprirci E siamo contenti No no caro fratello Tutti i Vangeli Dichiarano che Cristo Era uomo E mangiava e beveva E per via dei suoi Evidentissimi miracoli Era anche Dio E tutto questo Malza proprio all'occhio Anche i mari Ed indomini Fecero dei miracoli E tu vuoi uguagliare I miracoli di Cristo All'arte magica Aveva una borsa Proteggi i tuoi figli Maestro Non ci sono argomenti migliori Per dimostrare o negare La povertà di Cristo Non potrei mai stabilire Sulla base dei Vangeli Se Cristo considerasse Di sua proprietà E quanto La tunica che portava E che poi magari Ti dava via Quando era consumita La questione non è Se Cristo fosse povero E allora qual è? E se debba essere povera La chiesa E povera Non significa Tanto possedere O non un palazzo Ma tenere O abbandonare Il diritto Di legiferare Sulle cose terrene Ecco dunque Perché l'imperatore Tiene tanto A discorsi Dei minoriti Sulla povertà Infatti I minoriti Vanno il gioco imperiale Contro il Papa Ma per Marsiglio E per me Il gioco È doppio In che senso? Vorremmo che il gioco Dell'impero Facesse il nostro gioco E servisse alla nostra idea L'erumano governa Vada a te Vascello di Niquità Colui che chiami Piotone È un santo Di Santa Romana Chiesa Santo dei miei sandali Canonizzato da Giovanni Per fare dispetto Ai francescani Già Questo lo direte Quando dovrete parlare Sono preso Tra due forze contrastanti Come un asino Che non sappia Da quale dei due sacchi Di fieno Mangiare Guglielmo Voi impreda al dubbio È che i tempi Non sono maturi Forse dovrò parlare A meno che costoro Non finiscano prima Di ammazzarsi l'un l'altro Vedo che Paragoni Cristo Ha un cavallo No Ricettacolo di Sterco Sei tu Che Paragoni Cristo Ha un prelato simoniaco Della tua corte Sì E quante volte La Santa Sede Ha dovuto accollarsi Nei processi Per difendere I vostri beni I nostri Ma sei impazzito Erano beni Della chiesa Quindi Noi avevamo Soltanto in uso Sì In uso Per mangiarveli Per farvi belle chiese Con l'estate d'oro Ipocriti Lo sapete bene Che è la carità E non la povertà Il principio Della vita perfetta Questo Lo ha detto Quel ghiottone Del vostro Tommaso Vada a te Vascello di Iniquità Colui che chiami ghiottone È un santo Di Santa Romana Chiesa Santo dei miei sandali Canonizzato da Giovanni Per fare dispetto Ai francescani Già Il vostro Papa Non può far santi Perché è un eretico Anzi Un'eresiarca No Questa è la dichiarazione Del fantoccio di Baviera Preparata dal vostro Ubertino Vada come parli Maiale E allora dimmi Se tu non c'eri Chi ha suggerito a Ludovico L'uso dei tuoi scritti È forse colpa mia Se l'imperatore Legge i miei scritti Certo non può leggere i tuoi Che sei un illetterato Io un illetterato Era letterato Il vostro Francesco Che parlava con le occhi Hai bestemmiato Sei tu che hai bestemmiato Fraticello da Barilotto Io non ho mai fatto il Barilotto E tu lo sei Sì Che lo facevi Col tuo fraticello E quando? Quando ti infilavi nel letto Di chi era da Montefalco E io ti fulmini Fulmini Io ero inquisitore a quel tempo E Chiara era già aspirata In odore di santità Ah sì Chiara aspirava odore di santità Ma tu aspiravi Un altro odore Quando cantavi Il mattutino a Levona Continua Continua L'ira di Dio Ti raggiungerà Come raggiungerà Il tuo padrone Fratelli Fratelli E insomma Venerabili fratelli Venerabili fratelli Santo Francesco Proteggi i tuoi figli Maestro Mai avrei pensato Di assistere ad un diverbio Tanto violento Nella sala capitolare Dell'abbazia Hai ragione Azzo Neanch'io Lo ritenevo possibile La questione non è Se Cristo fosse povero E se debba essere povera La chiesa E povera Non significa Tanto possedere O non un palazzo Ma tenere O abbandonare Il diritto Di legiferare Sulle cose terrene Frate Guglielmo Presto Venite Fratelli Severino Vi deve parlare Con urgenza Con urgenza Vi dico Mi siedo vicino a te Fratelli Di là maestro Di là Severino In quell'angolo Sì lo vedo anch'io Andiamo Certo che Da quando sono sorti Gli ordini mendicanti La cristianità È diventata Molto più virtuosa Sietevi di mezzo Non ho il tempo Di rispondervi A Imaro Guglielmo Guglielmo Non puoi andartene Proprio ora Torna indietro Un momento solo Michele Dammi un momento Eccomi Severino Che cosa succede? Il nome della rosa Di Umberto Eco Ventitresima puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Emilio Cappuccio Fabio Poggiali Pier Giorgio Fasolo Elia Schilton Bruno Viola Vico Kundari Claudio Fattoretto Paolo Lorimer Luciano Roffi Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Postelettronica Sceneggiato Chiocciolarai Punto it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia Di Giuseppe Venetucci Dove Severino parla a Guglielmo Di uno strano libro E Guglielmo parla ai legati Di una strana concezione Del governo temporale Ventiquattresima puntata Eccomi Severino Che cosa succede? Spostiamoci Ci sono troppe orecchie Dopo le urla di Michele Ci stanno guardando tutti Cosa c'era di tanto urgente? Volevo dirti Che Berengari È stato certamente all'ospedale Prima di andare a Parnea Come lo sai? Tu mi avevi detto Che Berengario Doveva avere qualcosa con sé Bene Ho trovato qualcosa Nel mio laboratorio Un libro Non mio Confuso tra gli altri libri Uno strano libro Deve essere quello Portamelo subito Non posso Dopo ti spiego Credo di aver scoperto qualcosa di interessante Devi venire tu Ti devo mostrare il libro Con cautela Attento maestro C'è cosa Dove? Lì dietro alle sue spalle È comparso dal nulla Silenzioso come suo costume Ecco che se ne va Secondo te Ha sentito qualcosa? E chi lo può dire? Una persona normale Non avrebbe potuto intendere niente Dai sussurri di Severino Ma sapete come sono i ciechi? Hanno l'udito particolarmente acuto Adesso parla con uno dei monaci Deciditi Guglielmo Ti stanno aspettando tutti D'accordo D'accordo Ti prego Severino Torna subito da dove vieni Chiuditi dentro e attenditi Vado E io? Tu segui Orche Anche se hai inteso qualcosa Non credo che si faccia portare all'ospedale In ogni caso Sappi ben dire dove va Maestro Osservate Anche Imaro si è messo sulle sue tracce Tutti in fila dietro Severino Severino Mi raccomando Non consentire a nessuno Che quelle carte Tornino da dove sono uscite Che prudenza Mi ha parlato a voce troppo alta Il mio maestro Il cellulare ha udito Ci deve sapere qualcosa Perché è il volto contratto dalla paura E sta seguendo anche lui Severino Basta Fratelli Basta Avanti Frate Guglielmo Non fateci attendere oltre Esprimeteci dunque Le tesi dei teologi imperiali Tesi Sì sì tesi Avete detto giusto Non dottrina Fermatemi Se vi apparirò troppo lungo Nessuno oserà Procedete mi prego Ebbene Sin dalle pagine della Genesi In cui si va di bene Ancora non si fa menzione di sacerdoti e di re E considerando anche Non si può dire che non l'abbia presa la lontana Le cose di questa terra Purché obbedissero alle leggi divine Ebbene E' da sospettarsi che allo stesso signore Non sia estranea l'idea che nelle cose terrene Sia il popolo a legiferare Ne consegue che la legiferazione sulle cose di questa terra Non ha nulla a che vedere con la custodia E l'amministrazione della parola divina Privilegio inalienabile Della gerarchia Oh signore Guglielmo mi ha detto di seguire Jorge Ma ora diventa inutile Perché sta andando con il frate suo Accompagnatore verso l'edificio E' meglio non perdere di vista il cellario Ma dove è finito Aymaro? Non lo vedo più C'è una nebbia troppo fetta E invece Severino? Finalmente è entrato nel suo laboratorio Di sicuro farà quello che gli ha detto il maestro E non aprirà nessuno Ma chi è là? Pencio Cosa fai da queste parti? Quello che fai tu Severino ha trovato qualcosa lasciato da berengario Non è vero? Cosa ne sai tu? Non sono uno sciocco No Severino corre a dire qualcosa a Guglielmo Tu controlli che nessuno lo segue E tu osservi troppo noi e Severino? Io Certo che vi osservo E dall'altro ieri che non perdo d'occhio Nei ball né nell'ospedale Se solo avessi potuto vi sarei già entrato Darei un occhio della testa Per sapere cosa berengario ha trovato in biblioteca Tu vuoi sapere troppe cose senza averne il diritto? Io sono uno scolaro E ho diritto di sapere Io sono venuto dai confini del mondo Per conoscere la biblioteca E la biblioteca rimane chiusa Come se contenesse cose cattive Lasciami andare Ti lascio andare Ti lascio andare Tanto mi hai detto ciò che volevo Io Si dice anche tacendo Ti consiglio di non entrare nell'ospedale Non entro Non entro Stai tranquillo Ma nessuno mi proibisce di guardare da fuori Torniamo nella sala capitolare Sono curioso di sentire come se la cava Guglielmo Le loro divinità bugiarde Che necessariamente non esistono No, no, certo Mirabile prova della bontà divina Che ha conferito la capacità di giudicare Sulle cose politiche Anche a chi disconosce L'autorità del romano pontefice E non professa gli stessi sacri Dolci e terribili misteri Del popolo cristiano Ma quale più bella dimostrazione Se non questa Del fatto che il dominio temporale E la giurisdizione secolare Nulla hanno a che vedere con la chiesa E con la legge di Gesù Cristo E furono ordinati da Gio al di fuori Di ogni conferma ecclesiastica E prima persino che sorgesse La nostra santa religione Abbiamo l'esempio stesso di Cristo Il quale non venne in questo mondo Per comandare Ma per sottomettersi Per quanto riguardava la sua condizione umana Alle leggi di Cesare Ora capisci dove vuole arrivare? Daci Lasciami ascoltare Avessero comando e dominio Ci siamo Perciò se il pontefice I vescovi e i preti Non fossero sollevati Da qualsiasi potere mondano E coattivo L'autorità stessa del principe Ne verrebbe inficiata E si infigerebbe Conciò Quell'ordine Che è stato disposto Da Dio Fatelo tacere Veniamo dunque agli eretici Signore aiutaci Calma Il principe può e deve condannare l'eretico Solo se la sua azione nuoce Alla convivenza di tutti Se cioè l'eretico Afferma la sua eresia Uccidendo e impedendo coloro Che non la condividono Che Dio ci perdoni Ma a quel punto Si ferma il potere del principe Nessuno su questa terra Può infatti essere costretto Con suplizi A seguire i precetti del Vangelo Perché? Perché? Spiegacelo Altrimenti dove finirebbe Quella libera volontà Sull'esercizio della quale Ciascuno Verrà poi giudicato Nell'altro mondo Se Cristo avesse voluto Che i suoi sacerdoti Avessero avuto tale potere coattivo Avrebbe stabilito precisi precetti Come fece Mosè Con la legge antica Ma non lo fece Dunque Non lo volle Non ce n'era bisogno Intendete suggerire Che in tre anni di presigazione Gli fosse mancato il tempo O la capacità di dirlo? No No Era giusto Che non lo volesse E sapete perché? Perché 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 se no Il Papa avrebbe potuto Imporre la sua volontà al re E il cristianesimo Non sarebbe più Leggi di libertà Ma intollerabile schiavitù Ma non capite Tutto ciò Non è di limitazione Ai poteri del santo pontevice Al contrario Questo esalta la sua missione Perché il servo dei servi di Dio Sta su questa terra Per servire Non per essere servito Vendetto No Vendetto Fratelli Ma non vi parrebbe Perlomeno bizzarro Se il Papa Avesse giurisdizione Sulle cose Dell'impero E non sugli altri regni Della terra Che cosa vuoi dire? Se il Papa Volesse assumere Oltre alla giurisdizione Spirituale Anche quella temporale Non solo Non avrebbe giurisdizione Spirituale Sui Saraceni O sui Tartari Ma neppure sui francesi E sugli inglesi A questo nome Che pure sono nostri fratelli Ma fuori dell'impero Intendi forse significare Che il Papa Non ha sull'impero Diritti maggiori Che sugli altri regni Esatto La chiesa di Avignone Fa ingiuria All'umanità intera Asserendo che L'espetta di approvare O sospendere Colui che è stato eletto Imperatore dei Romani Ne sono forse soggetti Il re di Francia O il soldano No No E tu Non si vede Una buona ragione Perché lo debba essere L'imperatore Degli tedeschi E degli italiani Ma cosa dici? Non è questo il modo In cui avevo vagheggiato I rapporti Tra il mio ordine E l'impero Tale soggezione Non è Di diritto divino Perché le scritture Non ne parlano Amen Amen No Non è ancora finito Con le tue facezze Basta col Papa E con l'imperatore Parlaci un po' Della povertà Di questi miserabili minoriti C'è davvero poco da dire Se i francescani vogliono rimanere poveri Il Papa non può e non deve Opporsi a un desiderio tanto virtuoso Sì sì Belle parole Ma i minoriti Certo che se l'ipotesi della povertà di Cristo Fosse provata Non solo ciò gli aiuterebbe Ma rafforzerebbe L'idea che Gesù Non aveva voluto per sé Nessuna giurisdizione terrena Ma non hai forse sentito stamane Persone assai sagge Asserire che non si può provare Che Gesù fosse povero Certo E molto apprezzato E allora E allora Rovescerei la dimostrazione Cioè Poiché nessuno ha mai asserito Che Gesù Abbia richiesto per sé E per i suoi Alcuna giurisdizione terrena Mi pare che questo suo distacco Dalle cose temporali Sia sufficiente indizio Per ritenere senza peccare Che abbia prediletto La povertà Che la cristianità Diventi più virtuosa Claudemus Domine Verreste dunque ad Avignone A ripetere al Papa A viva voce Queste stesse cose Mi piacerebbe molto Udire il vostro augusto parere Papa Giovanni ha udito Pronunciare molte opinioni discutibili In vita sua Ed è uomo amorevolissimo Con tutti i suoi figli Ma Vi confesso Eminenza Pendo dalle vostre labbra Beh queste proposizioni Lo addolorerebbero molto Io sarei molto lieto Se frate Guglielmo Così abile ed eloquente Ad esporre le propede Venisse a sottoporle Al giudizio del pontefice Mi avete convinto Signor Bernardo Ditemi allora Non verrò Sapete questa fusione Che mi sta prendendo al petto Mi sconsiglia Di intraprendere Un viaggio così lungo In questa stagione Ma allora perché Avete parlato tanto a lungo? Per testimoniare della verità La verità ci farà liberi Il nome della rosa Di Umberto Eco Ventiquattresima puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Roberto Alpi Fabio Poggiali Riccardo Reim Claudio Fattoretto Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Bruno Viola Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai Punto Itty Grazie a tutti. Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Bernardo Guia resta con gran clamore il cellario E cerca di appropriarsi dell'indagine Mentre Guglielmo e Azzo seguono un'altra pista 25esima puntata Signor Bernardo Signor Bernardo A che volete capitano? Dovete venire subito a me Fratelli! Fratelli! Col permesso dell'abate Un evento di immensa gravità ci obbliga a sospendere i nostri lavori Cosa ancora? Maestro, cosa sarà accaduto? Forse ho colmato senza volerlo Gli attese dell'abate stesso Che sperava di scoprire il colpevole dei molti delitti dei giorni scorsi Quell'uomo è ora in mano mia Ma ahimè È stato preso troppo tardi Ancora una volta Cosa intendete? Parlate! Qualcosa è successo là fuori Vi seguo! Andiamo! Andiamo anche noi maestro Temo che sia accaduto qualcosa a Severino Su, affrettiamoci Guardate laggiù l'ospedale Monaci, famigli, arcieri Bernardo Che ci fanno con là tutti quegli uomini armati? Sono stati mandati da me Per cercare un uomo che poteva far luce su tanti misteri E il fratello erborista? No, ora vedrete Entriamo Oddio maestro Guardate Che orrore Severino in un lago di sangue con la testa spaccata E gli scaffali sembrano essere stati devastati da una tempesta Ampolle, bottiglie, libri, documenti Tutto in rovina E la grossa sfera con la croce d'oro Accanto al cadavere Innocenti, lasciatemi Sono innocente, innocente, lo capite? Abatti, lo so Le apparenze sono contro di me Ma sono innocente Tenetelo stretto Non lasciatelo scappare, capitano Sono entrato quando Severino era già morto Mi hanno trovato mentre stavo osservando senza parole questa strage Capitano, fatemi subito da corpo Ditemi tutto Vi avevo dato ordine di arrestarlo due ore fa Agli ordini, signor Bernardo Non è stato facile L'abbiamo cercato dappertutto Ma c'era questa lebbia maledetta A un certo punto è stato visto nelle cucine Infatti l'argo l'ha visto di Richard Ma quando siamo arrivati se n'era più in andata Siete sicuro di quanto affermate? Sicurissimo In cucina c'era padre Orge Asserisce di avergli parlato Prosegua Siamo di nuovo usciti E qui vicino abbiamo incontrato il vecchio Alinardo Che pareva essersi sbarito Ci ha detto di aver visto poco prima il cellario entrare nell'ospedale Allora abbiamo fatto eruzione E la porta? Com'era la porta? Aperta Severino era come lo vedete Il cellario stava rovistando forse natamente tra gli scaffali Buttando tutto a terra come se stesse cercando qualcosa E perciò è assai facile capire che cosa è successo Renigio è entrato Si è gettato sull'erborista E lo ha ammazzato E gli arcieri lo hanno sorpreso Mentre stava cercando proprio ciò per cui lui aveva ucciso Con questa sfera con la croce d'oro Guardate le tracce di sangue I grumi di capelli E le immonde sbavature di materia cerebrale Posso esaminare il cadavere? Accomodatevi Avvicinati anche tu, Azzo Sai che cosa osservare? Le mani, intendete? Già Ci sono macchie nere sulle dita Non saprei Indossa gli stessi guanti di pelle con cui era uso maneggiare le sue erbe Ha le pupille irrigidite Non penserai di potervi leggere l'immagine dell'assassino? No, Guglielmo, no Ma questa volta è chiaro com'è morto Non c'è bisogno di cercare il veleno Requiem eterno, dono insomine Remigio Remigio da Varagine Questo è il tuo nome, vero? Sì, eccellenza Ti avevo fatto cercare dei miei uomini in base ad altre accuse E per confermare altri sospetti Salvatore Ora vedo che ho agito rettamente Benché me lo rimprovero assai con troppo ritardo Abate Mi ritengo quasi responsabile di quest'ultimo crimine Perché sin da stamane sapevo che occorreva assicurare quest'uomo alla giustizia Dopo aver ascoltato le rivelazioni di quell'altro sciagurato Ha restato questa notte Ma avete visto anche voi Durante la mattina sono stato preso da tanti altri doveri Ma vi assicuro che i miei uomini hanno fatto del loro meglio Guardate maestro Malachia Ha visto anche Cellario Malachia! Ma c'è di venire il prigioniero Malachia! Giura! E io giuro! Afferratelo! Portatelo fuori! No! No! Malachia! Non farò nulla contro di te Maestro che cosa mai significa questa scena? Interessante Bernardo non mi sembra turbato Anzi Guarda sta sorridendo a Malachia come per approvare le sue parole Pare quasi che siano complici Portatelo nelle fucine Non lasciatelo parlare con Salvatore E ora Bernardo? Che cosa intendete fare? Subito dopo il pasto riuniremo nel capitolo un primo tribunale Per istruire pubblicamente questa inchiesta Siete d'accordo? Procedete Precchio in Eterno Ma che mi prende per la manica? Ah Bencio Guglielmo Io sono entrato qua dentro subito dopo di voi Quando era la stanza c'erano solo gli arcieri e il capitano E allora? Malachia non c'era Sarai entrato dopo? No, no, no Ero preso la porta ho visto che entrava Vi dico Malachia era già dentro prima Prima di quando? Prima che entrasse il cellario Non posso giurarlo Ma credo che sia uscito da quella tenda Quella che protegge il letto Su cui di solito Severino metteva a riposare Che aveva appena subito una medicazione Vuoi insinuare che sia stato lui a uccidere Severino E che si sia nascosto là dietro Quando è entrato il cellario Oppure che da là dietro Abbia assistito a quanto è avvenuto qui Perché altrimenti Remigio avrebbe implorato Malachia Di non muocerli Promettendo in cambio di non muocere lui E' possibile In ogni caso Qui c'era un libro E dovrebbe esserci ancora Perché sia il cellario che il bibliotecario Sono usciti a mani vuote Abate Ascoltatemi Fate uscire tutti Voglio esaminare meglio il luogo Ormai Guglielmo Mi sembra che voi arriviate sempre in ritardo Vi prego Ascoltatemi D'accordo Fuori tutti da questa stanza Davanti Uscite Io sarò il primo No, no, Abate Io... No, no, anche tu Malachia Frate Guglielmo Ha un compito urgente da eseguire Vada a te, Guglielmo Vi concedo pochissimo tempo Abate Preferirei restare Dovrei esaminare Questa non è la biblioteca Malachia In questo luogo Non puoi accampare diritti Fuori anche tu E al più presto Cerca, Azzo Cerca con attenzione E tu, Bencio Stai di guardia alla porta Come volete Maestro È forse questo Le pagine sono coperte di caratteri estrusi No, questo è arabo Sciocco Aveva ragione Bacone Che il primo dovere del sapiente È studiare le lingue Ma se è l'arabo Non lo sapete neppure voi Ma almeno capisco quando è arabo Abbiamo guardato dappertutto C'è ancora un posto Su, aiutami Volete davvero guardare sotto il cadavere? È indispensabile Forza Prendilo per le gambe Così Niente Niente neanche qui Non avrà neanche nascosto nella veste No, il libro che ho visto l'altra mattina Sotto il tavolo di Venanzio Era grande Ce ne saremmo accorti Come era rilegato? Non lo so Giaceva aperto Ero visto solo per pochi secondi Appena Per rendermi conto che era in greco Ma non ricordo altro Il Cellari non l'ha preso E Malachia neppure Non l'ha preso il Cellari Non ci resta che Malachia No, sono sicuro di no Come lo sai? Quando Remigio l'ho afferrato per il petto Supplicandolo di salvarlo Si è visto che Malachia Non poteva averlo sotto lo scapolare Se non è qui è evidente che qualcun altro Oltre Malachia il Cellario è entrato in questa stanza prima C'è una terza persona che ha ucciso Severino Ma è troppa gente D'altra parte chi poteva sapere che il libro era qui? Horge per esempio Se ci ha uditi Si ma Horge non avrebbe potuto uccidere un uomo robusto come Severino e con tanta violenza Certamente no E poi non l'hai forse visto dirigersi verso l'edificio? Si Si, gli arcieri infatti l'hanno trovato in cucina Non avrebbe avuto il tempo di venire fin qui e tornare in cucina Già, anche se si muove con disinvoltura Non avrebbe potuto attraversare gli orti e ricorsa per giunta Dunque Horge non può essere stato A Linardo giravano i pressi ma anche egli si regge a malapena sulle gambe E non può aver sopraffatto Severino Il Cellario è stato qui ma nel breve tempo intercorso tra la sua uscita dalle cucine e l'arrivo degli arcieri Avrebbe dovuto riuscire a farsi aprire, ucciderlo e poi combinare tutto questo pandemonio No, è quasi impossibile E se Horge fosse salito nello scriptorium e avesse raccontato a Malachia ciò che aveva udito? Continua Malachia potrebbe essere arrivato qui per primo Avrebbe potuto convincere Severino ad aprirgli e allora si che avrebbe avuto la possibilità di ucciderlo Se cercava il libro l'avrebbe riconosciuto al primo colpo Che bisogno aveva di rovistare così? Ma allora, Guglielmo, chi ci rimane? Bencio No, no, frate Guglielmo Voi sapete che ero arso dalla curiosità? Se non sei entrato qui e avessi potuto uscire col libro adesso non sarei a tenere di compagnia Ma da qualche altra parte a esaminare il mio tesoro Una prova quasi convincente, vero Azzo? Sì, maestro Però neppure tu sai come è fatto il libro Potresti aver ucciso e ora saresti qui a cercare di identificarlo Io non sono un assassino Nessuno lo ha prima di commettere il primo delitto? No, no, Guglielmo In ogni caso il libro non c'è E questa è una prova sufficiente del fatto che non lo hai lasciato qui Io non sono un assassino Mi pare ragionevole che se lo avessi preso prima Saresti sgattaiolato fuori durante la confusione Laudemus Domine Povero Severino Avevo sospettato anche di te e dei tuoi veleni Mentre lui si attendeva l'insidio proprio dal veleno Altrimenti non avrebbe indossato quei guanti Temevi un pericolo dalla terra Invece ti è giunto dalla volta celeste Azzo, dammi la sfera armillare Subito, maestro Mi sa perché hanno usato proprio quest'arma Era a portata di mano Può essere uno strumento astronomico con la volta del cielo Ma c'erano anche vasi, strumenti da giardiniere E fu colpita la terza parte del sole E la terza parte della luna E la terza parte delle stelle Cosa c'è, maestro? Giovanni Apostolo La quarta tromba Infatti, prima la grandine Poi il sangue, poi l'acqua E ora le stelle Se è così, tutto deve essere rivisto L'assassino non ha colpito a caso Ha seguito un piano Ma è mai possibile immaginare una mente così malvagia Che uccida solo quando può farlo Seguendo i dettami del libro dell'Apocalisse Se così è Che cosa accadrà con la quinta tromba? E vedi un astro caduto dal cielo sulla terra E a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso Morirà qualcuno annegando nel pozzo La quinta tromba ci promette molte altre cose E vedi un astro caduto dal cielo sulla terra E a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso Il nome della rosa Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico Adattamento radiofonico In 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Guglielmo si accorge di essere stato uno sciocco E dove si amministra la giustizia E si ha l'imbarazzante impressione Che tutti abbiano torto Su aiutami Azzo C'è qualcosa nella rilegiatura del libro Connesso al veleno che ha ucciso Berengarri e Venanzio Una insidia misteriosa Un serpente? Sì, perché non una balena No, stiamo ancora fantasticando Il veleno dovrebbe passare per la bocca E poi non è che Severino abbia detto Che non poteva trasportare il libro Ha detto che preferiva farmelo vedere qui Nel suo ospedale E si è messo i guanti? Per intanto sappiamo che quel libro Va toccato con i guanti E questo vale anche per te Bencio Se lo troverai come speri Frate Guglielmo Io voglio solo aiutarvi Bene, visto che sei così servizievole Risali allo scrittorium E tieni d'occhio Malachia Non perderlo di vista Sarà fatto A presto Guglielmo, ditemi Ma di Bencio Vi fidate davvero? Non del tutto Ma in ogni caso Non gli abbiamo detto nulla Che già non sapesse E lo abbiamo reso timoroso Nei confronti del libro E perché fargli sorvegliare Malachia? Facendogli sorvegliare Malachia Facciamo sorvegliare lui da Malachia Che evidentemente sta cercando il libro Per conto proprio E il cellario? Cosa voleva? Lo sapremo presto Sembrava terrorizzato Da qualcosa ben nota a Malachia In ogni caso Il libro è scomparso Questa è la cosa più inverosimile Perché? Se c'era E Severino ha detto che c'era O è stato portato via O c'è ancora E siccome non c'è Qualcuno lo ha portato via Ma abbiamo guardato dappertutto Guardato ma non visto Oppure visto ma non riconosciuto Azzo com'è che Severino ci ha descritto quel libro? Che parole ha usato? Ha detto di aver trovato un libro Che non era dei suoi In greco No Ora ricordo Ha detto uno strano libro È vero Guglielmo Ma che cosa sta tergico volando? Severino era un dotto E per un dotto Un libro in greco Non è strano Anche se quel dotto Non sa il greco Perché almeno Riconoscerebbe l'alfabeto E poi Ragiona Un dotto Non definirebbe strano Neppure un libro in arabo Anche se non conosce l'arabo Ma cosa ci faceva un libro arabo Nel laboratorio di un erborista? E perché avrebbe dovuto definire strano Un libro arabo? Perché aveva un aspetto inconsueto per lui Che faceva l'erborista E non il bibliotecario E nelle biblioteche accade Che molti manoscritti antichi Vengano talora rilegati insieme Intendete dire che in un solo volume Possono trovarsi testi diversi? Uno in greco Uno in aramaico Bestie di un teutone Rappa ignorante Di quel libro in arabo Hai guardato solo le prime pagine E non il resto Vieni di corsa Usciamo di qua Ma maestro Siete voi che avete guardato le pagine Che vi ho mostrato Avete detto che era arabo E non greco È vero Alzo è vero Sono io la bestia Corri Corri Presto Da questa parte Sì sì da questa parte Eccoci Andiamo subito a vedere sul tavolo Guardatevi al turno Su voi Attenzione Il libro non c'è più Non c'è speranza Guglielmo L'assassino l'ha portato via Sono uno stolto Uno stolto Capisci? Cosa serve aver studiato a Parigi E a Oxford Per essere poi incapace di pensare Che i manoscritti Si rilegano anche a gruppi Consolatevi Sono tre giorni Che cerchiamo un testo greco Ma sono cose che sanno Anche i novizi Ma è inutile piangere Se l'ha preso Malachia A quest'ora sarà già riposto in biblioteca E lo ritroveremo solo Se sapessimo entrare Nel Finis Afrique E se l'ha preso Bencio Andiamo nella sua cella No no È l'ultimo posto In cui nel caso Lo nasconderebbe E allora? E allora non ci resta Che tornare nella sala capitolare E vedere se durante l'istruttoria Il cellario dirà qualcosa di utile Sapete maestro Non mi è ancora ben chiaro Il piano di Bernardo Gui Bernardo stava cercando Il suo uomo Prima della morte di Severino E per altri scopi Bernardo Gui sta arrivando Da un momento all'altro L'abate già è qui Guarda Rimigio Sembra una bestia spaurita Ma chi l'avrebbe detto Che in questa mazzia Guglielmo Avvicinatevi Non so se la procedura sia legittima Il concilio laterano del 1215 Ha sancito nel suo canone Che non si possa citare qualcuno A comparire davanti ai giudici Lasciate stare Abate L'inquisitore è sottratto a ogni giurisdizione regolare Gode di uno speciale privilegio E non è neppure tenuto ad ascoltare gli avvocati Che Dio ci assista Ecco Bernardo Chi sei tu? Remigio da Varagine Sono nato 52 anni fa E sono entrato ancora fanciullo nel convento dei minori di Varagine E come accade che oggi ti ritrovi nell'ordine di San Benedetto? Anni fa quando il pontefice manò la bolla sancta romana Siccome temevo di venire contagiato dall'eresia dei fraticelli Pur non avendo mai Falla breve Otteni di essere ammesso in questa abbazia Dove da più di otto anni servo come cellario Sì, è così Non basta cambiare saio per cancellare dall'anima La turpitudine della depravazione eretica La mia anima innocente Lo vedete? Tutti così costoro Quando uno di loro viene arrestato Si presenta a giudizio Come se la sua coscienza fosse tranquilla e senza rimorsi E non sanno Che questo è il segno più evidente della loro colpa Perché il giusto al processo si presenta inquieto Sai perché sei qui? Sarò lieto di sapere dalla vostra bocca perché sono stato arrestato Ma ecco la tipica risposta dell'eretico impenitente Percorrono sentieri da volpe Sempre eretiche tortuose Per cercare di trarre in inganno l'inquisitore No, no, non è così Dunque, frare Migio Hai mai avuto a che fare con detti fraticelli O frati della povera vita O beghini? Io ho vissuto le vicende dei minori Ma non ho mai appartenuto alla seta dei beghini Vedete? Nega sempre Allora se non sei un beghino In che cosa credi? Signore, credo in tutto ciò in cui crede un buon cristiano Che santa risposta E a che cosa crede un buon cristiano? A quello che insegna la santa chiesa E quale santa chiesa? Quella degli pseudo apostoli? Dei fraticiali eretici? O nella chiesa in cui noi fermamente crediamo E che essi paragonano alla meretrice di Babilonia? Signore, ditemelo voi Quale credete che sia la vera chiesa? Io credo che sia la chiesa romana Una, santa e apostolica Retta dal papa e dai suoi vescovi Così? Io credo? Ammirevole astuzia l'avete udito No, no, io credo a tutto ciò che voi E gli altri buoni dottori mi ordinate di credere E chi sarebbero gli altri buoni dottori? I dottori che... Forse quei perversi mentitori che si ritengono gli unici successori degli apostoli Non ho detto questo signore E voi me lo fate dire Io credo a voi se voi mi insegnate ciò che è bene Tu ripeti a memoria Combieca determinazione il formulario Che si insegna nella tua setta Per ingannare gli inquisitori Non è vero Ma veniamo alla vera questione Hai mai inteso parlare di Fra Dolcino da Novara? Ne ho inteso parlare Lo hai mai visto di persona? Hai mai conversato con lui? L'ho visto e gli ho parlato Che forte, eh? Che finalmente si possa udire una parola vera Scendere dalle tue labbra Quando gli hai parlato Ero frate in un convento del Novarese Quando la gente di Dolcino si radunò da quelle parti Al principio non si sapeva nemmeno bene chi fossero Menti Non eri in convento Tu facevi già parte di una banda di fraticelli Che percorrevano quelle terre Vivendo di elemosine E ti sei unito ai dolciniani Come potete affermare questo signore? Te lo dirò Capitano Fate entrare Salvatore E' presto Guglielmo chissà che interrogatore tremendo Un inquisitore non tortura mai La cura del corpo dell'imputato E' sempre affidata al braccio secolare Ma che so io signore Come hanno nome tutte queste risie? Lo sciagurato era di solito orribile Ma quel mattino sembrava molto più simile a un animale In catene le membra dislogate Quasi incapace di muoversi Sembra proprio un animale Sembra una scimmia legata alla corta E' orribile Traduttore facci ben capire che cosa ha detto Salvatore Ecco signor Bernardo Egli afferma che l'eresiarca dolcino Vicino alla sconfitta e alla cattura Affidò al cellario Remigio alcune lette E sa egli a chi erano indirizzate? Ah no, Salvatore lo ignora Remigio però non oso mai consegnarle Sempre le ha tenute con se E quando è arrivato all'abbazia Le ha consegnate a Malachia perché le nascondesse Premio Certo Signora Simba Ti sono stato padre, amico, scudo E così che mi ripaghi Calma tu Remigio Forse che potessi ero tuo E mi eri dilectissimo Ma tu conosci la famiglia del Vargello Qui non avete capallo Ma non valla con il padre Sì, salvatore, sì Sì, salvatore, sì Sì, salvatore, sì Non sai che morirai tu in prezzo? Anche tu? Calma, di chi hai parlato sotto il tuo Di chi hai inventato tutto? Ma che so io, signore? E come hanno nomi tutte queste resi? Paterini, gazzesi, circoncini Io non sono omuliteratus Pecavi, cinemalizi Il signor Bernardo Magnificentissimo è il sa E ti spero Nell'indulgenzia sua In nomine patria Di figlia di spirito santi Noi saremo indulgenti Quanto ci sarà concesso Dal nostro uffito Grazie Sono stupido Vai, vai Vai a meditare nella tua cella E spera nella misericordia del signore Vai, prega Se puoi Dunque, Remigio Tu portavi con te Delle lettere di dolcino E le desti al confratello tuo Che ha cura della biblioteca Non è vero, non è vero Non è da te che ci serve l'assenso Si chiami Malachia da Hildesheim Malachia da Hildesheim Malachia da Hildesheim Malachia da Hildesheim Avanti Malachia Affrettatevi Chiedete Bernardo Sono pronto a rispondermi Stamane dopo la confessione Resa da Salvatore Vi ho chiesto se levate ricevuto Delle lettere da Remigio Malachia Poco fa mi hai giurato Che non farei nulla contro di me Non ho spergiurato Se contro di te potevo fare qualcosa L'avevo già fatto Le lettere Erano già state consegnate Molto prima Che tu uccidessi Severino Ma tu sai Tu devi sapere Che non sono stato io Tu lo sai Perché eri già là Come io Malachia era già là Io sono entrato laggiù dopo Che ti hanno scoperto Ma era già là Signor Bernardo Ma tu Remigio Tu Che cosa cercavi da Severino Io Stamattina Ho udito frate Guglielmo Qui presente Dire a Severino Di custodire certe carte Da ieri in notte Dopo la cattura di Salvatore Temevo Si parlasse di quelle lettere Allora tu sai qualcosa Di quelle lettere Parlerò delle lettere dopo Dirò poi come ne viene in possesso Chissà come sarà successo Non lo dirà mai Il timorito da un pericolo Si è cacciato a testa bassa In un altro Remigio Quando ho udito Guglielmo Ho pensato che Malachia Preso dalla paura Si fosse sbarazzato di quelle carte E le avesse date a Severino Così sei andato nel laboratorio La porta era aperta E Severino era già morto Mi sono messo a fugare dappertutto Per recuperare le lettere Perché prima hai ucciso Anche quegli altri confratelli Forse pensavi che quelle lettere Da tempo circolassero Tra la mani di molti Forse si usa in questa pazzia Dare la caccia alle reliquie Degli eretici bruciati Laudemus Domine Maestro Guardate la bate Come è spiancato La strategia di Bernardo È finalmente chiara Cancellare sul nascere Ogni possibilità d'accordo Tra le due delegazioni E tarpare definitivamente le ali Al mio compito di mediatore Il nome della rosa Di Umberto Eco Ventiseiesima puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Roberto Alpi Carlo Cartier Luca della Bianca Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Paolo Serra Bruno Viola Giancarlo Zanetti Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai Punto it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Remigio tenta di negare Ma alla fine cede E colto da improvviso coraggio Difende con vigore le sue scelte E pur di non finire torturato Confessa anche quello Che non ha commesso Ventisettesima puntata Ho capito finalmente maestro Dove mira Bernardo Gui A lui poco importano i delitti A lui importo dimostrare Laudernus Dominus I seguaci dell'imperatore Sono un'orda eretica Che vuole minare la santità del Papa E' uno dei protagonisti Da eliminare dal gioco E' l'abate Eminenza Carissimo Bernardo Abate Allora Remigio Continua Lo ripeto Non ho nulla a che fare Con i delitti Piano piano Non di questo stiamo discutendo Ma di eresia E' inutile che cerchi Di distogliere l'attenzione Dai tuoi ordini trascorsi Cercando di rendere Sospetto Malachia Torniamo quindi alle lettere Malachia da Illesain Ditemi signore Voi non siete qui come accusato Stamane avete risposto Le mie domande Senza nascondere nulla Ora ripeterete qui Ciò che mi avete detto stamane E non avrete nulla da temere Ripeto quanto ho detto stamane Dopo poco tempo Che ero giunto quassù Remigio Cominciò ad occuparsi Delle cucine E avemmo frequenti contatti Per ragioni di lavoro Io come bibliotecario Sono incaricato Della chiusura nottiva Turda di tutto l'edificio E quindi anche delle cucine E diventaste amici Amici Fraterni Direi Non avevo motivo Di nutriere sospetti Contro costui Cosa vi raccontò? Vi raccontò Che aveva con sé Alcuni documenti Di natura segreta Confidategli in confessione Che non dovevano Cadere in mani profane E visto che voi custodite L'unico luogo interdetto A tutti gli altri E' così Ha consentì A conservarli Lontano da ogni sguardo curioso Non presumendo Che i documenti Fossero Di natura eretica Dunque Non li leggeste? Assolutamente no Tanto che col tempo Mi scordai persino Di averli Sino a stamattina? Sì sì Quando voi Me ne avete fatto Un cenno Allora sono andato A ritrovarli Per consegnarveli Marachia Perché non mi hai informato Di questo tuo patto Colcellario? Mio abate La biblioteca Non è riservata Cosa di proprietà Dei monaci Mi era parsa Cosa di poca importanza Ho peccato È vero Ma senza malizia Siamo tutti convinti Che il bibliotecario Agito in buona fede E la franchezza Con cui ha collaborato Con questo tribunale Ne è la prova Non è così abate? Era solo per chiarire Che l'abbazia Con questa vicenda Non ha proprio Nulla a che vedere Prego fraternamente La magnificenza vostra Di non fargli carico Di quell'antica imprudenza Noi crediamo A Malachia Hai visto come fuori Poazzo Non ha risposto All'abate Ma ha assolto Malachia Ma non ha assolto L'abbazia Malachia Guarda queste due pergamene Le riconosci? Sì Sono quelle che vi ha dato stamane E sono le stesse Che ti ha dato Remigio Il suo arrivo In questa abbazia? Sì Lo giuro Su Dio Onnipotente Sulla Santissima Vergine E su tutti i santi Che così è stato Tu gli nascondevi le lettere E lui ti portava Il culo dei novizi in cucina Ciò mi basta Potete andare Silenzio Fate silenzio Diversamente le peggiori punizioni Si abbatteranno su di voi Scombrate la sala Parleremo più avanti Qualcuno verrà cacciato per sempre Da questa abbazia Quanto è vero il Dio Torniamo a te Remigio Se Frate Guglielmo In questi giorni Avesse posto più attenzione Alla vada degli eretici Che non a quella dei cani Forse avrebbe scoperto anche lui Quale serpe si annidava In questa abbazia Può darsi Bernardo Ma non perdiamo altro tempo Allora riconosci? Queste carte come cosa tua? Sono due pagine stilate di pugno Dall'eresiarca Dolcino Pochi giorni prima di essere preso E le ha affidate a te Suo accolito Per portarle a chi? Io Non sai dire altro? Puoi ancora negare Di aver avuto commercio A coabitazione Con la setta degli pseudo apostoli? Signore La mia gioventù È stata popolata Di errori funestissimi Quando appresi Della predicazione di Dolcino Credetti nelle sue parole E mi unì alla sua banda Continua Fui con loro nel Bresciano Nel Bergamasco A Como In Valsesia Sulla parete calva E infine sul Monterebello Saccheggi Violenze Non ho mai di così parte Io portavo in me lo spirito Di mansuetudine Che fu proprio Dei figli di Francesco E proprio sul Monterebello Dissi a Dolcino Che non mi sentivo più Di partecipare Alla loro lotta Immagino che lui Ti diede il permesso Di andarsi Mi disse che non voleva Dei pavidi con sé Mi chiese solo Di portargli Quelle lettere A Bologna A chi? Io non ho mai consegnato Le lettere Anzi feci di più Molto di più E cosa di grazia? In cambio di un salvacondotto Indicai all'esercito Del vescovo di Vercelli Dei buoni passaggi Per poter assalire Le fortificazioni Di Dolcino Insomma ci dite Che quel successo Delle forze della chiesa Fu soprattutto merito vostro? Sì Lo dico ora Dopo aver tentato Di dimenticare Per tanti anni Interessante Vero Bernardo? Molto interessante Mi credete dunque? Sì Credo che non solo Foste eretico Ma anche vile Traditore Come oggi Per salvarti Hai tentato Di accusare Malachia No signore Vi giuro che Un giuramento? Ecco un'altra prova Della tua malizia Voi pseudo apostoli Accordate dispense A chi giura il falso Per non tradire la setta Ma allora cosa Debo fare? Ecco Guardate In ginocchio davanti a voi Non prosternarti Come un bellino Hai una sola cosa Poi alla chiesa romana Nessuno poteva prescriverci Un modo di vita Parrocchia 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 Punire per purificare Per purificare l'impurri Attraverso il sangue La nostra regola Ci veniva direttamente Da Dio Non da voi Cani Canati Predicatori bugiardi Che spargete Zolco Il posto Dell'incenso Carogni E putri De corpi Basta Servi della puttana Di Avignone Promessi che siete Alla perdizione Silenzio Noi volevamo Un mondo migliore Menevamo la spada Del signore E dovevamo fare In fretta Molto In pianta Basta Basta Vedi Azzo Il ghiottone Eri diventato Un puro Non è questa La purezza Ce ne sarà anche Di un'altra sorta Ma Quale che sia Mi fa sempre paura Che cosa Vi terrorizza di più Nella purezza La fretta Non fatemi Confessare Anche quello Che non ho fatto Con i delitti Dell'abbazia Io non c'è No Povero innocente Vieni qua Tra le mie braccia Fratello Remigio Che io ti possa Consolare Delle accuse Che i malvagi Hanno elevato Contro di te Basta Mi ripugna Ricorrere ai mezzi Che la chiesa Sempre criticato Quando vengono praticati Dal braccio secolare Ma c'è Una legge Che domina E dirige Anche i miei Personali sentimenti Capitano Chiedete All'abbate Un luogo Dove si possano Predisporre Gli strumenti di tortura No signore La tortura no Io sono un uomo Vile Ho rinnegato Per undici anni La mia fede Di allora Ho riscosso decime Da vignaioli A contadini Ho ispezionato Stalle e stabi Perché fiorissero Ad arricchire L'abate Non l'avessi mai accolto Ho collaborato Di buon grado All'amministrazione Di questa fabbrica Dell'anticristo Dio mi perdoni Sì Sono Vile Oggi ho venduto I miei confratelli Di Bologna Ieri ho venduto Dolcino E da Vile Ho assistito Al momento in cui Gli strapparono Il naso E i testicoli Con tenaglie Infuocate Si dice che non fiatò No no Ha gridato anche lui Di dolore Come una donna Come Margherita Tagliata a pezzi Davanti ai suoi occhi E Salvatore Oh quel cialtrone Era con me Avremmo abbiurato A mille religioni Quel giorno Ma la tortura no Ti supplico signore Dirò tutto quello che vuoi Meglio il rogo Subito si muore Soffocati Prima di bruciare Tu vuoi un cadavere E per averlo Hai bisogno Che assuma su di me La colpa per altri cadaveri E' davvero interessante Quello che dici Ti do quanto chiedi Incomincia Ho ucciso Adelmo da Otranto Per odio alla sua giovinezza E alla sua bravura Nel giocare su mostri simili a me Vecchio Grasso Piccolo E ignorante Bene E Berengario? Per odio alla sua biblioteca Io che ho fatto teologia Bastonando i parroci Troppo grassi E Severino? Perché collezionava le erbe Io che sono stato sul Monte Rebello Dove le erbe le mangiavamo Senza interrogarci Sulle loro virtù E tutto? No In verità potrei uccidere Anche gli altri A cominciare dal nostro abate Laudemus Dominus Colpato con l'impero E mi fa sempre parte Dei miei nemici Ti basta? Come hai ucciso Tutti costoro Ma Non è necessario Colpire Ah si? Ecco Lo sai anche tu Scannatore di apostoli Come si fa? Prendi un gatto mio Adelmo E mi leghi le quattro zampe E poi lo porti a mezzanotte A un crocicchio E gridi Oh grande Lucifero Imperatore dell'inferno Porta il mio nemico a morte E ti offrirò E ti offrirò Questo gatto In sacrificio Dio Dio Perdonaci tutti Imparo Azzo Impara Sotto tortura O minacciato di tortura Un uomo non solo Dice ciò che ha fatto Ma anche ciò Che avrebbe voluto fare Anche se non lo sapeva Remigio ora Vuole la morte Con tutta l'anima sua L'interrogatorio è finito L'imputatore O confesso Sarà condotto ad Avignone Dove avrà luogo Il processo definitivo E solo dopo Sarà bruciato Portatelo via Egli a buone Non mi appartiene più Ne appartiene più a me Che sono stato solo L'umile strumento Della verità Capisci Azzo Che cosa ha voluto dirci Bernardo Gui L'ho compreso io E tutta la legazione Francescana L'incontro è fallito Se è stato mandato Dal Papa Per impedire Una ricomposizione Tra i sostenitori Dell'imperatore E quelli del Papa Ebbene Pensando agli ultimi Esciagurati avvenimenti Ci è riuscito La discussione È miseramente finita Il nome della rosa Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai Punto iti Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Ubertino Si dà la fuga Vencio incomincia A osservare le leggi E Jorge Pronuncia un sermone Sulla venuta Dell'anticristo Ventottesima puntata Non credo Corra commentare Quanto è avvenuto Sei anche tu Della mia opinione Michele? Tieni bassa la voce Guglielmo Bernardo ci ha sconfitto Per rinigio Oh Bertino Non chiedermi Se quell'imbecille Di Dolciniano È davvero colpevole Di tutti quei delitti Per quel che ne capisco No senz'altro E ora? Siamo al punto di prima Giovanni Ti vuole solo Ad Avignone Michele E questo incontro Non ti ha fornito Le garanzie che cercavamo Anzi Ti ha dato un'immagine Di come laggiù Ogni tua parola Potrebbe essere stravolta Mi pare non sia il caso Che tu vada Invece andrò Non voglio uno scisma Mi rendo conto Che le delibere di Perugia Sono state usate Dai teologi imperiali Oltre i nostri intendimenti Ti riferisci al mio discorso di oggi? Anche Io voglio che l'ordine francescano Sia accettato dal papa Nei suoi ideali di povertà Il papa dovrà capire Che solo se l'ordine assume Su di sé l'ideale della povertà Si potranno riassorbire Le sue diramazioni ereticali Un'impresa ardua Che posso fare Per farti cambiare idea? Niente Andrò ad Avignone E se sarà necessario Farò atto di sottomissione a Giovanni Non la conosci? Transigerò su tutto Tranne che sul principio di povertà Lo sai che rischi la vita? E così sia Ubertino Qui non sei più al sicuro Perché lo pensi Guglielmo? Ma come? Non ricordi le frasi di Bernardo? L'odio inestinguibile Che ormai il papa nutre per te? A me sembra che loro Siano più interessati a Michele Tu credi no? Lui bene o male Rappresenta ancora un potere Con cui trattare Per questo Giovanni lo vuole a corte Mentre Ubertino lo vuole all'inferno Guglielmo Hai udito qualcosa? No, no Ma se conosco bene Bernardo Entro domani Complice alla nebbia Qualcuno ti ucciderà Signore Dio L'abbazia potrà ben sopportare Un altro delitto Si dirà che sono stati I diavoli evocati da Rimigio Con i suoi gatti neri O qualche dolciniano Che ancora si aggira tra queste mura Ma allora che cosa devo fare? Partire subito Vai a parlare con l'abbate Chiedigli una cavalcatura Delle provviste Una lettera Per qualche bazzia lontana Al di là delle altre Ma gli arcieri saranno di guardia alle porte La bazzia ha altre uscite L'abbate le conosce bene Basta che un servo ti attenda Alle curve con un cavallo Si, vai Ubertino Prima che Bernardo si riabbia Dall'estasi del suo trionfo E tu, Guglielmo? Oh, io avevo due missioni Una l'ho fallita Mi resta l'altra Voglio mettere le mani su un libro E su di un uomo Addio, Guglielmo Sei un inglese pazzo e arrogante Ma hai un gran cuore Ci rivedremo Lo voglio il cielo Addio, Bertino Addio Su, Michele Accompagnimi dal bate Si Presto E ora, Guglielmo? Ora torniamo ai nostri delitti Maestro Oggi sono successe cose molto gravi Per la cristianità Ed è fallita la vostra missione Eppure sembrate più interessato Alla soluzione di questo mistero Che non ha lo scontro Tra il Papa e l'Imperatore Ci penserà il mio amico Marsilio Come consigliere imperiale E più bravo di me Ma come inquisitore Sono più bravo io Migliore anche di Bernardo Gui Certamente Ma lui non interessa scoprire i colpevoli Lui vuole solo bruciare gli imputati Ma che altro c'è in gioco, maestro? In questa storia sono in gioco cose più grandi e importanti Che non la battaglia tra Giovanni e Ludovico E quali? A me pare soltanto una storia di rubamenti e vendette Tra monaci di poca virtù Intorno ad un libro proibito Azzo Guglielmo E che tu hai riconosciuto benissimo E sei andato a riprendere Cosa vi fa pensare che lo abbia preso? Lo penso E lo pensi anche tu Dov'è? Non posso dirlo Bencio Se non lo dici ne parlerò all'abate Non posso dirlo Per ordine dell'abate Cosa intendi? Oggi Dopo che ci siamo visti È accaduto qualcosa di molto importante Dopo la morte di Berengario Mancava un aiuto bibliotecario E Malachia mi ha proposto Di prendere il suo posto Benissimo Sì E l'abate ha consentito Proprio mezz'ora fa Ma il libro Dov'è finito? Ebbene sì L'ho preso io E l'ho nascosto nel pagliericcio Delle mia cella Senza nemmeno guardarlo Perché sapevo Che Malachia mi stava sorvegliando Poi mi ha fatto la proposta Di diventare aiuto bibliotecario E allora Gliel'ho consegnato Ma come hai potuto? Se solo ieri dicevi Che non volevi Che la biblioteca celasse misteri Che uno scolano deve sapere Che è rialzo Dò la curiosità di conoscere Calma Azzo Ma non capisci Adesso è passato dall'altra parte Ora è lui Il custode di quei segreti Che voleva conoscere E mentre li custodisce Avrà tutto il tempo Per conoscerli Ma gli altri Ieri Bencio parlava A nome di tutti i sapienti Prima Su Andiamoceno adesso Bencio è in preda Di una grande lussuria La lussuria Del sapere Del sapere Per se stesso Non sarà che Bencio vuole il bene dei suoi libri E pensa che il loro bene Sia restare lontano Da mani rapaci Il bene di un libro Sta nell'essere letto Un libro è fatto di segni Che parlano di altri segni I quali a loro volta parlano delle cose Senza un occhio che lo legga Un libro recca segni Che non producono concetti E quindi è muto La biblioteca è nata forse per salvare i libri Ma ora vive per seppellirli Per questo è diventata fonte di impietà Il cellario ha detto di aver tradito Così ha fatto Bencio Ha tradito Che brutta giornata maestro Piena di sangue e rovina Andiamo anche noi a compieta E poi a dormire Sta arrivando Aymaro Allora Guglielmo Tu che sei tutto E' vero ciò che si mormora? Cioè? Che Bencio è stato proposto come aiuto bibliotecario Così mi risulta Questo malachia ha fatto molte belle cose quest'oggi Se ci fosse giustizia Il diavolo verrebbe a prenderselo questa notte In nome del padre Del figlio E dello spirito santo Mio abate No stasera tacerò Troppe sventure hanno funestato l'abbazia Perché il padre comune possa parlare Con l'accento di chi rimprovera e ammonisce Affiderò il monito a chi più anziano di tutti E ormai vicino alla morte E meno coinvolto nelle passioni terrestri Che hanno cagionato tanti mali Sali sul pulpito Orge In nome del padre Del figlio Sarebbe stata sorpresata da Berlardo E dagli altri due mesi Ma credo che Orge parlerà con uno scopo ben preciso Fratelli dilettissimi E voi tutti ospiti nostri molto cari Se vorrete ascoltare questo povero vecchio Le quattro morti che hanno funestato la nostra abbazia Non sono da attribuire ai rigori della natura Che amministra la nostra giornata terrena dalla culla alla tomba Così come occorreva che qualcuno tradisse Gesù Perché il mistero della redenzione fosse compiuto Così io vi dico che questa rovina È stata se non voluta almeno Permessa da Dio A umiliazione della nostra superbia Perché? Perché? Ora et lavora è la regola del nostro ordine Ma del nostro lavoro E in particolare del lavoro in questo monastero Fa parte, anzi, è sostanza La custodia del sapere E non forse anche lo studio La custodia, dico Non la ricerca di qualche notizia Che non sia stata ancora data agli umani E io dico a chi si affanna E si è affannato a rompere i sigilli dei libri Che non gli sono dovuti Mi vecchio sa più di quel che dice E questo Ti teca le mani in questa storia Avete che se i monaci curtusi continueranno a violare la biblioteca Abbazia non li avrà la sua pace Cemerà E l'anticristo Il simbolo stesso di questo orgoglio Oh, voi mi dite Ma la bestia immonda non è ancora venuta E già La pazzia non avrà più pace allora E chi viola la nostra biblioteca? Ecco che cosa dirà Dio A questi monaci orgogliosi Vi diedi orecchio per prestare ascolto alle scritture E voi ascoltate le parole dei pagani Parola del Signore Parola del Signore Mi composi una bocca per glorificarmi E voi la usate per le falsità dei poeti E per gli erigmi dei giullari Parola del Signore Parola del Signore Vi diedi gli occhi perché vedeste la luce dei miei precetti E voi li usaste per scrutare nella tenebra Parola del Signore Parola del Signore Io sono un giudice umano ma giusto A ciascuno darò ciò che merita In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Mettiamoci a letto, Vazzo Domani cercheremo di essere presenti al mattutino Perché subito dopo partiranno Michele e gli altri minoriti Partirà anche Bernardo con i suoi prigionieri? Sicuramente non ha più nulla da fare qui Vorrà precedere Michele ad Avignone In modo che il suo arrivo coincida col processo al cellario Sì, il suo rogo illuminerà come fiacco la propiziatoria Il primo incontro di Michele con il Papa E cosa accadrà a Salvatore? E alla ragazza? Salvatore servirà da testimone al processo E poi... E alla ragazza? Te l'ho detto, è carne bruciata Mardera prima durante il cammino A edificazione di qualche paesello cataro lungo la costa Ma non si può fare niente per salvarli Non può intervenire l'abate E per chi? Per il cellario? Re, ho confesso Per un miserabile come Salvatore? O tu pensi alla ragazza? E se fosse? In fondo dei tre è l'unica veramente innocente Voi lo sapete, non è una strega E credi che l'abate Dopo tutto quello che è successo Voglia mettere a repentaglio Quel poco di prestigio che gli è rimasto Per una strega Ma si è assunto la responsabilità di far fuggire Ubertino Ubertino era un suo monaco E non era accusato di nulla Allora aveva ragione il cellario A pagare per tutti sono sempre semplici Così è E se proprio cerchi uno spiraglio di giustizia Ti dirò che un giorno i grossi cani Il papa e l'imperatore Per fare pace Passeranno sopra il corpo dei cani piccoli Che si sono azzuffati al loro servizio Che volete dire? Che anche Michele e Ubertino Saranno trattati come oggi viene trattata La tua ragazza Maestro Il nome della rosa Di Umberto Eco Ventottesima puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Pino Micol Fabio Poggiali Emilio Cappuccio Mico Kundari Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove anche Malachia viene ucciso dal veleno che lascia nere le dita e la lingua E il fabbro Nicola è nominato Cellario E molto rivela Guglielmo del passato inquietante di quella abbazia Ventinovesima puntata Guardazzo Guarda quel posto vuoto tra Org e Pacifico da Tivoli E' quello di Malachia Strano che non ci sia E voi guardate l'abbate come sembra preoccupato Anche Org è inquieto Dove sarà il bibliotecario? Malachia è ormai l'unico ad avere nelle sue mani il libro Se non è lui il colpevole dei delitti Allora potrebbe non conoscere i pericoli che quel libro comporta L'abbate sta per parlare Monaci, novizi Vi ricordo che il Natale è alle porte Useremo parte del tempo delle laudi per preparare i canti della grande messa Inizieremo con Sederum principes et adversus melo quebantur iniqui Sempre acuto il nostro abate Perché? Perché sono presenti Bernardo e il Cardinale Eccoli là Guardate Guglielmo Malachia è arrivato Meno male Ora ascoltiamo Il nostro ordine da secoli E' stato pronto a resistere alla persecuzione dei potenti Grazie al suo privilegiato rapporto col Signore Il mio figlio Malachia Vorrei che sta male Malachia Mi aiuto Marco, Marco Avanti Guglielmo Andiamo a vedere Prantola Sono qua Malachia Sono qua Me l'aveva detto Me l'aveva detto davvero Aveva il potere Aveva il potere di che cosa? Di mille scorpioni Di mille scorpioni Chi aveva questo potere? Chi te l'ha detto? E' morto E' morto E' morto E' morto anche Malachia Già E' morto Allora signor Bernardo Chi ha ucciso costui? Se voi avete così bene trovato e custodito gli assassini Non domandatelo a me Non ho mai detto di aver assicurato la giustizia a tutti i malvagi che si aggirano in questa Dazia L'avrei fatto volentieri se avessi potuto Ma gli altri ora li lascio alla severità O alla eccessiva indulgenza del Signor Abate Dio mio Generabile Jorge Misericordia Che vi succede Jorge? Non finirà mai Mai Oh signor Perdonaci tutti Lazzo Vieni Guarda qua Le tre dita della mano destra di Malachia Sono nere Bencio Nicola Nel giro di meno di un giorno L'abbazia è stata privata del bibliotecario e del cellario Tu Nicola Assumerai le funzioni di Remigio Dato che conosci il lavoro di molti qui all'abbazia E le fucine? Metti qualcuno a guardia e provvedi alle necessità immediate di oggi Sei esentato dagli uffici Vai Sì Abate E tu Bencio Proprio ieri sera eri stato nominato aiuto di Malachia Provvedi all'apertura dello scriptorium E sorveglia che nessuno salga da solo in biblioteca Non sono ancora iniziato ai segreti di quel luogo Nessuno ha detto che lo sarai Sorveglia che il lavoro non si arresti Ciascuno lavorerà solo sui libri che ha già in consegna Chi vuole potrà consultare il catalogo Nient'altro Come volete Sei esentato dai vespe perché a quell'ora chiuderei tutto E come uscirò? Chiuderò io le porte di sotto Dopo la cena Vai Morto il tedesco c'era il rischio che avessimo un nuovo bibliotecario Più barbaro ancora Chi pensate che verrà nominato al suo posto? Il problema non è più il bibliotecario Pensi la fate Taci Commetteranno un'altra ingiustizia come ai miei tempi Bisogna fermarli Chi bisogna fermare? Alinardo Tu lo sai Guglielmo Noi amiamo molto Alinardo Ma talora parla senza sapere che cosa dice Noi tutti siamo molto preoccupati per il nuovo bibliotecario Dovrà essere degno Dovrà conoscere il greco E l'arabo Così vuole la tradizione e così esige il suo ufficio Pencio sa il greco? Pencio è troppo giovane Non so perché Malachia l'abbia scelto ma Adelmo conosceva il greco? Credo di no Ma lo conoscevano Venanzio e Berengario Va bene, vi ringrazio Andiamo in cucinazzo Voglio vedere Nicola Perché maestro volevate sapere chi conoscesse il greco? Perché tutti coloro che muoiono con le dita nere conoscono il greco Me compreso Tu sei salvo E cosa pensate degli scorpioni di Malachia? La quinta tromba Le locuste tormenteranno gli uomini con un aculeo simile a scorpione Malachia mi ha fatto sapere che qualcuno gliel'aveva preannunciato La sesta tromba annuncia cavalli con testa di leoni Vuol dire che il prossimo delitto avverrà vicino alle stavole Già dovremmo tenerle d'occhio e prepariamoci al settimo squillo Ancora due persone dunque Ma chi rischia? Se l'obiettivo è il segreto delfini safriche Tutti coloro che lo conoscono E a mia scienza esiste solo l'abate A meno che? A meno che la trama non sia ancora un'altra Si sta complottando per deporre l'abate Ma Linardo ha parlato al plurale Allora bisognerà prevenire l'abate Di cosa? Che lo ammazzeranno? No, no Non ho prove convincenti Nicola ho bisogno di sapere che tipo fosse Malachia Ben strana domanda Lo conoscevi anche tu? Si ma non abbastanza Non ho mai capito quali pensieri ce l'asse Se ne avesse A detta di molti Malachia sembrava assai pensoso Ma era invece un uomo molto semplice Secondo a Linardo era uno sciocco A Linardo serva rancore a qualcuno Per un avvenimento lontano Quando gli era stata negata la dignità di bibliotecario Ne ho sentito parlare anch'io Si tratta di una storia di almeno 50 anni fa Quando io arrivai qui era bibliotecario Roberto D'Abobbio E i vecchi mormoravano di un'ingiustizia commessa nei confronti di a Linardo E non sei andato a fondo Roberto aveva un aiutante che poi morì E al suo posto venne nominato Malachia Ancora molto giovane Che meriti aveva? Nessuno direi Anzi Molti asserirono addirittura che non sapesse né il greco né l'arabo E come faceva? Come una brava scimmia Che copiava in bella calligrafia i manoscritti di quelle lingue Ma senza capire che cosa copiasse E a Linardo? Disse cose amarissime E insinuò che Malachia fosse stato messo a quel posto Per fare il gioco del suo nemico Io non capì mai di chi parlasse Che altro si mormorava di lui? Che difendeva la biblioteca come un cane da guardia Ma senza capire bene che cosa custodisse D'altra parte anche di Berengario Quando Malachia lo scelse Si disse che non era molto più abile del suo maestro Solo più intrigante Avrai udito anche tu queste mormorazioni Che ci fosse uno strano rapporto tra lui e Malachia Si mormorò di Berengario e Adelmo E gli altri scrivani dicevano che Malachia soffriva in silenzio Di un'atroce gelosia E che altro? Anche i rapporti tra Malachia e Orge Orge? No, no, non in quel senso Nessuno ha mai mormorato sulla virtù di Orge Malachia, secondo tradizione, aveva dovuto eleggere come suo confessore l'abbate Malachia però confabulava troppo spesso con Orge Come se l'abbate dirigesse la sua anima Ma Orge regolasse il suo corpo, i suoi gesti e il suo lavoro Ho infatti notato qualcosa di strano nello scrittore Se qualcuno voleva un'informazione su un libro antico e dimenticato Non la chiedeva Malachia Ma Orge... Malachia custodiva il catalogo e saliva in biblioteca Ma Orge sapeva cosa significasse ciascun titolo Perché Orge sa tante cose sulla biblioteca? Beh, Orge è il più anziano dopo Alinardo E qui sin dalla sua giovinezza deve avere più di 80 anni E si dice che sia cieco da almeno 40, se non di più Come ha fatto a diventare così sapiente prima della cecità? Ci sono delle leggende su di lui Racconta Pare che il fanciullo laggiù in Castiglia Orge fosse stato toccato dalla grazia divina E leggesse ancora in pubere i libri degli arabi e dei tutti greci E che poi dopo la cecità e anche ora si facesse leggere per ore e ore i libri da un uvizio E che tutto ricordasse Ma perché chiedi tutte queste cose? Ora che Malachia e Berengario sono morti Chi è rimasto a possedere i segreti della biblioteca? L'abate E l'abate dovrà trasmetterli a Bencio se vorrà Perché se vorrà? Perché Bencio è giovane Per tradizione il bibliotecario diventa poi abate Ma allora Abbone è stato bibliotecario? No Prima di lui era abate Paolo da Rimini Detto Abbas Agraficus Perché conosceva a memoria tutti i libri ma aveva una strana infermità Non riusciva a scrivere Non saranno vecchie chiacchiere dei monaci Anche Roberto da Bobbio che aveva preso il suo posto in biblioteca era minato da un male che lo consumava Era noto che quando fosse giunta l'ora non avrebbe potuto reggere le sorti dell'abbazia Così c'era un potenziale vuoto di successione Esatto E fu subito evidente quando Paolo da Rimini scomparve Morì? Un giorno partì per un viaggio e non torno più Insomma Paolo sparito Roberto impossibilitato a prendere il suo posto Toccò dunque ad Abbone Ma come avvenne? Fu un'epoca di mille trame oscure Abbone si dice era figlio naturale del signore di questa plaga Un bell'intrigo E che meriti poteva esibire Abbone per essere degno di tanto ufficio? Ci racconta che da giovinetto avesse assistito Santo Maso quando morì laggiù E avesse curato il trasporto di quel gran corpo per la scala di una torre Dove altri non erano riusciti a farlo passare Incredibile Se non era stato bibliotecario Credo che sia stato istruito da Roberto ai segreti del labirinto Torniamo a Bencio Se Abbone lo istruisse sarebbe dunque come designarlo a suo successore Un ragazzo sconsiderato Un drammatico quasi barbaro dell'estremo nord Come potrebbe saperne di questo paese, dell'abbazia e dei suoi rapporti con i signori dell'uomo? Ma anche Malachie Berengario non erano italiani Eppure sono stati preposti alla biblioteca Ecco un fatto oscuro L'ennesimo mistero di questa abbazia Fa mezzo secolo a questa parte L'abbazia ha abbandonato le sue tradizioni Per questo Alinardo è così amareggiato Il bibliotecario era sempre stato italiano Malachie e Berengario sono morti Forse perché non diventassero abati In questo paese da molti anni avvengono cose vergognose Anche nei monasteri Nelle chiese Nella corte papale Lotta per acquistare potere Accuse d'eresia per sottrarre a qualcuno una prebenda Vedo complotti Congiure dappertutto A questo doveva ridursi anche questa abbazia A questo doveva ridursi anche questa abbazia Guarda qui La punta della lancia che trafisse il costato del Salvatore E guarda in questa scatola d'argento tempestata di ametiste Questo è un pezzo del legno venerando della Santa Croce Portato in questa abbazia dalla stessa regina Elena Madre dell'imperatore Costantino Oddio cos'è diventato questo luogo Un nido di vipere In quella che era una teca di membra sante Il nome della rosa Di Umberto Eco Ventinovesima puntata Adattamento radiofonico di Piero Solia Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Pino Micol Bruno Alessandro Emilio Cappuccio Fabio Poggiali Carlo Cartier Maurizio De Carmine Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Ugo Margio Giancarlo Zanetti Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica sceneggiato Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate di Piero Solia Regia di Giuseppe Venetucci Dove Azzo ascoltando il Diesire ha un sogno che offre buoni suggerimenti a Guglielmo Dove Bencio teme per la sua vita E l'abate è costretto ad un duro confronto Trentesima puntata Caro Guglielmo Addio Michele Addio E sii prudente Molto prudente Prega per me Guglielmo Addio Guglielmo Pace e bene Pace e bene Pace e bene Maestro Dove sono andati Bernardo la ragazza Il Salvatore Il Cellario Sono andati via mezz'ora fa Guglielmo Proprio mentre si partivano ho avuto una visione Terrificante Mi trovavo nel refettorio Ma non so se in paradiso o all'inferno Davvero? Racconta Era una grande festa Grandi arazzi e stendardi alle pareti Ma le immagini che li adornavano Sembravano quelle dei marginali a Diadelmo Ah si? Leppiche danzavano intorno all'albero della coccagna Fiumi percorsi da pesci Che si buttavano spontaneamente nella padella Scimmie Vestite da cuochi E poi? Il Cellario vestito da Bernardo Gui Che leggeva strani brani Di uno strano Vangelo E Gesù ce li ho con l'Apostolo Tu sei pietra E su questa pietra svergognata Che rotola per la pianura Fonderai la mia chiesa Poi l'abbate Era lui il re della festa Si è alzato in piedi Entrino le vergini Chi entrò? Entrarono Maria, Ruth, Sara, Susanna e altre donne della Sacra Scrittura E poi di nuovo l'abbate strillò Craete figli deputa Ma senti un po' L'abbate che parlava come salvatore Entrò nostro signore Che era anche Adamo allo stesso tempo E poi Eva che si coricò su una foglia Abele con un secchio E subito si mise a mungere Brunello E Noè che fece un ingresso triunfale Renigando sull'arca Tutto ciò è molto affascinante Ad un certo punto Gesù spezzò il pane e distribuì i pesci Mentre Esaù mangiava lenticchie Giona una balena lessa Esaù un capretto al forno E poi Poi maestro Arrivò la ragazza Mi mostrò Dio mi perdoni La sua volva Nella quale entrai E mi trovai In una caverna bellissima Che sembrava La valle amena dell'età dell'oro E ti disse qualcosa? Sì Oh sì Non è nulla Vedrai che poi ritorno più bella di prima Lassa che vada solo un momento a bruciare sul rogo Ci rivedremo qui dentro Non dirmi che c'ero anch'io Sì Siete uscito dal labirinto con il magnete in mano E lo stavate trascinando tutto intero a Settentrione E io vi urlai dietro Non lasciatemi Guglielmo Non lasciatemi Voglio vedere anch'io che cosa c'è nel Finisafrica Istruttivo Molto istruttivo il tuo racconto Hai finito? Sì Ditemi C'è una spiegazione a tutto ciò Sapete offrirmi il senso di un sogno che ricordo immagine per immagine Gesto per gesto Parola per parola Non hai fatto altro che inserire persone e avvenimenti di questi giorni In un quadro che conoscevi già Non capisco La trama del sogno l'hai già letta da qualche parte O te l'hanno raccontata da fanciullo a scuola o in convento E la cena a Cipriani La cena a Cipriani Ora ricordo Mi ero scordato il titolo È una storia della tradizione pasquale Non è possibile che un uomo virtuoso come Cipriano Avesse scritto una cosa così indecente Una parodia delle scritture Sacrilica E più degna di un infedele o di un buffone Che non di un santo martire Quanti rimbrotti mi sono preso Credo che la tua anima addormentata Abbia capito più di quanto non abbia capito io da sveglio E in sei giorni Davvero? Sì, Azzo Il tuo sogno va letto allegoricamente Come le scritture? Un sogno è una scrittura E molte scritture non sono altro che sogni Su, risaliamo nello scrittorium Mi hai fatto venire un'idea Bencio, ho bisogno di consultare il catalogo Accomodatevi, Guglielmo Accomodatevi Deve essere da queste parti L'ho visto appena un'ora fa Ecco, sì Leggi questo titolo, Azzo E sui libri parlano di altri libri Spesso un libro innocuo È come un seme Che fiorirà in un libro pericoloso O all'inverso È il frutto dolce di una radice amara Non di rado I libri parlano di libri Ovvero E come Se si parlassero tra loro Di cosa si tratta? È il nostro libro Ecco perché il tuo sogno mi ha suggerito qualcosa Ora sono sicuro Che è questo Ma non è questo che volevo controllare Hai la tua tavoletta? Sì, maestro Perché a Linardo si duole del fatto Che cinquant'anni fa Dovesse toccare a lui E invece fu nominato bibliotecario un altro? Alludeva a Paolo D'Aremini Oppure a Roberto D'Abboggo Parrebbe Ma ora guarda questo catalogo I titoli dei libri sono registrati Nell'ordine delle acquisizioni E chi li scrive su questo registro? Il bibliotecario E quindi A seconda della calligrafia Possiamo stabilire la loro successione Partiamo dal fondo Ecco Questa è la calligrafia di Malachia Molto gotica Poche pagine Dunque davvero pochi acquisti In questi ultimi trent'anni Già Ecco qui Inizia una calligrafia tremolante Malata Sì Leggo la firma Roberto D'Abboggo Anche qui poche pagine Non deve essere rimasto in carica molto E ora? Guarda Pagine e pagine Una calligrafia dritta e sicura Una serie di acquisizioni davvero impressionante Tra cui il gruppo di libri Che esaminavamo poco fa Deve aver lavorato Paolo D'Aremini La bassa graficus E però c'è un particolare Lui non riusciva a scrivere A causa di uno strano difetto O di una strana malattia E allora che ha scritto per lui? C'è una sola possibilità Il suo aiuto bibliotecario Il quale è diventato poi bibliotecario Ha continuato a scrivere anche per sé La stessa mano per due ere Ma chi era? Il concorrente di Alinardo L'uomo misterioso forse Pencio Sì? Anche se sei diventato così potente Vorrei dirmi una cosa almeno Sì, Cugliel Quella mattina in cui Adelmo e gli altri Discussero degli enigmi E Perengario fece il primo accenno Al finisafriche Qualcuno nominò La cena Cipriani Sì Non te l'avevo detto Fu venanzio ad accennarvi E Malachia si attirò Disse che era opera ignobile E che l'abate ne aveva proibito A tutti la lettura L'abate, eh? Grazie Bencio Vi voglio parlare Ma non qui davanti a tutti Seguitemi sulla scala Che scende alle cucine Una cosa urgente Una cosa urgente Con la paura Sì Sì, l'ammetto Ho paura Hanno ucciso anche Malachia Ora io so troppe cose Poi sono in viso Al gruppo degli italiani Pare che non vogliono più Un bibliotecario straniero Sì Io penso che gli altri Siano stati eliminati Proprio per questo Io non vi ho mai parlato Dell'odio di Alinardo Per Malachia Chi è colui Che gli ha sottratto Il posto anni fa? Questo non lo so Alinardo ne parla Sempre in modo vago E poi È una storia così lontana Ormai sono tutti morti Però Il gruppo degli italiani Che faceva capo ad Alinardo Parlava sovente Contro Malachia Lo definivano Un uomo di paglia Messo lì da qualcuno Con la complicità Dell'abate In che gioco sono entrato? Vorrei fuggire da qui Stai calmo invece Ieri sembravi Il padrone del mondo Sciocco Se mi avesse aiutato ieri Avremmo impedito Quest'ultimo delitto Ieri non l'avevo capito Pensavo che tutto Riguardasse solo quel libro Ma tu Quel libro L'hai letto? Guglielmo Io non ho fatto niente L'ho solo aperto Prima di nasconderlo Per assicurarmi Che fosse veramente Quello che cercavate anche voi E com'è che sei ancora vivo? Iniziava con un manoscritto arabo Poi uno Che mi sembra siriano Un testo latino E uno greco Guglielmo Il catalogo Le sigle Are sir Arabo siriano E il libro Dunque L'hai toccato E non sei morto Allora maestro Non si muore a toccarlo E dimmi Bencio C'è qualcosa Che ti abbia colpito Nel libro? I fogli in greco Erano come dire Intrisi di umidità Non si staccavano bene L'uno dall'altro La pergamena era strana Strana La stessa espressione Usata da Severino La pergamena Non sembrava pergamena Sembrava stoffa Ma esile Carta lintea O pergamino de Pano Non ne avevi mai visto La fanno gli arabi vero? Si sono stati i primi Ma la fanno anche qui in Italia A Fabriano Beh addio Bencio E stai tranquillo Non corri alcun pericolo Davvero Guglielmo Me lo assicurato Se stai al tuo posto Hai già combinato troppi guai E adesso maestro? La batte Avvicinatevi alla finestra Frate Guglielmo Ammirevole Rocca Vedete? Che riassume Nelle sue proporzioni La regola aurea Che presiedete Alla costruzione dell'arca Perdonate Abate Ma dovremmo parlare Degli ultimi fatti Su cui ho riflettuto a lungo Troppo a lungo Vi confesso Che mi aspettavo di più Da voi Da quando siete arrivato Sono passati quasi sei giorni Dovrei chiedervi Quattro monaci sono morti Oltre ad Adelmo Due sono stati arrestati Dall'inquisizione E infine l'incontro Di cui ero mediatore A causa di tutte queste Scelleratezze Ha dato penosi risultati Magnificentissimo Non verrete che mi aspettavo ben altro Quando vi ho pregato Di investigare Sulla morte di Adelmo È vero Ma ora vi dirò il perché Vostra sublimità Parlate Allora Questi diritti Non derivano da una rissa O da una qualche vendetta Tra monaci Ma dipendono da fatti Che traggono origine Dalla storia remota Dell'abbazia Cosa intendete dire Capisco anche io Che la chiave non sta Nella storia sventurata Del cellario Vostra sublimità Pensa a qualche vicenda Di cui ha appreso In confessione Volevate che Incominciassi ad indagare Facendo salva La vostra coscienza E se così fosse Tutti All'abbazia Senza averlo saputo In confessione Per aver creduto Il mio corpo Un luogo di delizia Molti disonesti Tra Berengario E Adelmo E tra Berengario E Malachia Basta Guagliano Non credo sia utile Parlare di cose simili Alla presenza Di un novizio Quello che dovete capire Abate E che questi rapporti Disonesti Hanno avuto Scarso ufficio In questi dolorosissimi Avvenimenti La chiave È un'altra E pensavo Che voi La immaginaste Tutto si svolge Intorno al furto E al possesso Di un libro Che era nascosto In finisafriche Come? Ecco un libro Per il quale Preferirei prima Chiedere il consiglio Dell'abate Il libro Che ora È tornato laggiù A opera di Malachia Senza però Che la sequenza Dei crimini Sia stata interrotta A voi Come fate Come fate a sapere Delfini Sapriche Avete violato Il mio interdetto E siete entrato Nella biblioteca Non mi ha detto La magnificenza vostra Al nostro primo incontro Che un uomo come me Che aveva descritto Così bene Brunello Senza averlo mai visto Non avrebbe avuto Difficoltà A ragionare Sui luoghi A cui Non poteva Accedere Il nome della rosa Di Umberto Eco Trentesima puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Luca della Bianca Mico Kundari Paolo Lorimer Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Ponce de Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Guglielmo viene licenziato dall'abate Ma lui continua ad indagare Ma lui continua ad indagare E scopre insieme a Dazzo Che c'è qualcuno prigioniero Di un vano segreto Del labirinto Trentunesima puntata Trentunesima puntata Fraintendetemi Dico che c'è qualcuno che sa E che vuole che nessun altro sappia Voi siete l'ultimo a sapere Voi potreste essere la prossima vittima Farneticate A meno che non mi diciate Che cosa sapete Su quel libro interdetto E soprattutto Chi nell'abazia Potrebbe sapere Quanto voi Sulla biblioteca Fa freddo qui Usciamo Ah Eccolo qui Azzo Quante cose inquietanti Deve aver udito Questa monacella In questi giorni Su via ragazzo Non lasciarti Troppo trovare Mi pare che si siano Immaginati Più trame Di quante ve ne siano Che fulgore Avvagliante Proviene dal vostro anello Magnificenza E' il simbolo Della mia autorità Ma anche del mio fardello Non è un ornamento E' una splendida silloge Della parola divina Di cui sono custode Bacialo Si vostra magnificenza E ora ragazzo Dimentica le cose Senza dubbio erronee Che hai udito In questi giorni Tu sei entrato Nell'ordine più grande E nobile tra tutti E dunque Tu sei sotto La mia giurisdizione Dimentica E che le tue labbra Si suggellino per sempre Giura Che cosa c'entra il ragazzo Io ho posto una domanda Io vi ho avvertito Di un pericolo Io vi ho chiesto un nome Vorrete ora Che baci anch'io L'anello E che giuri Di dimenticare Quanto ho saputo O quanto sospetto Non mi attendo Che un frate mendicante Comprenda la bellezza Delle nostre tradizioni O che rispetti Il riservo I segreti I misteri di carità Voi mi avete parlato Di una storia incredibile Un libro interdetto Per cui si uccide a catena Fole Illazioni senza senso Sì Sì Parlatene Se volete Nessuno vi crederà Non ne sarei così sicuro Ho fatto male Fin dall'inizio A richiedere ad un estraneo Per quanto saggio Di indagare su cose Che sono soltanto Di mia competenza Cosa che avete appreso In confessione Sì E volevo solo Che qualcun altro Mi dicesse Quello che io Avevo sentito dire In confessione Bene Ora me lo avete detto Vi sono molto grato Per quello che avete fatto O avete tentato di fare L'incontro delle legazioni È avvenuto La vostra missione Quaggiù è terminata Vi do licenza Di lasciare la bazia Come dite? Partirete domattina Di buon'ora Non ringraziatemi È stata una gioia Avervi fratello Tra i fratelli E onorarvi Della nostra ospitalità Naturalmente non occorre Che continuiate A condurre le vostre Investigazioni Andate pure Magnificentissimo Non un congedo Ma una cacciata Che significa? Significa che l'abbate È preoccupato Per la buona reputazione Del suo monastero Ammazzagli i monaci Ma non toccargli L'onore di questa bazia Non dite così Cugliano Quel bastardo Di un feudatario Quell'otre gonfiato Che esiste solo Perché porta un anello Grosso come il culo Di un bicchiere Razza di superbo Maestro Razza di superbi Voi tutti Cluniacensi Peggio dei principi Più baroni Dei baroni Maestro Vi prego E taci tu Che sei Della stessa pasta Un francescano Un francescano Un plebeo minorita Che scopre la verminaglia Di questa santa casa Eh no Questo abbone Non può permetterselo A nessun costo Non esco da questa cinta Ma che cos'è tutto Quel movimento Dove? Là Tra l'edificio e il chiostro Guardate quante persone Quel novizio L'ho già visto Sì Veniva dalla casa Della bate E corsano le cucine Ora sta uscendo Nicola Mi pare si diriga ai dormitori E laggiù In quell'angolo Chissà che cosa stanno facendo Pacifico A Imaro e Pietro Stanno cercando Di convincere Renato di qualche cosa Se hai ragione Tu l'hanno convinto Guarda Hanno deciso Di andare dalla bate E Nicola È andato a prendere Orge Sicuramente Per le stesse ragioni A che scopo Stanno andando dalla bate La bate Vuole prendere in pugno La situazione Ecco Sta arrivando Bencio Guglielmo Guglielmo C'è fervento Nello scrittorio Nessuno lavora Tutti parlano fittamente Tra di loro Ma cosa succede C'è che le persone Che fino a stamane Parevano le più sospettabili Sono morte tutte Sino a ieri Tutti si guardavano Da Berengario Sciocco e infido Poi dal Cellario Eretico sospetto Poi da Malachia Così in viso a tutti E ora non sanno più Da chi guardarsi E hanno bisogno urgente Di trovare un nemico Bencio Capisci Alcuni come te Hanno solo paura Altri Hanno deciso Di far paura A qualcun altro Cosa devo fare Siete tutti Troppo agitati Tu Bencio Segui la mandria Dall'abate E tu alzo Vai alle stalle Che l'ufficio Attenda Non vedo Orge E neanche Bencio Aymaro Vai a cercarlo Anche lui non c'è Forse sta disponendo Lo scrittorio Per la chiusura No Aymaro No Ho stabilito Molto chiaramente Che non deve chiudere nulla Perché non conosce le regole Se la paternità Vostra consente Vado io a chiamarlo Nessuno ti ha chiesto nulla Nicola dov'è Sta predisponendo la scena Non puoi essere qua Voglio Orge Qui Cercatelo Non c'è neppure Rinardo Lo so E' inferno Lo credo bene Perché Quando è uscito dal colloquio Il povero vecchio Era sconvolto Avbone si comporta Come la puttana Di Avignone Ecco Arriva Bencio Abate Dove è Orge? Ho sentito che lo cercavate Ma Orge Non è nello scrittorio Non è nella sua cella Non possiamo aspettare Si dia inizio all'ufficio Maestro Non si trova Orge Non era in chiesa Neppure allo scrittorio L'Abbate era molto preoccupato Andiamo al refettorio Svelto Seguimi Guardate maestro C'è Nicola Ah Nicola Poche ore fa Ti abbiamo visto accompagnare Orge D'Abbate Si Ha dovuto attendere a lungo Fuori dalla porta Perché nella sala C'erano a Linardo E Eimaro D'Alessandria Poi quando è toccato a lui Io sono rimasto fuori Ad aspettarlo E quando è uscito? Ha voluto che lo accompagnasse In chiesa Che ora era? Una prima del vespro La chiesa era ancora deserta Arriva Guardate maestro Guardate Guglielmo E' ancora inquisendo Lasciate stare Meglio che vi accomodiate La mia tavola come d'uso L'ospitalità benedettina E' sacra Ve ne rendiamo grazie Vedo che a Linardo E Orge Sono ancora assenti A compietta Reciteremo tutti Una speciale preghiera Per Orge da Burgos Per la sua salute corporale O per quella eterna? Affrettiamoci Perché nessuno Dopo una cena Potrà circolare fuori dal dormitorio Come vuole vostra magnificenza Ora scusatemi Ho alcuni doveri da svolgere A dopo Piuttosto gelido, vero? Seguiamolo Guardate là in fondo Guglielmo Gli italiani Stanno confabulando tra loro Passiamo accanto Senza andarlo a vedere Apri bene le orecchie E cerca di sentire Quello che si dicono Pacifico E hai mano Credi che davvero Abbone non sappia Dove è York? Potrebbe anche saperlo E sapere che da dove si trova Non tornerà mai più Forse il vecchio Ha voluto troppo E Abbone Non vuole più lui Avete sentito anche voi? Sì, perfettamente Guardate l'abbate Sta entrando nel refettorio Allora noi andiamo in chiesa Appostiamoci dietro a quella colonna Da qui si può osservare la cappella dei Teschi Se Abbone è andato a chiudere l'edificio Quando avrà sbarato le porte dal di dentro Non potrà che uscire dall'ossario E poi? E poi vediamo che cosa fa Sarà nel Finisafrica Può darsi O magari è uscito di nuovo dal refettorio Ed è andato a cercare Horge Può darsi anche questo Forse Horge è già morto Forse è nell'edificio E sta ammazzando l'abbate Guglielmo rispondete Perché Ben c'era tanto spaventato? Te l'ho detto Tutto può darsi La misericordia divina Ci sta regalando Una luminosa certezza Quale? Che frate Guglielmo da Baskerville Il quale ha ormai l'impressione Di aver compreso tutto Non sa come entrare nel Finisafrica Alla stalle, azzo Andiamo alle stalle E se ci trova l'abbate? Vingeremo di essere due spettri Maestro Puglio riesco a intravedere le sagome dei cavalli Questo è Brunello Perché era il primo a sinistra E a destra il terzo stallone E quello a cui Salvatore voleva fare chissà quale magia Cosa dici? Niente, mi ricordavo del povero Salvatore Salvatore disegnava quel cavallo Come Tertius equi E la terza lettera della parola cavallo È la U Cosa? Ma una sciocchezza Che mi è venuta in mente Vedendo Brunello Io ti benedico, cazzo Ragazzo mio È la seconda volta Che per bocca tua Parla la saggezza Prima in sogno E ora durante la veglia Maestro Di nuovo Che dice le altre di me Corri Corri nella tua cella A prendere i due lumi Che abbiamo nascosto Non farti vedere E raggiungimi subito in chiesa Non fare domande Vai Oh, alzo Sei già qui Stavo rileggendo la pergamena Con gli appunti di Venanzio Primum et septimum de quatuor Non significa il primo e il settimo dei quattro Ma del quattro Ma Q e R Sono la prima e la settima lettera di quatuor Supertronos viginti quatuor La scritta, il versetto Le parole incise sopra lo specchio del labirinto Andiamo Forse possiamo ancora salvare una vita Di chi? Di uno che non se lo merita Presto, prendiamo la scala a chiocciola Dietro al cammino Avete udito quei colpi, Guglielmo? Chi sarà? C'è qualcuno chiuso qui dentro Mi ero sempre chiesto se non vi fosse un altro accesso Al Finisafrica Evidentemente c'è Dall'ossario si apre un tratto di parete E si sale per una scala parallela a questa Ma chi c'è ora dentro? La seconda persona La seconda? Già Una è nel Finisafrica Un'altra ha cercato di raggiungerla Ma quella in alto deve avere bloccato il meccanismo Che regola entrambe le entrate Così il visitatore è rimasto intrappolato Ascolta Il patito è sempre più vievole E deve agitarsi molto Perché in quel budello non passa molta aria Ma chi è? Salviamolo Chi sia lo vedremo tra poco E quanto a salvarlo Lo si potrà fare sbloccando il meccanismo dall'alto Perché da questa parte non conosciamo il segreto Forza, alzo Andiamo Il nome della rosa Di Umberto Eco Trentunesima puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Fabio Poggiali Carlo Cartier Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Ugo Margio Paolo Serra Bruno Viola Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Posta elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Guglielmo risolto l'enigma dello specchio scopre il destino dell'abate e penetra nella stanza segreta dove ha prodigiosi incontri e rivelazioni Trentaduesima puntata E poi ci vogliamo siamo arrivati Alza il lume Super Tronos Viginti Quattuar Fammi vedere bene i versetti sopra la cornice Illumina le lettere La Q e la R del Quattuar Fammi luce Perché la scritta è troppo alta E tu non ci arriveresti Facciamo presto E se ci fosse qualcuno armato? Fai luce per il demonio Vedere Dio è con noi La Q Sì prima la Q Un po' più sinistra Sì adesso ci siete sopra Attento Fatti in là Ora Premo È scattato qualcosa? Sì ho sentito Sembra un cardine che si sblocchi Forza adesso la R Destra 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 Ancora qualche centimetro Ecco ci siete sopra Diretti indietro Non vorrei che Si apri Lo specchio una porta Si è sbloccata Adesso Inserisco la mano E la tiro Verso di me Ecco Entriamo Miserere a me Venerabile York Ci attendevi? E tu Guglielmo de Baskervin? Sì Ti attendevo da oggi pomeriggio Prima di Vespro Non voglio rinchiudervi qui Sapevo che saresti arrivato E la parte? E lui che si agita Nella scala segreta? Ancora vivo Credevo gli fosse già mancata l'aria Prima che iniziamo a parlare Vorrei salvare Tu puoi aprire da questa parte? No Non posso più Quando Abbone è entrato Ho dato uno strappo Alla corda che sostiene i contrapesi E la corda si è spezzata I figli di quel congegno Non si possono riannodare Abba è morto Perché lo hai ucciso? Oggi ho parlato di una storia incredibile Un libro interdetto Per cui si uccide a catena Illazione senza senso Non ha mai compreso Quali fossero i tesori Ai fini della biblioteca Mi ha chiesto di spiegargli Ciò che non sapevo E tu invece? Voleva che il filisafiche Venisse aperto Perché? Il gruppo degli italiani Gli aveva domandato Di porre fine a quello Che si chiamano Il mistero Alimentato da me E dai miei predecessori Sono agitati Dalla cupidigia Di cose nuove E tu allora Devi avergli promesso Che saresti venuto qui E avresti posto fine Alla tua vita Come avevi posto fine A quella degli altri In modo che l'onore Dell'abbazia fosse salvo E nessuno sapesse nulla Miserere me Poi gli hai indicato la strada Per venire più tardi A controllare Invece Lo attendevi Per uccidere lui Non pensavi Che potesse entrare Dallo specchio No A buon e piccolo Di statura Non sarebbe stato capace Di arrivare da solo Al versetto E così gli hai indicato Questo passaggio Ero il solo a conoscerlo L'ho usato per tanti anni Perché era più semplice Ma il buio Così lo hai fatto venire qui Sapendo Che lo avresti ucciso Non potevo più fidarmi Neppure di lui Perché? Era spaventato Era diventato celebre Perché a Fossanova Era riuscito A far discendere un corpo Lungo una scala chiocciola In giusta gloria Ora è morto Perché non è riuscito A far salire il suo di corpo Lo hai usato per quarant'anni Sembra che tu sappia ogni cosa Da quando ti sei accorto Che stavi diventando cieco E non avresti potuto Continuare a controllare La biblioteca Hai lavorato Con molta astuzia E in che modo Secondo te? Hai fatto eleggere Abate Un uomo di cui Potevi fidarti E hai fatto nominare Il bibliotecario Prima Roberto da Bobbio Che potevi istruire A tuo piacimento Questo no E poi Malachia Malachia Che aveva bisogno Del tuo aiuto E non faceva un passo Senza consultarsi con te Continua Per quarant'anni Sei stato il padrone Di questa abbazia E' questo Che il gruppo degli italiani Aveva capito Che dici? E' questo Che a Linardo ripeteva Ma nessuno gli dava ascolto Perché lo riteneva Ormai demente Vero? Però attendevi ancora me E non avresti potuto Bloccare l'ingresso Dello specchio Perché il meccanismo È murato Già Perché mi aspettavi? Come facevi ad essere sicuro Che sarei arrivato? Sin dal primo giorno Ho capito che tu avresti capito E come? Dalla tua voce Dal modo in cui Mi hai condotto A dibattere Su ciò di cui Non volevo si parlasse Eri meglio degli altri Ci saresti giunto comunque Sai basta pensare E ricostruire nella propria mente I pensieri dell'altro I pensieri dell'altro? E poi ho sentito Che facevi domande Agli altri monaci Tutte giuste Ma... Ma cosa? Non facevi mai domande Sulla biblioteca Come se ormai Ne conoscessi ogni segreto Però non potevi Avere la certezza Una notte sono venuto A bussare la tua cella E tu non c'eri Non ho più avuto dubbi Eri certamente qui Erano scomparsi Due lumi Dalla cucina Come facevi a saperlo? Azzo è stato molto attento Azzo? Azzo è qui? Il tuo giovane scrivano è qui? Non cambiare discorso Rispondimi Da chi hai saputo Dei lumi scomparsi? L'ho sentito dire Da un servo E infine Quando l'altro giorno Severino è venuto Nel Nartece A parlarti di un libro Sono stato sicuro Che eri sulla mia stessa fraccia Ma sei riuscito A sottrarmi il libro? Già Sei andato da Malachia Che sino ad allora Non aveva capito nulla Agitato dalla sua gelosia Continuava ad essere Ossessionato dall'idea Che a Delmo Che a Delmo Gli avesse rapito Il suo adorato Berengario E non riusciva a capire Che cosa centrasse Venanti In questa storia E tu gli hai confuso Ancora di più le idee E come? Secondo te? Mi hai detto Che Berengario Aveva avuto un rapporto Con Severino E che per compensarlo Gli aveva dato Un libro Delfinis Afrique Continua Allora Malachia E' andato da Severino Folle di gelosia E tu si ammaledetto Severino Maledetto Mi hai rubato Berengario Il mio Berengario Ma cosa diavolo Stai dicendo Malachia? Sei impazzito Non ti accorgi Che stai fermeticando? Non mentire Ma figura di se io Ma si? E il libro allora E' quello Devi toccarlo Dammelo Attento No, no Non devi toccarlo E' pericoloso Cosa ti inventi adesso? Non avrei mai creduto Che tu potessi Ma posalo Non sfogliarlo Tu non volevi Che Malachia morisse Lui non aveva probabilmente Mai guardato I libri delfinis Afrique Si fidava di te Ubbidiva i tuoi divieti Sì Lui si limitava a predisporre Le erbe in biblioteca Per spaventare Gli eventuali curiosi Era Severino A fornirgliele Vero? Vero E' per questo che Severino Li ha aperto Era la sua visita giornaliera Per prelevare le erbe fresche Che lui preparava Per ordine della bate Ho indovinato? Hai indovinato? Non volevo che Malachia morisse Gli dicesti di riportare qui Il libro senza aprirlo? Sì E per assicurarmi che Ubbidisse Gli raccontai Che aveva il potere Di mille scorpioni Ma Per la prima volta Il dissennato Vole agire di sua iniziativa Ed ha pagato con la vita Non lo volevo morto Era un esecutore fedele Ma non ripetermi cosa sai Lo so che sai Non voglio nutrire il tuo orgoglio Ci pensi già da te stesso Spesso i libri Parlano di altri libri Spesso un libro innocuo E' come un seme Che fiorirà in un libro pericoloso O all'inverso E' il frutto dolce Di una radice amara Non di rado I libri parlano di libri Ovvero E come Se si parlassero tra loro Stamane mi hai sentito interrogare Bencio Sulla cena a Cipriani Eri già vicinissimo alla verità Non so come tu abbia scoperto Il segreto dallo specchio Ma poi Quando ho saputo dall'abate Che tu gli avevi accennato Al finisafriche Ero sicuro che entro breve Ci saresti giunto Per questo ti aspettavo E ora Cosa vuoi Voglio vedere Il libro Sì L'ultimo manoscritto Del volume relegato Che raccoglie un testo arabo Uno siriano E un'interpretazione Della cena a Cipriani Io Che tu hai trovato Quando eri l'aiuto Di Paolo da Rimini E hai ottenuto Che ti mandassero in Spagna Nel tuo paese A raccogliere I più bei manoscritti Delle apocalisse Di Leone e Castiglia Un bottino Che mi ha reso famoso E stimato Qui in all'abbazia Un libro Ma soltanto lo custodisce E quindi Io tutto Vieni qui Davanti a me Credo ci sia uno sgabello Dalla tua parte del tavolo Siedi Ecco il tuo premio Leggi Sfoglia Gielmo Hai vinto Il nome della rosa Di Umberto Eco Trentaduesima puntata Adattamento radiofonico Di Piero Soria Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Pino Micol Giancarlo Zanetti Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Riccardo Reim Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it Il nome della rosa Il nome della rosa di Umberto Eco di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Jorge tenta di avvelenare Guglielmo invitandolo a sfogliare il secondo libro della poetica Ma grazie ad un paio di quanti Trentatresima puntata Su Procedi Sfoglia Il primo è un manoscritto arabo Di che cosa si tratta? Sciocche leggende degli infedeli Dove si ritiene che gli stolti abbiano motti erduti Che entusiasmano i loro califfi È bellissimo Ci sei anche tu ragazzo Bene, bene Farò vedere il libro anche a te Il secondo è un manoscritto siriaco Che traduce un livello egiziano di alchimia Come mai si troverà accorto qui? È un'opera egiziana del terzo secolo della nostra era Attribuisce la creazione del mondo al riso divino Appena Dio rise nacquero sette dei che governarono il mondo Appena scoppiò a ridere Apparve la luce Alla seconda risata apparve l'acqua E al settimo giorno che egli rideva Apparve l'anima Follie Lascia stare Orche È il libro in greco che mi interessa Sfoglia, sfoglia Oh, ecco qua Guardazzo Macchie pallide sul margine E la consistenza Queste pagine sono di materia diversa È più molla Polloi, men, pluteusi, cacoi, agatoi De, men, pluteusi Primo libro abbiamo trattato della tragedia E di come essa, suscitando pietà e paura Produca la purificazione di tali sentimenti Come avevamo promesso Trattiamo ora della commedia Non che della satira e del mimo E di come, suscitando il piacere del ridicolo Essa pervenga la purificazione di tale passione L'auto Su, leggi, sfoglia È tuo Te lo sei meritato Allora non è vero Che mi ritieni così acuto Orche Tu non lo vedi ma Ho i guanti I guanti Con le dita così impacciate Non riesco a distaccare un foglio dall'altro Dovrei procedere a mani nude Inumidirmi le dita sulla lingua E poi dovrei continuare a sfogliare Sino a che il veleno mi sia passato in bocca In misura sufficiente Quale veleno, maestro? Quello che tempo fa, Orche Ha sottratto al laboratorio di Severino Quel furto misterioso Ti ricordi, vero Orche? Ha sottratto tempo fa Già allora eri preoccupato Perché avevi udito qualcuno nello scriptorium Manifestare delle curiosità O sul finisafriche O sul libro perduto di Aristotele Ti ha conservato quella ampolla Fino a quando avesse avvertito un pericolo Spiegaglielo tu, Orche Spiegagli come hai deciso di usare il veleno Appena hai capito che Venanzio era arrivato troppo vicino Al tema di questo libro E che per Rengario, per Banagloria Per impressionare Adelmo Si sia rivelato meno segreto Di quello che sperava Eh sì Venanzio penetra qui Sottrae il libro Lo sfoglia con ansia Si sente male Corre in cucina a cercare aiuto E lì E lì muore Sbaglio, Orche? No Il resto è semplice Rengario trova il corpo di Venanzio in cucina Teme che ne nasca un'indagine Perché in fondo Venanzio era di notte nell'edificio Come conseguenza di quella sua prima rivelazione ad Adelmo E allora si carica il cadavere sulle spalle E lo butta nell'orcio di sangue Sperando che tutti si convincano che ha negato Bravo, pazzo E tu come sai che avvenne così? Ho visto come hai reagito Quando è stato trovato un panno sporco di sangue Nella cella di Rengario Col panno quello sconsiderato si era pulito le mani Dopo che aveva messo Venanzio nel sangue Rengario non poteva che essere scomparso col libro Che ormai aveva incuriosito anche lui E il venerabile Orche Si attendeva che lo ritrovassero da qualche parte non insanguinato Pensi avvenenato E con questo? Il resto è chiaro Severino ritrova il libro Perché Rengario era andato da prima nell'ospedale per leggerlo A riparo da occhi indiscreti Malachia uccide Severino Distigato da te Orche E muore quando torna qui Per sapere cosa ci fosse di tanto proibito Nell'oggetto che l'aveva fatto diventare assassino Ecco che abbiamo una spiegazione per tutti quei cadavari Che stupido Chi? Io A causa di una frase di Alinardo mi ero convinto che la serie dei delitti Seguisse il ritmo dalle sette trombe dell'Apocalisse Grandine per Adelio Ed era un suicidio Sangue per Venanzio L'acqua per i pelengati La terza parte del cielo per Severino Gli scorpioni per Malachia Malachia Ma perché venerabile Orgue Avete detto a Malachia che il libro aveva la forza di mille scorpioni A causa di Guglielmo Alinardo mi aveva comunicato che lui l'aveva trovata un'idea molto molto persuasiva Allora mi sono convinto che un piano divino regolava queste morti di cui io non ero responsabile E annunciai a Malachia che se fosse stato curioso sarebbe perito secondo lo stesso piano divino Come infatti E' avvenuto E così allora E io seguendo lo schema apocalittico Stasera mi attendevo lo squillo della sesta tromba E proprio alle stalle per puro caso Azzo mi ha fornito la chiave per entrare nel Finisafrica Io non ho ucciso nessuno Ciascuno è caduto seguendo il suo destino a causa dei suoi peccati Io sono stato solo uno strumento Anche Giuda fu uno strumento L'hai detto tu ieri nella tua predica Ciò non toglie che Giuda sia stato dannato Accetto il rischio della dannazione Il Signore mi assolverà perché sa che ho agito per la sua gloria Il mio dovere era proteggere la biblioteca Ancora pochi momenti fa eri pronto a uccidere anche me E anche questo ragazzo Sei più sottile ma non migliore degli altri E ora che accadrà Ora che ho sventato l'insidia Lo vedremo Non voglio necessariamente la tua morte La tua morte potrebbe essere rimandata Forse riuscirò a convincerti Ma dimmi prima Come hai indovinato che si trattava del secondo libro di Aristotele Non certo i tuoi anatemi contro il riso Sono stato aiutato da alcuni appunti lasciati da Venanzio Quali? Non capivo a tutta prima cosa volessero dire Ma c'erano alcuni riferimenti ad una pietra svergognata Che rotola per la pianura Alle cicale che canteranno da sottoterra e veneranno i figli Sono esempi che Aristotele già aveva fatto nel primo libro della poetica e nella retorica E Guglielmo ricordava Disidoro di Siviglia Che definiva la commedia come qualcosa che racconta Stupra virginum et amores meretricum Pian piano mi si è disegnato nella mente Questo secondo libro come poteva essere Te lo potrei raccontare quasi tutto Senza leggere le pagine che dovrebbero infettarmi La commedia nasce nei villaggi dei contadini Come celebrazione giocosa dopo un pasto o una festa Non racconta degli uomini famosi e potenti Ma di essi rivili e ridicoli Non malvagi E non termina mai con la morte dei protagonisti Raggiunge l'effetto di ridicolo Mostrando degli uomini comuni I difetti e i vizi E Aristotele vede la disposizione al riso come una forza buona Che può anche avere un valore conoscitivo quando Attraverso enigmi erbuti e metafore inattese Di fatto ci obbliga a guardare meglio le cose La verità raggiunta attraverso la rappresentazione degli uomini E del mondo Peggiori di quello che sono e di quello che li crediamo Peggiori in ogni caso dunque di come i poemi eroici Le tragedie, le vite dei santi ce li hanno mostrate E così? Abbastanza L'hai ricostruito leggendo altri libri? Su molti dei quali stava lavorando Fenanzio Credo che fosse da tempo alla ricerca di questo libro Quando ho udito Berengario parlarne ad Adelmo Allora si è lanciato come il cane sulla pista di una lepre E' stato così Me ne resi conto subito Capii che avrei dovuto difendere la biblioteca con i denti E allora? Ma è passato l'unguento sulle pagine Non deve essere stato facile per un cieco Ormai, Guglielmo, vedono più le mie mani dei tuoi occhi A Severino avevo sottratto anche un pennello E ho usato anch'io i guanti E' stata una bella idea, vero? Sì, la vittima si avvelenava da sola E proprio nella misura in cui voleva leggere Ma dimmi, Orge, perché? Perché hai voluto proteggere questo libro più di tanti altri? Tu non hai ucciso per i trattati di negromanzia che pure nascondevi Nelle pagine in cui si bestegnava Dio Perché? Se sei arrivato a me, la risposta ce l'hai Ci sono tanti altri libri che parlano della commedia Tanti altri ancora che contengono l'elogio del riso Perché questo ti incuteva tanto spavento? Perché per queste pagine hai dannato i tuoi fratelli E hai dannato te stesso Perché? 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 Perché era del filosofo Ma non capisci Ogni libro di quell'uomo ha distrutto una parte della sapienza Che la cristianità ha accumulato lungo i secoli Cosa dici? Guarda la Genesi Il libro dice quello che bisogna sapere sulla composizione del cosmo E bastato che si riscoprissero i libri fisici del filosofo Aristotele Non osi nemmeno pronunciare il suo nome Perché l'universo fosse ripensato in termini di materia sorda e viscida E perché quell'arabo Averro è Quasi convincesse tutti dell'eternità del mondo Ogni parola del filosofo su cui ormai giurano anche i santi I pontefici Ha capovolto l'immagine del mondo Ma una cosa non è ancora riuscito a capovolgere Quale? L'immagine di Dio, sì L'immagine di Dio, Guglielmo Se questo libro diventasse Se fosse diventato Materia aperta di interpretazione Avremmo valentato l'ultimo limite Ma cosa ti ha spaventato in questo discorso sul riso? Non elimini il riso Eliminando questo libro No Certo Il riso è la debolezza La corruzione L'insipidità Della nostra carne Il nome della rosa Di Umberto Eco Trentatreesima puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Pino Miccol Bruno Alessandro Carlo Cartier Paolo Lorimer Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Paolo Serra Bruno Viola Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it 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 Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Jorge spiega come il secondo libro della poetica di Aristotele fosse stato dettato dal diavolo Per tentare di demolire la parola di Dio fin dalle sue fondamenta Trentaquattresima puntata Ricorda Il riso è la debolezza La corruzione Il venerabile Jorge si è manchiato di tutti quegli orrendi delitti a causa del riso Il riso è stata la molla che ha scatenato tanto sangue E così cazzo Te lo ripeto Jorge Non è certo eliminando il libro di Aristotele Che riuscirai ad eliminare il riso No, di certo lo so bene Ma anche la chiesa nella sua saggezza ha concesso il momento della festa, del carnevale, della fiera Sì ragazzo, sì Perché attraverso questa via si scaricano gli umori E gli uomini e le donne sono trattenuti da altri desideri e da altre ambizioni E allora perché nascondere il libro di Aristotele? Perché per il filosofo il riso non rimane soltanto cosa vile e difesa per i semplici Mistero dissacrato per la plebe Lo diceva anche l'apostolo Piuttosto di bruciare Sì Sposatevi Ah sì Piuttosto di ribellarvi all'ordine voluto da Dio Sì Ridete e dilettatevi delle vostre monde parodie dell'ordine Alla fine del pasto Dopo aver votato le brocche e il fiasco Ah sì Ah sì E leggete il re degli stolti Sì E leggete il re degli stolti Perdetevi nella liturgia dell'asino e del maiale Ah sì Asino e maiale Giocate Per rappresentare i vostri saturnali A testa in giù A testa in giù Guglielmo Ogni parola del filosofo ha capovolto l'immagine del mondo Tu hai visto ieri come i semplici possano concepire e mettere in atto le più torbide eresie Disconoscendo le leggi di Dio e quelle della natura Parli di Remigio il Cellario E di Salvatore Intendo la incolta disennatezza dei dolcini e dei suoi pari Brucia la meretrice Sì Prima le re Essa non porrà mai in crisi l'ordine divino Nel senso che chi predica violenza muore di violenza? Sì E non lascerà traccia Si consumerà come si consume il carnevale Prendi le tue cenaglie Prendi Strappa E non importa se durante la festa si sarà prodotta in terra E per breve tempo l'epifania del mondo alla rovescia Basta che il gesto non si trasformi in disegno Che questo volgare non provi un latino che lo traduca Allora tu sostieni che questo libro è sapienza Perché potrebbe insegnare a liberarsi dalla paura del diavolo Guarda il vilano Quando ride mentre il vino gli gorgoglia in gola Lui si sente padrone perché ha capovolto i rapporti di signoria Ma questo libro potrebbe insegnare ai dotti Gli artifici con cui legittimare il capovolgimento Tu sostieni che quello che nel gesto del villano è ancora operazione del ventre Si trasformerebbe in operazione dell'intelletto E' proprio così Da questo libro quante menti corrotte come la tua Si come la tua Trarrebbero l'ennesimo silogismo per cui il riso è il fine dell'uomo Tu vaneggi Io sei tu a non capire che anche se il riso distoglie per alcuni istanti il villano dalla paura E' attraverso la paura che si impone la legge E sai qual è il vero nome della paura? Aspetto di udirlo da te Il timor di Dio Da questo libro invece potrebbe partire la scintilla luciferina Che appiccherebbe al mondo intero un nuovo incendio Davvero maestro? Il riso si disegnerebbe come l'arte nuova L'arte che annulla la paura Anche la paura della morte che invece impone la liturgia Insomma da questo libro tu affermi che potrebbe nascere La nuova e distruttiva aspirazione a distruggere la morte Attraverso l'affrancamento dalla paura Stoltezze! Ah si? E allora dimmi che cosa saremmo noi creature peccatrici senza la paura Che è forse il più provvido ed affettuoso dei doni di Nini Su dimmelo! E il libro di Aristotele capovolgerebbe tutto secondo te Questo libro giustificando come miracolosa medicina la commedia La commedia e il mimo e la satira In quanto capaci di produrre la purificazione delle passioni Attraverso la rappresentazione del difetto Del vizio e della debolezza Ebbene questo libro indurrebbe i falsi sapienti a tentare di redimere l'alto Attraverso l'accettazione del basso La tua è un'ossessione perversa Da questo libro deriverebbe l'idea che l'uomo può volere sulla terra l'abbondanza stessa del paese di Cuccagna Cuccagna così come suggeriva il tuo bacone a proposito della magia naturale Sei in errore Io sei tu che non vedi le conseguenze Il giorno che la parola del filosofo giustificasse i giochi dell'immaginazione sgretolata Allora ciò che stava a margine balzerebbe nel centro E del centro si perderebbe ogni traccia Assurdità Vedresti i servi dettare legge E noi, ma anche tu allora, ubbidire alla vacanza di ogni legge Ma la prudenza dei nostri padri ha fatto la sua scelta Se il riso è il diletto della plebe La licenza della plebe venga intimorita con la severità Orche, basta, arriva alla conclusione Il giorno in cui qualcuno agitando le parole del filosofo Adoperasse l'arte del riso per stravolgere Tutte le immagini più sante e venerabili Anche tu e tutta la tua saviezza ne sareste travolti E perché? Mi batterei La mia arguzia contro l'arguzia altrui Ah, Muglielmo Sarebbe un mondo migliore Di quello in cui il fuoco e il ferro rovente di Bernardo Bui Umigliano il fuoco e il ferro rovente di Dolcino Saresti preso tu stesso nella trama del demonio No, non succederà Hai la mente confusa Non è così Ah no? Vedi, a noi non fa paura la bestemmia Perché anche nella maledizione di Dio Riconosciamo l'ira di Geova Che maledice gli angeli ribelli Ma vi fa paura la violenza di chi uccide i pastori In nome di qualche fantasia di rinnovamento No, neppure Perché è la stessa violenza dei principi Che cercarono di distruggere il popolo di Israele Non ti fanno paura la lussuria del pogomilo L'orgogliosa purezza dell'alpicese Il bisogno di sangue del flagellante No, no e poi no Li conosciamo tutti E conosciamo la radice dei loro peccati Che è la radice stessa della nostra santità In verità non li temete perché sapete come eliminarli Certo Quelli sappiamo come distruggerli La loro bestemmia incoraggia il nostro canto di lode La loro impietà fa risplendere la nostra pietà In pratica li consideri necessari Come necessario fu il principe delle tenebre A far meglio rifulgere la gloria di Dio Principio e fine di ogni speranza Ma se un giorno Non più come accezione plebea Ma come ascesi del dotto Qualcuno potesse dire ed essere ascoltato Io rido dell'incarnazione Io rido dell'incarnazione Io rido dell'incarnazione Io rido dell'incarnazione Allora non avremmo armi Per arrestare quella bestemmia Succeda quel che succeda Dio giudicherà Adesso basta Orche Tu sei il diavolo Io? Sì tu Ti hanno mentito sai Il diavolo non è il principe della materia Il diavolo è l'arroganza dello spirito La fede senza sorriso La verità che non viene mai presa dal dubbio Arrogante sei tu Tu sei il diavolo E come il diavolo vivi nelle tenebre Imputente Se volevi convincermi Non ci sei riuscito Io ti odio Orche E se potessi ti porterei giù Per il pianoro nudo Con penne di volatile Infilate nel buco del culo Ecco dove conduce il riso Eccone la prova Ti dipingerei la faccia Come un giocogliere O d'un buffone Perché tutto il monastero Ridesse di te E non avesse più paura Sì la prova Mi piacerebbe cospargerti di miele E poi avvoltolarti nelle piume E poi portarti al guinzaglio nelle fiere Per dire a tutti costui Vi diceva che la verità Ha il sapore della morte I due prigionieri sono l'ameno Sapete chi sono capitano? L'uomo si chiama Salvatore E la donna Tu sei il peggio del diavolo Vivo Rita Sei un giullare Qual è il santo che vi ha partoriti Sei come il tuo Francesco Che teneva sermoni dando spettacoli Come i saltimbanchi Che si gettava nudo sulla neve Che parlava con gli animali e le erbe Portali qui Mio Dio Una donna E che trasformava lo stesso mistero della natività In un spettacolo da villaggio Davvero Una buona scuola Davvero Ti diverti eh? Forse ti diverte anche la storia Di quell'altro minorita come te Frate Paolo Billemosche Oh sì Quello che cadde disteso sul chiaccio Oioi che botta Ti fa male eh padre? Capita quando uno non sa star dritto È solo per un po' di cielo per terra Oioi su Datemi una mano per rialzarmi No no Stai bene Dove sei? A meno che tu preferisca qualcosa di meglio sotto di te Sì Tu amore Ecco come cercavate la verità Così Francesco insegnava alla gente a guardare le cose da un'altra parte Ma vi abbiamo disciplinati Li hai visti ieri i tuoi confratelli? Sono rientrati nelle nostre file Non parlano più come i semplici Già I semplici non debbono parlare Questo libro giustificherebbe l'idea che la lingua dei semplici sia portatrice di qualche saggezza Questo occorreva impedire E questo tu hai fatto? Tu dici che io sono il diavolo Non è vero Io sono solo stato la mano di Dio La mano di Dio crea Non nasconde Ci sono dei confini al di là dei quali non è concesso andare Dio ha voluto che su certe carte fosse scritto Ixunt Leones Dio ha creato anche i mostri Anche te E di tutto Di tutto Dio Vuole che si parli Il nome della rosa Di Umberto Eco Trentaquattresima puntata Adattamento radiofonico di Piero Soria Con Lino Capolicchio Max Malatesta Pino Miccol Paolo Lorimer Pier Giorgio Fasolo Elia Schilton Paolo Serra Bruno Viola Musiche originali di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Pons De Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Post elettronica sceneggiato chiocciolarai.it Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico In 35 puntate Di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove avviene il furioso incendio che divora i tesori della biblioteca e a causa della troppa virtù prevalgono le forze dell'inferno Trentacinquesima e ultima puntata Sì Orge Dio ha creato anche te un mostro eppure di tutto vuole che si parli E allora dimmi perché ha lasciato che questo testo andasse perduto lungo il corso dei secoli e se ne salvasse una sola copia e che la copia di quella copia finita chissà dove rimanesse seppellita per anni nelle mani di un infedele che non conosceva il greco Oh di certo tu avrai una spiegazione a tutto ciò Certo neghi l'evidenza Non tu Io fui chiamato dalla Divina Providenza a ritrovarla in una vecchia biblioteca Io fui scelto non tu per portarla con me e nasconderla per altri anni ancora Tu sei pazzo No Io so ed è come se lo vedessi scritto a lettere di diamante con i miei occhi che vedono cose che tu non vedi Tu sai cosa Io so che questa era la volontà del Signore interpretando la quale io ho agito nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Beh tutto questo comunque non è servito a nulla Non credo proprio È finita Ti ho trovato Ho trovato il libro e gli altri sono morti in vano Non in vano forse in troppi e se mai ti fosse servita una prova che questo libro è maledetto ora l'hai avuta e affinché non siano morti in vano un'altra morte non sarà di troppo cosa fai? Maestro fermatemi in fretta sta masticando le pagine del libro fermati non ti avvicinare sei tu che attendevi il suono dalla settima tromba non è vero ascolta cosa dice la voce sigilla quello che hanno detto i sette tuoni prendilo e divoralo fermiamolo maestro facciamo qualcosa esso amareggerà il tuo ventre ma la tua bocca sarà dolce come il miele ferma ferma ora sigillo ciò che non doveva essere letto della tomba ma che divento non te l'attendevi Guglielmo questa conclusione vero? no no questo vecchio per grazia del signore vince ancora afferrateli lebre vi supplico lo sta divorando lo succranno mi sei pigliato la destra non ti vedo ma ti sento Guglielmo fermati ti dico non ci riuscirai mai a prendere attento maestro il lume troppo tardi eh lo spegni lo spegni con la mano avanti trovatevi perché ora sono io che mi ceneo perché a me io non cambia niente va di là a destra afferratelo maestro troppo tardi è già di là nell'altra stanza maledizione lo specchio lo specchio sta chiudendosi dentro corri forza sta per bloccare il meccanismo ci sono ci sono forse qui Guglielmo non si vede niente è lo specchio sei sicuro credo di sì l'ho bloccato andatemi una mano dammi la direzione qui qui si è lo specchio resiste alla mia pressione Arge sta spingendo vuole seppellirci qua eccomi su su insieme spingi finalmente salve siamo salvi ma dov'è finito non lo sento muovere Arge Arge fermati è tutto inutile ormai ti amo maestro come l'acciarino come ho fatto a scordarmi e allora cosa aspetti sì sì cerca cerca il lume e accendilo volete che torni nel finisave sì muoviti io resto qui e tenere aperto lo specchio presto sì era qua svelto sennò quello si mangia tutto l'Aristotele e muore ma non mi importa se muore il maledetto tanto con quello che ha mangiato il suo destino è già segnato ma io voglio il libro ci sono ci sono eccomi ho un po' di luce corri dov'è dov'è ferma se facciamo così non lo troveremo mai zitti e fermi un istante a sinistra lo senti non più forse si è fermato starà cercando di capire dove siamo e allora facciamoglielo sapere ti abbiamo preso vecchio ora abbiamo la luce dolce come il mio è caduto l'avete spaventato è caduto sì sì eccolo là oddio guardate la bocca fiera di pergamena dolce come il miele dolce come il miele bloccalo no lasciate il legno lasciate il legno mezzo pezzo lasciatelo dolce come il miele no attento maestro l'ha strappato il lume lo sta gettando su quella catasta di libri oh mio dio non c'è più nulla da fare oh mio dio non c'è più nulla da fare ore che no non fatelo no vi supplico ha gettato l'aristotele nell'aroco dolce spegni quel fuoco presto qui brucia tutto ve lo farò con il mio sacco faccio ancora le fiamme mi si stanno attaccando il dosso la mia meste non ce l'abbiamo fatta quanto rimaneva di aristotele è poco più che cenere sigilla quello che hanno detto senti il maledetto è caduto via 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 fermati bencio guglielmo viene di risuolo dice che è finita mazzo la biblioteca la biblioteca cavalli cavalli i cavalli ci stanno venendo addosso abbatteteli abbatteteli con le guerrieri incendiate stanno portando il fuoco dappertutto ma quello è Brunello il cavallo dell'avate attento al ritardo attento oddio lo travolgerà al ritardo fermati questi azzurr fermati che pacifico rischia di farsi massacrare l'avate acqualturo pazzo maestro ho ricercato tanto state bene è la più grande biblioteca della cristianità l'anticristo è veramente vicino perché nessuna sapienza li farà più da barriera d'altra parte ne abbiamo visto un volto questa notte un volto di chi? orche in quel viso devastato dall'odio per la filosofia ho visto per la prima volta il ritratto dell'anticristo non resterà niente su questo colpo niente niente l'anticristo può nascere dalla stessa pietà dallo stesso timore di sbio temi i profeti e coloro che sono disposti a morire per la verità perché di solito fanno morire moltissimi con loro Borgo odiava il secondo libro di Aristotele perché insegnava a deformare il volto di ogni verità sì perché non diventassimo schiavi dei nostri fantasmi forse il compito di chi ama gli uomini e di far ridere della verità però c'è una verità quella che avete scoperto stasera voi avete vinto Orge perché avete messo a nudo la sua trama non vera una trama e io l'ho scoperta per sbaglio ma era vero che le orme sulla neve rinviavano a Brunello era vero che Adelmo si era suicidato era vero che Venanzio non era negato nell'orgio non ho mai dubitato della verità dei segni sono la sola cosa di cui l'uomo dispone per orientarsi nel mondo ma voi non potete rimproverarvi nulla avete fatto del vostro meglio e il meglio degli uomini è poco è difficile accettare l'idea che non vi può essere un ordine nell'universo perché offenderebbe la libera volontà di Dio c'è troppa confusione qui non in commozione non in commozione dominus l'abbazia arse per tre giorni e per tre notti la pazia arse per tre giorni e per tre notti quando ormai supernurla si appidero che nessun edificio poteva essere salvato quando delle costruzioni quando delle costruzioni più belle trocarono i muri esterni e la chiesa quasi appoggiandosi su di sé ingoiò la sua torre mancò a ciascuno la volontà di combattere contro il castigo divino contro il castigo divino addio giovane azzo maestro no non lasciatemi come farò senza i vostri consigli intanto ti regalerò queste lenti e voi io ho ritrovato le mie non ricordi adesso sei ancora giovane ma un giorno potrebbero tornarti utili e così ti ricorderai sempre di me addio dopo il nostro doloroso comiato non vedi più il mio maestro seppi molto più tardi che era morto durante la grande pestilenza che infierì per l'Europa verso la metà di questo secolo prego sempre che Dio abbia accolto la sua anima e gli abbia perdonato molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere spesso spesso i libri parlano di altri libri spesso un libro innocuo è come un seme che fiorirà in un libro pericoloso o all'inverso è il frutto dolce di una radice amara non di rado i libri parlano di libri ovvero e come se si parlassero tra loro tale è la forza del vero che come il bene è diffusivo di sé il nome della rosa di Umberto Eco 35esima e ultima puntata adattamento radiofonico di Piero Soria con Lino Capolicchio Max Malatesta Pino Miccol Bruno Alessandro Carlo Cartier Ugo Margio Fabio Poggiali Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Paolo Serra musiche originali di Nicola Campogrande realizzazione del suono Alfredo Guerrieri consulente musicale Marco Pons De Leon a cura di Ida Sansone regia di Giuseppe Venetucci posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it un lato di ida che c'è e spettacolo che c'è che c'è 갔a Il nome della rosa di Umberto Eco Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria Regia di Giuseppe Venetucci Dove Guglielmo apprende dall'abate che può indagare dappertutto tranne che nella biblioteca Seconda puntata Siete stanco, alzo No, no, no Fratello Bencio, andiamo qua Vagia, ditemi allora, chi è stato assassinato? Ma come siete riusciti a capire tutto immediatamente, Guglielmo? Che dolcezza per i miei poveri occhi francescani Vedervi sobbalzare dalla sorpresa Ebbene sì, c'è un assassino Nella pazzia Venite, abzi Dopo tanto di scettare di diavolo, di inquisitori, di prudenza e di santità Vi sento pronunciare una parola impia Sì, proprio un assassino Ma ora riposatevi e rifucilatevi Ne parleremo a tempo debito, Guglielmo Con calma Abate Abate Sì, sì, vengo Vengo Va bene, ma adesso non lasciatemi solo Non vi preoccupate Sarò io a venirvi a cercare tra poco Venite Eh, frate Guglielmo Osservate la maestosità della nostra abazia Venite con noi Azzo Venite anche voi Guarda Guarda chi qui viene Quello ha un fai Sì, con son veste Ma per riusci a venire dalla nostra abate Molle di perdere il tempo tuo E' morito E poi sto ferro sull'incudire E battito Finché ancora un po' di Di fuoco dentro Non è Ascondi Ci ha solo un servo Non vedi Non è un servo Mi sembra più un noizio Frate Guglielmo Abzo Questo gran viale alberato Conduce alla chiesa A sinistra si scorge Nella lunga piana degli orti E del giardino botanico E là si ergono i balnear L'ospedale E l'erboristeria E l'edificio Con i suoi torioni Che si levano in alto al cielo E in basso Sprofonda Non ne l'ha visto Come mai l'abate Se ne è andato così di corsa Quel cadaverone L'ho agitato molto Chissà che pensa di fare Non ho mai visto Una abbazia più bella E più mirabilmente orientata Di questa Ovunque Io volgo lo sguardo C'è qualcosa di stupefacente Laggiù Laggiù Ci sono il chiostro La casa dell'abate Il dormitorio E a oriente Giù I quartieri colonici Le stalle E poi i mulini I frantoi I granai Le cantine E la casa dei novizi Buon Dio Che splendore Frate Guglielmo L'abate vi sta aspettando Azzo Vorrei rimanere solo col tuo maestro Devo parlargli di cose Poco adatte alle tue giovani orecchie Se lo desiderate Mi allontano subito Azzo Vieni Vieni Perdonatemi Guglielmo Se mi sono permesso di allontanare il vostro Azzo Bravo figliuolo Quell'Azzo Buon allievo Ci si può fidare Non ho motivo di dubitarne Se a dirlo siete voi Preferivo però consultarvi in privato È materia dedicata Un dolorosissimo enigma Gli enigmi rimangono tali Finché ci si gira intorno Forse Non sarebbe tempo di affrontare il problema Senza veli o reticenze È difficile incominciare Vi aiuterò io allora Partiamo dal morto Di chi si tratta? Il suo nome forse vi dirà qualcosa In vita era Adelmo da Otranto Un monaco ancora giovine Ma già famoso come grande maestro miniatore Mi pare di aver udito il suo nome Nel mio girovagare Stava adornando i manoscritti della biblioteca Di immagini bellissime Quando improvvisamente una mattina Benedicato È stato un capraio A trovare il suo corpo in fondo alla scarpata Dominata dal torrione a est dell'edificio E com'era ridotto? Anche io Oh che il signore lo abbia in gloria Dilaniato Dalle molte rocce su cui era rimbalzato E avete capito da dove è accaduto? Difficile dirlo Certamente da una delle finestre che si aprono per tre ordini di piani Sull'abisso Con tutti quei rimbalzi Impossibile stabilire da quale Dove avete seppellito il povero corpo? Nel cimitero naturalmente E allora perché inoridite ne riconoscere ciò che già sapete? Cioè? Che c'è un assassino nella vostra abazia No No, no Non è ancora detto Il povero Adelmo potrebbe essersi suicidato E siete stato proprio voi ad avermelo detto? Io? E come? Se quell'infelice si fosse Dio non voglia suicidato Il giorno dopo avreste trovato una di quelle finestre aperta Ma io non vi ho mai detto nulla di tutto ciò Voi credete? Ne sono sicuro Per prima cosa mai avreste concesso sepoltura ad un suicida E poiché lo avete sotterrato cristianamente Vuol dire che le finestre erano tutte chiuse E se erano chiuse vuol dire che qualcuno deve averlo spinto Io non volevo padre Non volevo Il nostro Adelmo è stato ucciso da qualcuno Che continua ad aggirarsi per l'abazia Mi avevano detto delle vostre virtù Ora capite la mia angoscia Naturalmente Uno dei miei monaci È un assassino Era già terribile se Adelmo si fosse macchiato Dell'abominevole peccato di suicidio Ma così... Perché sospettare proprio di uno dei monaci? Nell'abazia vi sono molte altre persone Staglieri, servitori La mia è un'abazia piccola ma ricca Centocinquanta famiglie e sessanta monaci Ma tutto è avvenuto nell'edificio Basta adesso, andiamo No, non voglio perdere una frase di questa conversazione Nemmeno un abbate ha veduto astuto come abbone può tenergli testa Lo conoscete da molto tempo No, lo sapeste quante cose sto imparando Ho notato che al primo piano ci sono le cucine in refettorio E ai due piani superiori si trovano lo scriptorium e la biblioteca Dopo cena l'edificio viene chiuso Ed è una regola severissima che proibisce a chiunque di accedervi Compresi i monaci Sicuramente Voi sospettate di un monaco e non di un servo Perché? Un servo potrebbe avere paura Un monaco invece non avrebbe alcun timore Pur se la regola venisse infranta È così Soprattutto se all'ultimo piano si ha a disposizione una biblioteca Che ha più libri di ogni altra biblioteca cristiana Ecco che capite Prima parlando del delitto Avete detto Forse è solo quello Mi sono davvero espresso così? Ve l'assicuro Perdonatemi ma non v'è altro che io possa aggiungere In altre parole non v'è altro che voi abbiate il potere di dire Assolvetemi padre se potete Ho commesso gravissima e mostruosa Peccamina Potrò porre domande ai monaci? Sì Potrò aggirarmi liberamente per la pazzia? Sì Mi investirete di questa missione corammonachis? Sì Molto bene Prima che essi sappiano di cosa mi avete incaricato Desidero visitare la vostra biblioteca Di cui si parla con ammirazione In tutte le abbazie della cristianità No Appio libri di ogni altra biblioteca cristiana A petto dei nostri armari A quelli di Poppio O di Pompuda Di Cluny O di Flery Sembrano la stanza di un fanciullo Che appena si inizia l'abaco I 6.000 codici della nuova lesa Sono assai poco in paragone Da noi c'è l'unica luce Che la cristianità possa opporre Alle 36 biblioteche di Bagdad Ai 12.000 volumi del visir Ibn al-Alqami Le nostre bibbie Eguagliano i 2.400 corani Che vanta il Cairo Monasterium sine libris Est sicude civitas sinea opibus E il nostro ordine Crescendo intorno al doppio comandamento Dell'ora et lavora È riserva di sapere È salvezza di una dottrina antica Che minaccia di scomparire Negli incendi e nei saccheggi Di questi tempi molto scuri È fucina di nuova scrittura Questo lo so Quante nostre abbazie Che duecento anni fa Erano centro splendente Di grandezza e santità Sono ora rifugio di intringarvi Purtuttavia il vostro ordine È ancora potente Eh sì Ma il fettore delle città Cinge da presso i nostri luoghi santi Il popolo di Dio È ora incline ai commerci E alle guerre di fazione E non solo si parla Ma già si scrive il vorcare Che mai Mai Nessuno di questi volumi Possa entrare nelle nostre mura Che il loro vomito D'eresia Se ora Dio ha affidato All'ordine nostro Benedettino Una missione Ebbene Questa è di opporsi Ha si fatta corsa Verso l'abisso Conservando Ripetendo E difendendo Il tesoro di saggezza Che i nostri padri Ci hanno affidato Ma questo che cosa c'entra Con il fatto Che non si può visitare La biblioteca Non insistete Desidero solo capire Per poter realizzare L'opera immensa e santa Che arricchisce questa bazia Uomini devoti Hanno lavorato per secoli Seguendo regole di ferro Questo ad onore Di tutti noi Ma la biblioteca È nata secondo un disegno Che è rimasto oscuro A tutti Nei secoli E che nessuno dei monaci È chiamato a conoscere Perché? Solo il bibliotecario Ne ha ricevuto il segreto Dal bibliotecario Che lo ha preceduto E lo comunica Ancora in vita All'aiuto bibliotecario Di modo che la morte Non lo sorprenda Privando la comunità Di quel sapere Due soli uomini E due sole Lambra suggellate E solo il bibliotecario Ha il diritto Di muoversi Nel labirinto Dei libri Egli solo Sa dove trovarli E dove riporli E gli altri monaci È soltanto concesso Di lavorare Nello scriptorium Tutto qui A loro è dato Di conoscere L'elenco dei volumi Che la biblioteca Rinserra Ma abate Un elenco di titoli Dice poco Nulla Soltanto il bibliotecario Sa Dalla collocazione Del volume Dal grado Della sua inaccessibilità Quale tipo di segreti Di verità Di menzogne Il volume custodisca Solo lui Può decidere come E quando fornirlo Al monaco Che ne fa richiesta Dal ora Dopo essersi consultato Con me Non tutte le verità Sono per tutte le orecchie E non tutte le menzogne Possono essere riconosciute Come tali Da un animo bio Ci sono dunque In biblioteca Anche libri Che contengono menzogne I mostri esistono Perché fanno parte Del disegno divino E proprio in essi Si rivela La potenza Del creatore Ma questa Poi Così esistono anche I libri dei maghi Le capare dei giudei Le favole per poeti pagani Le menzogne Degli infedeli Così tranne due persone Nessuno entra mai All'ultimo piano Dell'edificio Un uomo che ha descritto Il mio cavallo Brunella Senza vederlo E la morte di Adelmo Senza saperne nulla Non avrà difficoltà A ragionare Su luoghi A cui non ha accesso Siete saggio Anche quando siete severo Se mai fossi saggio Lo sarei Perché so essere severo Un'ultima cosa E ubertino Vi attende Lo troverete in chiesa Mio dio Che cosa succede? Nulla guglielmo Nulla In questa stagione Si stanno uccidendo i maiali Un lavoro per porcai Non è certo di questo sangue E dovrete occuparvi Il nome della rosa Di Umberto Eco Adattamento radiofonico Adattamento radiofonico di Piero Soria Seconda puntata Con Lino Capolicchio Andrea Giordana Max Malatesta Pier Giorgio Fasolo Elia Shilton Carlo Cartier Bruno Viola Musiche originali Di Nicola Campogrande Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri Consulente musicale Marco Ponce de Leon A cura di Ida Sansone Regia di Giuseppe Venetucci Posta elettronica Sceneggiato Chiocciolarai.it gesù Petra Regia di Ida Sansone Che Che Giorgio Ida Sansone Grazie a tutti